Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti, 20 divi, 20 film, di Giovanna Gallardo. Da stasera parleremo di cinema, di film, di divi che hanno fatto grande un film o viceversa di film che hanno reso celebre, mitico, un divo o una diva. Nel nostro criterio di scelta c'è prima di tutto ovviamente una questione di gusto personale, di preferenze magari anche solo generazionali. Diciamo però che abbiamo usato un metodo per scartare più che per scegliere. Abbiamo per esempio scartato quei grandi attori che non possono, non devono essere raccontati in un solo film o non possono e non devono essere sintetizzati in una sola opera. Abbiamo scartato quei film che magari sono dei capolavori ma non hanno contribuito a far splendere una stella, a scoprirla, a farla nascere, a rendercela emblematica di un'epoca o di un carattere. Quindi divi, miti, grandi film, ma anche piccoli film che abbiano però contribuito a segnare un'epoca, a creare un personaggio, a diventare, come usa dire, dagli anni cinquanta in poi, e lo vedremo perché, dei cult movies. Per cominciare, durante questa prima settimana che passeremo insieme, dalle otto alle otto e mezzo della sera, parleremo di cinque film, di cinque film a loro modo immortali. Cinque film che per una ragione o per l'altra hanno segnato intere generazioni di spettatori, di fans, di appassionati del genere. Soprattutto film che hanno creato, e per questo sono dei film immortali, dei veri e propri prototipi cinematografici. Naturalmente è il film per eccellenza, il film dei film, il film che ha avuto più spettatori in tutta la storia del cinema, eccetera, 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 che cos'è se non quel via col vento uscito negli Stati Uniti nel 1939 alla vigilia del secondo conflitto mondiale, e che dall'ora in poi non smetterà mai di piacere e di incassare. Gone with the wind è il titolo originale del romanzo di Margaret Mitchell. Costo? Tre milioni e mezzo di dollari dell'epoca, una cifra considerevole anche per la seconda metà degli anni trenta, e un produttore, David Oliver Selznick, che a buon titolo si può definire il vero creatore del fenomeno via col vento. Se via col vento ha un padre, questi è decisamente il suo produttore. È lui che compra i diritti del libro della Mitchell, è lui che ordina, paga e cestina una quindicina di stesure della sceneggiatura, è lui che licenzia e manda a casa sceneggiatori dai nomi immortali, come Scott Fitzgerald, come Ben Hecht, è lui personalmente che riscrive e corregge le ultime stesure della sceneggiatura, che mette mano ai dialoghi fino a due minuti prima delle riprese. È ovviamente sempre lui che a poche settimane dall'inizio del film caccia via un regista come George Cougar e assume Victor Fleming, l'unico regista peraltro che firmerà il film, anche se non sarà nemmeno lui a terminarlo, perché a poche settimane dalla fine delle riprese Fleming si ammala e Selznick non ha remore a cacciarlo brutalmente e a sostituirlo con Sam Wood. Insomma, un produttore tiranno, perfezionista e ossessivo, che credeva nel suo progetto, che per due anni ha cercato in lungo e in largo la faccia giusta per il ruolo di Scarlett Tohara, Rossella, come la chiamiamo noi nella versione italiana, fregandosene sia delle leggi del mercato che dello star system. Scarlett, secondo Selznick, doveva essere esattamente come la vedeva lui, come la immaginava lui, una di quelle donne orgogliose e speciali che per eccesso di carattere le sbagliano tutte, ma non demordono mai, non si arrendono mai, vale a dire una ordinaria, straordinaria testona del profondo sudamericano. Reduce dagli Stati Uniti, Mario Soldati, nel suo libro America Prima Amore, scrive testualmente Chi è l'uomo più bello del mondo? Claire Gable. Chi trasforma le donne forti in donne deboli? Claire Gable. Chi insegna agli uomini come vestire, parlare, camminare e conquistare le donne? Claire Gable. Claire Gable, grazie al personaggio di Via col vento, Red Butler, ma non solo, alla fine degli anni trenta è il vero tombeur de femme dell'iconografia hollywoodiana. Lo sfacciato, insolente Butler, che ad una rossella insolitamente remissiva che invoca «se ve ne andate che ne sarà di me», lui risponde con la frase mitica «francamente me ne infischio». Ebbene, questo Claire Gable non è però la vera rivelazione di Via col vento. Intanto perché nel 38-39 ha già girato tanti film, tra cui peraltro accadde una notte, è già una star, sta per sposarsi con Carol Lombard, è l'uomo e il divo più invidiato di tutta Hollywood. E poi perché in qualche modo Via col vento non è Red Butler, ma è lei, è Rossella. Quella Rossella, che abbiamo detto prima, il produttore David O. Selznick, cerca dappertutto, fino a quando non si imbatte in lei, in quella semi-sconosciuta Vivian Lee. Lei, Vivian Lee, è nata in India nel 1913. In realtà si chiama Vivian Mary Hartley. Alla fine della prima guerra mondiale si trasferisce in Inghilterra con la famiglia. A vent'anni è già sposata con il dottor Herbert Lee e molto presto, nonostante il matrimonio, scopre la passione per le scene, recita piccoli ruole a teatro, fa piccole cose al cinema. Sul set di un film su Elisabetta I incontra Laurence Olivier e scoppia la passione. Anche lui è già sposato e, dati i tempi, la loro storia rimane per il momento clandestina. Poi arriva al 1938, quando Laurence Olivier viene chiamato ad Hollywood per girare la versione americana di Cime Tempestose. E lei, qualche settimana dopo, si imbarca per gli Stati Uniti con l'intenzione di raggiungerlo e tenere la loro storia lontana dai pettegolezzi londinesi. Quanto al resto, lo fa il destino. Si dice che lei e Laurence Olivier vadano a cena una sera con Marion Selznick, la sorella del produttore di Via Colvento, e pare proprio la sera in cui, in uno studio dell'MGM, si stava girando la famosa, famosissima scena dell'incendio di Atlanta. Pare pure che due o tre giorni dopo quella cena, Marion Selznick sia andata dal fratello e gli abbia detto «ho trovato la Scarlett che stai cercando». Secondo quanto scrivono i giornali dell'epoca, dopo due anni di ricerche, lui, Selznick, stava rinunciando a trovare una sconosciuta. E dopo aver scartato dive famose come Beth Davis, che avrebbe fatto carte false per fare quel ruolo, dopo aver scartato Norma Shearer, dopo aver scartato addirittura Katrin Heiburn, stava crollando e si dice avesse già pronto il contratto con Paulette Goddard. Quando, nella sua vita, irrompe questa venticinquenne inglese con un accento orribilmente british e tutt'altro che americano del profondo sud, però con dei modi spicci, con una maniera di fare che seducono completamente Davido Selznick. Pare addirittura che quella sera, nella casa di Selznick, ad un signore che definiva le donne piena di charme, lei abbia risposto con prontezza, lo charme femminile è al 50% un'illusione. Quattro giorni dopo la chiama, le fa un provino e le affida il ruolo di Scarlett. Eccola, sarà per sempre lei, Rossella, la proprietaria della tenuta di Tara, che vive convinta di essere innamorata di Ashley, Leslie Howard, il quale invece sposa la dolce Melania, Olivia de Havilland, e lei si consola con l'avventuriero Rhett Butler. Sposa due uomini che non ama, rimane vedova due volte, intanto la guerra dissolve ricchezze e fattorie, amori veri e amori presunti. E il destino di Rossella è indissolubilmente legato al destino del profondo sud, sconfitto dalla guerra civile. Una storia a sé la merita il produttore di questo film, Davido Selznick. L'ostinazione con la quale ha voluto via col vento e i registi e gli sceneggiatori che ha licenziato fanno di lui una specie di esempio massimo di ciò che è, di ciò che era il produttore, il tycoon americano nella Hollywood tra le due guerre. Selznick era figlio di un regista di film muti, Lewis J. Selznick. Negli anni venti aveva cominciato a lavorare come lettore di soggetti alla MGM, la Metro Goldwyn Mayer. Poi, dopo una breve esperienza come assistente al montaggio presso la Paramount, si era trasferito alla Rank. Qui comincia la sua vera e propria carriera di producer. Film come Le notti di Chinatown, L'uomo che amo, portano la firma di lui come produttore associato. Nell'aprile del 30 sposa Irene Mayer, figlia di Lewis B. Mayer, il socio di Goldwyn e patron della Metro Goldwyn Mayer. Qualche anno dopo, infatti, torna a lavorare con il suo suocero per la MGM. Suoi, suoi di produzione, voglio dire, sono film importanti come Viva Villa, Davide Copperfield, Anna Karenina, Il prigioniero di Zenda. Finalmente nel 36 si mette in proprio e come produttore firma veramente i più grandi successi di quegli anni. È nata una stella, intermezzo, Rebecca, la prima moglie. Prenderà anche delle grandi cantonate. Per esempio rifiuterà a John Ford il soggetto di Ombre Rosse, ne parleremo domani sera, vedrete. Era, se volete, Selznick, il produttore del suo tempo. L'uomo che si è fatto da sé, che cresce nel mondo del cinema facendo un po' tutti i mestieri, che è ambizioso, intuitivo, capace di fiutare l'aria del tempo, abilissimo nel combinare gli ingredienti necessari ad un film, ma anche un uomo temperamentoso, caratteriale, capace di mandare a gambe all'aria un affare solo perché chi lo sta trattando gli è antipatico, o gli fa uno sgarbo, o arriva in ritardo a un appuntamento. Erano quelli degli imprenditori che sapevano calcolare, ma erano anche gli uomini che si lasciavano possedere dalle passioni. La passione di un progetto, la passione per una donna, la passione per un film, era questa gente che ha creato un'industria senza nemmeno accorgersene, semplicemente lavorando e divertendosi a lavorare. Dopo lo strepitoso successo di Via col vento, Selznick sarà il produttore di Io ti salverò, il caso Paradin, duello al sole, il terzo uomo, stazione Termini, Addio alle armi e chi più ne ha più ne metta. Jennifer Jones sarà la sua seconda moglie. L'aveva sposata nel 1949, subito dopo il divorzio con Irene Meyer. E se andiamo a vedere, Stazione Termini, duello al sole, Addio alle armi, sono tutti film che hanno la Jones come protagonista. Anche in questo senso i tycoon di Hollywood erano tipici. Non avevano paura delle critiche di nessuno. Amavano e sposavano le attrici che amavano e combinavano film per le mogli dive che avevano amato e sposato. Come dire che la vita e il cinema erano per loro la stessa cosa. E in quell'America di allora era veramente così. Era il cinema, impresa personale ed entertainment, sogno e realtà. Perché la gente a distanza di più di 60 anni continua a vedere Via col vento, a parlarne, a citare i dialoghi, a disquisire sugli errori della sceneggiatura, sulle sue frasi famose? Perché, dicono in molti, è l'eterda storia di quattro destini sullo sfondo della guerra. Non è una storia di guerra, ma una storia d'amore, anzi di amori e di incomprensioni amorose, nello scenario di una guerra devastante. Ma questa spiegazione non basta. Ci sono tanti film che sono storie d'amore ambientate in una guerra. Basti pensare per esempio al Dottor Givago, film spettacolare che forse più di ogni altro nella storia del cinema all'ambizione produttiva soprattutto di accostarsi a Via col vento. Anche dietro a Givago c'è un libro, un libro sicuramente più importante e più grande di quello di Margaret Mitchell. C'è addirittura un caso letterario. C'è un grande produttore, produttore italiano, il nostro Carlo Ponti. C'è un personaggio femminile meraviglioso, quello di Lara, interpretato anche qui da una grande attrice come Julie Christie. Anche lei inglese e, guarda caso, anche lei è un inglese nata in India, come Vivian Lee. C'è, se vogliamo continuare con le analogie, un tema musicale ancora più noto di quello di Via col vento e, diciamo francamente, forse anche più bello. Però Via col vento piace e appassiona ancora oggi, non tanto perché è il più bello dei colossal del suo genere, ma perché è stato il primo e perché l'epoca in cui è stato concepito e girato lo rende assolutamente unico nel suo genere. Siamo alla fine degli anni trenta, siamo agli inizi del colore, nel pieno sviluppo del sonoro. Eccetto forse per nascita di Una nazione, di Griffith, non si era mai visto prima un film così spettacolare e così sontuoso. Un colossal che aveva, e questo è davvero interessante, l'ambizione di essere semplicemente un film psicologico e intimista. E, per paradosso, ci riesce pure. È pieno di errori. Lei nella prima scena indossa un vestito bianco e poche scene dopo, in un dialogo, fa riferimento al vestito rosso che indossava nella prima scena. È un film naif e grandioso al tempo stesso. È onnipotente e ingenuo. È un po' come l'infanzia. Tutti noi abbiamo avuto un'infanzia. E Via col vento è decisamente la nostra indimenticabile infanzia cinematografica. Il primo capezzolo del nostro latte in pellicola. Domani è un altro giorno. E domani non dimenticate di sintonizzarvi alle otto della sera su Radio 2. Parleremo ancora di film immortali. Grazie e buona serata. Ieri sera abbiamo parlato di Via col vento e del suo grande produttore, David Selznick. Ebbene, in quello stesso anno, il 1939, il grande tycoon di Hollywood, l'uomo che sta creando il miracolo di Via col vento, il produttore per eccellenza, rifiuta a John Ford il progetto di un film western con la motivazione che la gente non ne può più di vedere dei western e rispedisce al mittente il copione di Ombre Rosse. Titolo originale di Ombre Rosse è Stage Coach, vale a dire La Diligenza. Nel 1939, come ho detto, John Ford non è né un ragazzino né uno sconosciuto. E' nato il primo febbraio del 1894, a più di 40 anni, ha già girato una cinquantina di film, molti di quali grandissimi successi western, tra cui per esempio Il barbiere di Napoleone, Uragano, per non parlare di quel vero e proprio capolavoro western del muto che è The Iron Horse, Il cavallo d'acciaio, un colossal del 1924 che racconta la costruzione della ferrovia tra assalti di indiani, calamità naturali, avversità del destino eccetera eccetera. Dunque dicevo nel 1939 Ford sa benissimo che le major hollywoodiane pensano che il cinema western sia un genere in declino, finito, che non esiste più. Lui però invece si è innamorato di questa storia. Personalmente ha comprato i diritti del racconto di Ernest Haycox per 2500 dollari, racconto peraltro che si ispira a una famosa novella di Montpassant che si chiama Bull de Swift, lo fa leggere a tutti i produttori che conosce e tutti, compreso Selznick, gli rispondono con determinazione non vogliamo fare un film western e lui a tutti risponde è una storia con dei personaggi formidabili, che importanza ha se si svolge ad est piuttosto che ad ovest. Ma l'west, secondo i tycoon di quel momento, non tira più. E sarà infatti un produttore minore, un produttore che si chiama Walter Wanger, a mettere in cantiere il più grande, spettacolare prototipo di tutti i film western mai girati prima di quel momento, appunto Ombre Rosse. Questo Wanger era un producer della United Artists, un produttore esecutivo come si dice oggi. Secondo un vecchio contratto che Ford aveva con la United Artists, mai portato a termine, doveva finanziare ancora un film a basso costo, low budget, come si diceva allora, per John Ford. E una mattina questo Wanger chiama Ford e gli dice so che fai leggere a tutti in giro una storia, questa storia come si chiama? Si chiama La Diligenza. È un western? Eh sì, purtroppo è un western, non lo vuole nessuno. Questo Wanger chiede di leggere il soggetto, un paio di settimane dopo si fa vivo per dire effettivamente questa storia non è niente male, la vedrei molto bene, fatta con Gary Cooper e Marlene Dietrich. E Ford nel suo senso del realismo dice io non credo che tu ti possa permettere due simili star con quelle simili paghe che chiedono. Questo è un genere di film che si può fare assolutamente con due lire. E con chi lo faresti? Gli chiede il produttore. La risposta di Ford in effetti è rimasta nella leggenda, perché pare che gli abbia detto c'è un tipo che conosco che ha fatto un po' la comparsa in qualche mio film, è stato anche un mio macchinista, si chiama Michael Morrison, ma ora che ha cominciato a lavorare nei western un po' di serie Z si fa chiamare John Wayne. E a questo dice ma sarebbe all'altezza del personaggio di Ringo Kid? Ho penso proprio di sì e comunque sappi che lo puoi avere con due lire. Wanger accetta, dice a Ford di pensare anche al ruolo della prostituta, Dallas si chiama il personaggio della prostituta che nel film sarà poi la bravissima Claire Trevor. Gli annuncia che sta partendo per New York e che al suo ritorno fra una quindicina di giorni vuole leggere la sceneggiatura. Nascerà proprio così, un po' per caso, un po' per l'ostinazione di Ford, il più celebre dei western in assoluto. L'autentico capolavoro in perfetto equilibrio tra trama, ambientazione, sceneggiatura, soprattutto interpretazione. Da questo momento in poi John Wayne e John Ford saranno il volto e la mente di quella cultura cinematografica di frontiera che trova in ombre rosse la sua vera e propria grammatica fondante. La diligenza in viaggio, la variegata umanità che la abita, l'assalto degli indiani, la fanfara della cavalleria, le distese immense di Monument Valley sono molto di più che degli ingredienti. Sono, come ha scritto Tullio Kesic, vera e propria letteratura dell'Ottocento esposta al sole e al vento delle grandi praterie. Per molto tempo gli europei hanno pensato di abitare in un mondo senza ovest, senza west appunto. Mentre c'era una cultura asiatica da conquistare, un sud libico e africano facilmente redimibile e sussidiario, mentre c'era un nord prima conquistato dai grandi imperi ormai predominante e redento, ad ovest, secondo un'antica credenza, non c'era che il mare, il fiume oceano, come pensavano appunto gli antichi. Persino il nostro Cristoforo Colombo era convinto che navigando ad ovest sarebbe arrivato fin nelle Indie e invece, come ben sappiamo, sbarcò in America. Quell'America del sole calante, quella terra sconosciuta oltre il grande mare che i padri fondatori, i puritani che sbarcarono a bordo del Mayflower sulle coste orientali, si apprestavano appunto a conquistare. Sono loro gli americani che faranno l'America, perché, come ha scritto uno storico, è costruendo il paese che gli americani avrebbero definito loro stessi e definito la loro identità. Un americano doveva vivere su una perenne frontiera. L'azione e la conquista del territorio erano il suo obiettivo. L'astuzia e la sicurezza costituivano la sua forza. La capacità di muoversi, di costruire macchine, di spostarsi sempre più velocemente, gli garantivano la certezza della vittoria. Un americano definiva se stesso in base a coloro che americani non erano, vale a dire indiani, negri, latini, mediterranei, eccetera, eccetera, e che lui, lui l'americano, nel nome del progresso di cui era detentore, riusciva a circoscrivere e a sottopettere. Per questa ragione l'archetipo della storia western è un po', se vogliamo, anche l'archetipo di tutta la storia americana. È quella storia che narra dell'incontro in una terra selvaggia di un uomo bianco con un essere a lui radicalmente estraneo, un uomo rosso. E questo incontro condurrà quasi sempre all'annientamento dell'uomo rosso. Perché? Perché questo è estanziale, rituale, fermo, mentre l'uomo bianco rappresenta la mobilità, le macchine, la velocità, il progresso. Il treno vapore, appunto, quel iron horse, quel cavallo d'acciaio, che attraversando tutto l'ovest sposterà la frontiera sempre più in là, scivolando sempre più a ovest. È questa la cultura della frontiera, la cultura della rudezza e dell'ottimismo. E John Ford incarna perfettamente questa cultura e questa tradizione. Per di più ha un formidabile talento che riesce a raccontarla come nessun altro. È nato in America, ma è di origine irlandese. Ha il culto dell'azione, del codice virile, ama e rispetta gli indiani, ma pensa che il novecento sia il secolo della tecnica e delle macchine. È, se volete, il kipling del cinema americano. E infatti non a caso, quando negli anni cinquanta, all'epoca del baccartismo, quando John Ford sarà chiamato davanti all'associazione dei registi che indaga sulle attività anti-americane e filocomuniste del cinema, lui si siede davanti a Cécile De Mille e si presenta così. Mi chiamo John Ford, faccio western. Il mondo del cinema rimase stupito, non capiva perché l'autore di Furoore, di tanti altri film importanti, si autodefinisse un regista di western. Ma non c'era nulla di autosminuente in questa definizione, perché per John Ford tutti i film sono dei western e la stessa cultura americana in sé è una cultura del western. Quella cultura che è così magnificamente rappresentata nei personaggi della diligenza. Un giocatore professionista, la moglie di un ufficiale incinta, lo sceriffo, un medico alcolizzato, un banchiere disonesto, ma soprattutto una prostituta, Dallas, che è sicuramente migliore di tutte le signore borghesi e benpensanti che l'hanno cacciata dalla città. E poi lui, il fuorilegge, Ringo Kidd, il viaggio a scopo di vendetta che riuscirà a conquistare la clemenza dello sceriffo e l'amore della prostituta. Quella cultura che è visualizzata nella grande pianura dove gli indiani con mancio si attaccheranno alla diligenza e arriverà al settimo cavalleria a fanfare spiegate, strappando l'applauso in sala, è questa, è la melica di arrivano i nostri, quella che John Ford ama e che ci induce ad amare. Penso di poter dire che la vera star dei miei western è il paesaggio, ebbe a dire in un'intervista a John Ford. E in effetti, in ombre rosse, per la prima volta si vede una location dal vero, che è Monument Valley, non sarà mai visto prima. Monument Valley sono 3.000 acri di terra a 1.700 metri di altezza su un altipiano rossiccio a cavallo tra lo Utah e l'Arizona. All'epoca cuore pulsante della riserva dei Navaco. Ford ci arrivò per la prima volta nell'ottobre del 1938, grazie a un signore molto simpatico, un ostinatissimo allevatore di bestiame, tale Harry Goulding, il quale nella Monument Valley viveva sin dal 1925. Aveva fatto affari con i Navaco, poi però a causa della depressione seguita dal crollo della borsa del 29, gli affari avevano cominciato a girare per il verso sbagliato. E pare che un giorno questo Goulding ascolta alla radio un comunicato di Hollywood in cui si dice che si cercano dei posti veri per girare dei film, soprattutto dei film western. Allora questo Goulding, fotografie e documentazioni alla mano, parte con la moglie, si mette in viaggio e raggiunge Hollywood. E quando John Ford vede le foto di Monument Valley, capisce al volo che cosa può significare questo posto per ombre rosse per il suo film. E senza aspettare l'autorizzazione del produttore, infila 5 dollari nella tasca di questo signor Goulding e gli conferisce l'incarico di organizzatore del set. Tre giorni dopo, 11 camion e 150 membri della troupe furono accolti all'imbocco della valle da altrettanti Navaco in alta uniforme. Era l'inizio della lavorazione di ombre rosse in ambiente dal vero e con i Navaco nei ruoli di attori e di comparse. Al prezzo, peraltro niente economico, di 5 dollari al giorno, per di più in monete d'argento e non in carta. I pacifici estanziali Navaco si trasformarono, per esigenze di copione e ben pagati, anche in feroci apache, che cavalcano, attaccano, muoiono. La diligenza che nel copione percorre le 170 miglia di deserto da Tonto a Lorsburg passa e ripassa davanti allo stesso punto di Monument Valley più e più volte, in maniera peraltro molto molto disinvolta. Però bisogna considerare che era la prima volta che si vedeva e non uno studio. Dunque, anche se era ripetitivo, era una grande novità. Ma comunque Monument Valley sarà per John Ford il suo abituale luogo western. Ci tornerà nel 1946 e girerà a sfida infernale. Ci tornerà nel 1948 per il massacro del Fort Capache. Ci tornerà per sentieri selvaggi nel 1956. E in quell'anno, il 1956, John Ford fu consacrato membro onorario della nazione Navaco. Lui amava gli indiani, anche se li considerava perdenti. E quando i critici, che lo pensavano un reazionario, gli chiesero sugli indiani, degli indiani lui aveva detto una cosa molto poetica. Sono una macchia rossa sul nostro scudo. Non abbiamo ancora parlato della vera e propria sorpresa del film, vale a dire di John Wayne. Era nato a Winterset, nello Iowa, il 26 maggio del 1907. Aveva fatto l'attrezzista alla Fox, lo stuntman per John Ford, che lo amava e lo stimava. Tanto è vero che l'aveva consigliato a Raoul Walsh in un famoso western, The Big Trail, Il Grande Sentiero. Anche se il film fu un vero e proprio fiasco, quel Marion Michael Morrison, vale a dire John Wayne, perché questo era il suo vero nome, continuò a fare western minori per quasi dieci anni, fino a quando non arriva il momento magico di Ombre Rosse, che gli cambierà completamente la vita. Lui nel film ovviamente è Ringo Kid, il cowboy fuori legge. È lungo, dinoccolato, burbero, solitario, è tremendo con i cattivi, è generoso con i deboli e con i derelitti. Corteggia Dallas, la prostituta, quasi sempre appoggiato alla palizzata nella luce dell'imbrunire. Sul tetto della diligenza spara l'impazzata contro gli indiani fino a quando non arriva la cavalleria. È Ringo Kid, è l'America della frontiera che conquista palmo dopo palmo il West selvaggio. Per capire la forza del mito di John Wayne e il perdurare di quest'icona, tanto radicata nella fantasia popolare americana e non solo americana, basti pensare che proprio di recente, dopo l'assalto alle due torri gemelle di New York, pochi giorni dopo, l'11 di settembre, sul Wall Street Journal è apparso un articolo intitolato Nostalgia del Duca, Nostalgia di John Wayne, nel quale, mentre si invocava il ritorno dell'uomo ruvido, coraggioso, protettivo, si pubblicava anche la lettera di una tale Peggy, indirezzata appunto a The Duke, il Duca, vale a dire John Wayne, che scriveva letteralmente così, ve ne leggo un pezzo. Mi mancavi, John, scrive Peggy. Mi mancavano la tua forza, i tuoi silenzi, la tua camicia sudata. Ora sei tornato. L'11 settembre ti ho visto salire le scale, caricare una donna sulle spalle, venire giù, metterla in salvo e cominciare a spalare macerie. Ti ho visto partire per l'Afghanistan con la tua camminata ondeggiante. Ti ho sentito dire, a denti stretti, Osama, figlio di puttana, ora sei proprio nei casini, ragazzo. Bin Laden, quindi, come gli apache di ombre rosse, che si permettono di mettere a rischio la vita dei viaggiatori del nuovo mondo. John Wayne e John Ford erano veramente destinati ad incontrarsi. L'uno aveva il fisico, la faccia, la psicologia dei sentimenti che l'altro sapeva raccontare più di chiunque altro. Non si può pensare ad un western senza pensare a Ford. Non si può pensare a Ford senza vedere la faccia di John Wayne. In un'intervista degli anni 50, Howard Hawks, il regista di Fiume Rosso, raccontava sempre, tutti pensano che John Ford abbia diretto il Fiume Rosso, primo perché è un western e secondo perché c'è John Wayne. E la gente, incontrando Ford, gli diceva sempre, mi è molto piaciuto il Fiume Rosso. E John Ford, che era una carogna, ringraziava e non smentiva. Del resto perché avrebbe dovuto? Era lui il padre spirituale, il genitore di tutti i western che sarebbero venuti dopo ombre rosse. Appunto, mi chiamo John Ford, faccio western. Quando al giovanissimo Orson Welles, appena sbarcato a Hollywood, chiesero quali sono i registi americano che preferisce? Lui rispose, John Ford, John Ford, John Ford. Il mio stile, diceva sempre Welles, non ha nulla a che vedere con il suo, ma Ombre Rosse è il mio film abecedario. L'avrò visto più di 40 volte e ogni volta ho imparato qualcosa di nuovo. Domani sera parleremo di lui, di Orson Welles e del suo film clamoroso. È del 41, due anni dopo Ombre Rosse, ma è una storia completamente diversa che vi racconteremo domani sera. A domani dunque, alle 8 della sera, su Radio 2. Non mancate e buona serata a tutti. Stasera parliamo di Orson Welles e di Citizen Kane. Quarto potere è il suo bel titolo italiano. Vale a dire, dopo il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, ce n'è un quarto, che è e sarà quello dei media. Citizen Kane è un film fenomeno. Fenomeno perché è stato realizzato, scritto, interpretato e girato da un Orson Welles 25enne. Perché è uscito nel maggio del 1941 al Palace Theatre di New York in anteprima mondiale, ha lasciato il pubblico totalmente indifferente ed è stato un disastro economico quasi totale. E perché invece, secondo i critici di tutto il mondo, è uno dei più importanti film della storia del cinema. Per capire il fenomeno Citizen Kane, le polemiche suscitate durante la lavorazione a causa delle molte, troppe allusioni al potente editore Hearst, agli scandali e ai tentativi da parte di Hearst di mandare il film al macero prima ancora della sua uscita, per capire tutto questo, più l'autentica eccezionalità di quest'opera, bisogna conoscere un po' più da vicino Orson Wells, accostarsi a quella sua specie di ingorda megalomania, alla sua eccentricità, alla sua genialità precoce e adolescenziale. Dunque George Orson Welles nasce nel Wisconsin il 6 maggio del 1915. I suoi genitori muoiono giovanissimi, sua madre ha 43 anni, quando lui ne ha appena nove, e suo padre ha 58, quando lui non è nemmeno quindicenne. Ha un tutore, ma comincia a fare da sé molto molto presto. A 16 anni, con 500 dollari in tasca, parte per Dublino, dove si spaccia per attore di teatro e viene scritturato dal Gate Theatre. Torna negli Stati Uniti in pieni anni 30, in pieno New Deal. Broadway in quegli anni è in fermento. Nascono proprio in quegli anni lì le prime commedie sociali, il cosiddetto teatro realista, il teatro marxista. C'è un teatro, il Federal Theatre, finanziato direttamente dal governo rusveltiano. È un teatro diviso in varie unità, dove operano attori e compagnie in diversi quartieri e su differenti tematiche. Wells, insieme al regista John Houseman, aderisce al negro Federal Theatre. Mettono in scena un Macbeth assolutamente scandaloso, recitato solo da neri e trasportato nell'azione ad Haiti con le streghe in versione voodoo, eccetera, eccetera. Immaginate che a quell'epoca Wells aveva 21-22 anni e il suo talento di provocatore era appena all'inizio. Allestisce una pièce sul politicume corrotto dell'America che si intitolava The Cradle Will Rock, la culla dondolerà. E il governo vieta al Federal Theatre di rappresentarla. Gli attori arrivano per la prima e trovano le porte sbarrate e sprangate. Wells non vede l'ora di reagire e improvvisa per strada alcune scene davanti al pubblico in abito da sera. E mentre il Federal Theatre muore alla grande tra scandali e rappresentazioni rubate, Wells e Houseman danno vita a quello che diventerà famoso, il Mercury Theatre. Aprono l'11 novembre del 1937 con un Giulio Cesare in chiave contemporanea che farà epoca, regia naturalmente Orson Welles. Nessuna scenografia, puro stile teatro sperimentale tipo anni Sessanta. Ma qui bisogna pensare che siamo ancora a metà degli anni trenta e bisogna capire lo shock di tutta quell'innovazione. Wells si è ritagliato il ruolo di brutto, un brutto tutto liberal, contro un Cesare quanto mai prossimo agli atteggiamenti mussoliniani. Grande successo di pubblico che però non basta a coprire i costi dell'opera e di quella regia assolutamente megalomana. Un fan prodige, se volete un fan terrible di Broadway, ma contemporaneamente notissimo intrattenitore radiofonico. Una volta a settimana sceneggia e dirige un classico della letteratura. Il colpo grosso viene dalla Guerra dei Mondi, libero adattamento dal romanzo dello scrittore inglese suo omonimo H. G. Wells. Va in onda il 30 settembre del 1938 e getta letteralmente gli Stati Uniti nel panico. Perché la radiocronaca dello sbarco dei marziani nel New Jersey è così realistica, così verosimile, così convincente, che la gente non la prende per un racconto di fantascienza, ma per pura realtà. E in preda al panico la gente esce di casa, si abbandona a scene di terrore, intasa le strade con le automobili cercando di mettersi in salvo e fuggendo dalle città. Wells si diverte ancora di più e manda in onda una finta intervista con il Presidente degli Stati Uniti. Piovono querele, nascono inimicizie, odi, invidie, ma quel che è certo è che Orson Wells, a 23 anni, si appresta a fare il suo ingresso trionfale nella mitica Hollywood. Ci arriva con un contratto strepitoso, firmato con la RENC nell'agosto del 1939, che è veramente un contratto unico negli annali di Hollywood. Gli viene concesso il pieno diritto di scegliere i propri collaboratori senza dover sottostare all'approvazione del committente. Gli viene garantita la produzione di un film l'anno, nel quale lui potrà essere a suo insindacabile giudizio produttore, regista, sceneggiatore, interprete, oppure tutte queste cose insieme. Gli viene riservato il 20% dei proventi lordi di ogni film, su cui avrebbe comunque ricevuto 50.000 dollari in anticipo. Non gli manca l'audacia, come abbiamo visto, e il suo primo progetto è veramente ambizioso. Vuole fare Cuore di tenebra di Conrad al cinema. Ma nonostante la strepitosa libertà contrattuale di cui gode, la sceneggiatura di Cuore di tenebra viene ritenuta troppo sperimentale per i canoni hollywoodiani. E si arriva così a Citizen Kane. Chi è il cittadino Charles Foster Kane? Charles Foster Kane è, è stato, un grande magnate della carta stampata, possiede vari emittenti radiofoniche, ha rasentato molti scandali, ha provato con il successo a darsi alla politica, ha finanziato la carriera artistica della donna che ama, costringendola in qualche maniera a diventare una soprano. In breve è, era, un uomo di immenso potere, capace di comprare e di corrompere, capace soprattutto di usare il suo giornale The Inquire a creare scandali, a mettere in difficoltà gli amici, a distruggere i nemici. Tutto ciò però noi lo sapremo poco alla volta, perché il film comincia con la morte in solitudine del magnate, nella monumentale residenza di Xanadu, e lui, lui, il magnate, prima di esalare l'ultimo respiro, sospira quasi incomprensibilmente una parola, Rose Budd, bocciolo di rosa. Il giornalista Thompson, convinto che le ultime parole di un uomo possono essere in grado di spiegare i misteri di tutta una vita, conduce un'inchiesta sul cittadino Charles Foster Kane. Incontrerà la seconda moglie, il suo braccio destro, il suo migliore amico, il suo maggiordomo. E il film, o perlomeno l'idea del film, è tutto qui. Le diverse facce di Kane ricostruite, ridisegnate, nella soggettività dei ricordi personali di quattro figure che hanno vissuto accanto a lui. Molte verità, molte congetture, molto rancore, molto affetto, ma nessuno che sappia rivelare il mistero di Rose Budd. Soltanto nel finale del film scopriremo il mistero di questa parola. Quando, nella residenza fastosa di Xanadu, ormai residenza però in disarmo, con i mobili, le statue, i suoi barocchi addobbi tutti affastellati, il maggiordomo ordinerà di gettare nel cammino acceso le cianfrusaglie. Vedremo, cosa vedremo? Vedremo la vecchia slitta di Foster Bambino, la slitta della sua breve infanzia felice passata accanto alla madre, e tra le fiamme che la inghiottono per sempre potremo leggere con chiarezza il nome della slitta, Rose Budd, bocciolo di rosa. Ma non appena l'astuto Wells ci ha suggerito l'interpretazione e la soluzione, ecco che fugge via con la macchina da presa inquadrando l'esterno della villa, dove vediamo il cammino che fuma come una ciminiera, quindi si allontana ancora di più fino ad inquadrare tutto il muro di cinta con il cielo sbarrato, sul quale giganteggia un cartello, vietato l'accesso. Come dire? Non cercate di entrare, di penetrare nei misteri di una vita, non cercate di dare una spiegazione alla complessità di una vita, alla complessità di un uomo. Ma non è soltanto per questo gioco continuo sulle interpretazioni e sulle reinterpretazioni che Citizen Kane è un film veramente immortale. Intanto perché dal punto di vista contenutistico anticipa di molti anni il tema scottante dell'importanza dei media, della loro capacità di manipolazione, del loro ruolo nella formazione dell'opinione pubblica. Ma anche e soprattutto perché il film è un vero capolavoro di ingegneria registica, per come è costruita la sceneggiatura, per l'uso spregiudicato e disinvolto dei flashback, che all'epoca erano una grande novità, ma ancora di più e soprattutto per la tecnica usata durante le riprese. Wells voleva riuscire visivamente ad eguagliare la messa a fuoco dell'occhio umano. Abitualmente, voi sapete che al cinema noi vediamo a fuoco ciò che sta in primo piano, è sfocato quello che è dietro, tecnicamente si dice in campo lungo. Ebbene, con la collaborazione di un grande operatore che si chiamava Greg Tolland, Wells ha inventato degli obiettivi grandangolari, molto molto diaframmati, riuscendo con questi e grazie a questi a creare un effetto che da allora e ancora oggi si chiama l'effetto panfocus, cioè un grande fuoco. Mettendo molto bassa la macchina da presa, loro riuscivano a fare delle inquadrature in totale dove tutto l'ambiente e tutti i personaggi che si muovevano all'interno dell'ambiente erano contemporaneamente a fuoco, sia che fossero davanti alla macchina da presa, sia che fossero dietro in campo, come si dice, medio o lungo. E non è solo una questione di tecnica, ma è anche una questione di contenuti sposati alla tecnica. Infatti, per capire la modernità, l'approccio strutturale alla costruzione dei personaggi, la diabolica abilità di costruire un'opera che è al tempo stesso un melò, un dramma psicologico, un film di denuncia, ma anche un film sperimentale, ma anche una sfida a Hollywood e una sfida economica fatta con i mezzi economici di Hollywood. Per capire tutto questo ci vuole tempo. Non a caso, Citizen Kane diventerà film mito negli anni Sessanta e non prima. La domanda è, Orson Welles è il regista, l'artista, l'uomo di un solo film? E la risposta è sì e no contemporaneamente. Sì, perché nessun film che farà dopo segnerà la sua carriera in maniera così definitiva, così pregnante, così forte. No, certamente no, perché Orson Welles ha fatto altri grandissimi film ed è stato un eccellente attore. E poi perché tutta la sua vita è stata segnata, contrassegnata da questo suo talento dell'eccesso, eccesso di peso, eccesso di carattere, eccesso di amori burrascosi, come per esempio quello con Rita Hayward, che sarà sua moglie per pochi anni e sarà tra l'altro la protagonista di un altro film disastro, sempre prodotto dalla Rank, molto bello e andato malissimo, La signora di Shanghai. Per non parlare della nostra Lea Padovani, fidanzata litigiosa, che viene scritturata come Desdemona e poi licenziata e sostituita da Suzanne Cloutier nel monumentale Otello, prodotto prima dalla scalera firme e poi da tanti altri in una vicenda produttiva che si è trascinata per anni e anni. Insomma, Welles è l'uomo dell'eccesso di tutto, anche dell'eccesso di talento, perché persino come attore, anche di piccoli ruoli, Welles era indimenticabile, era personale, era unico. Basti pensare alla sua apparizione nel Terzo Uomo, per esempio, il film di Carol Reed, dove interpreta il personaggio di Harry Lyme, un vero e proprio farabutto che vende penicillina scaduta al mercato nero nella Vienna devastata del dopoguerra. Eppure questo piccolo ruolo che lui dice di aver fatto per soldi perché aveva bisogno di guadagnare, l'ha reso popolare anche agli occhi di chi non era al corrente della sua genialità d'autore. Si dice, lo dicono i molti, anche molti l'hanno scritto, che una famosa diabolica battuta pronunciata da Harry Lyme nel film sia stata scritta personalmente da Orson Welles. È la scena in cui Joseph Cotton lo accusa di essere una specie di belva umana, uno sfruttatore di malati terminali. E lui, Harry Lyme, alias Orson Welles, filosofiggiando, risponde più o meno così. E dice, in Italia per trent'anni sotto i Borgia ci furono guerre, terrori, assassini, sangue. E tutto ciò produsse Michelangelo, Leonardo da Vinci, il Rinascimento. In Svizzera c'è sempre stato amore fraterno, quattrocento anni di pace, di democrazia. E che cosa ha prodotto tutto ciò? Gli orologi a cucù. Questo è stato Orson Welles. Un immenso, debordante talento che ha cercato di coniugare le sue strepitose aspirazioni con le regole del denaro, del mercato e dell'industria. E ne è rimasto stritolato, ma non senza lasciarci in eredità qualche perla rara e soprattutto un'idea di fare il cinema. Il cinema, diceva Welles, appartiene al nostro tempo. Nulla nel nostro tempo può essere paragonato al cinema. È la cosa da fare e basta. Era il cittadino Orson Welles, morto per un attacco di cuore il 10 ottobre del 1985, cremato in una remota fattoria della Spagna, a tre ore di Pullman da Siviglia, dove, sono parole sue, forse vive ancora Don Quixote. Per questa sera io vi saluto e vi do appuntamento a domani alle 8 della sera su Radio 2. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Presto o tardi tutti finiranno al Rix Café. È il gestore del Rix American Café di Casablanca a pronunciare questa frase. Ma Rick Blaine, alias Humphrey Bogart, di battute rimaste leggendarie nel suo altrettanto leggendario film Casablanca, ne dirà parecchie. E non solo lui. Anche Ilse, alias Ingrid Bergman, ne azzecca parecchie. A cominciare dalla mitica Play it again, Sam. Suonala ancora, Sam. Una cosa è certa. Anche chi ricorda confusamente la trama del film, anche chi ha memorie imprecise di quell'andare e venire di ufficiali francesi e tedeschi, ricorda perfettamente alcune battute famose di questo film. Forse persino chi non l'ha mai visto, non credo che ci sia molta gente al mondo, ma comunque anche chi non ha mai visto il film sa che a un certo punto lui alza il bicchiere dicendo alla tua salute bambina e che durante un impetuoso e irresistibile abbraccio le chiede retoricamente. Sono i cannoni o è il nostro cuore che batte? Lei peraltro non è da meno. Lei, Ilse, socchiude i suoi magnifici occhi e cosa sospira? Baciami come se fosse l'ultima volta. Ed esce dalla sua vita senza presentarsi nemmeno all'appuntamento, dove un treno li sta aspettando per portarli via lontano da Parigi, a Casablanca appunto. Invece a Casablanca nel 1941 Rick Blaine ci arriverà da solo, aprirà il suo caffè, trafficherà più o meno clandestinamente per ottenere lascia passare ai cittadini che hanno bisogno di andarsene e con quella faccia piena di malinconia e di mistero dirà qualche bella battuta, più o meno caustica. Per esempio ad un ufficiale che gli domanda cosa succederebbe se in un domani anche New York fosse invasa dai tedeschi. E lui con espressione impassibile gli fa, beh ci sono alcuni quartieri in cui sarebbe più prudente non andarci. Ma un bel giorno, proprio come nei film leggenda dove le situazioni sono più importanti della trama, al Rix Café di Casablanca fa il suo inaspettato ingresso Victor Laszlo, eroe della resistenza e super ricercato dai tedeschi. Ma questo sarebbe il meno, se al suo fianco non ci fosse la di lui moglie, Ilse. Ed ecco che il passato riaffiora, tutto si complica. Il marito creduto morto in carcere è invece vivo ed è lì a separarli, a dividerli, a farli soffrire. E Rix Boghi con quella faccia un po' così, come direbbe Paolo Conte, commenta, a questa storia manca ancora il finale. Grandioso. Casablanca è sicuramente la vetta più alta dell'artigianato del mestiere hollywoodiano. Si può vederlo, rivederlo, trovarlo banale, riderci su, ma a distanza di più di 60 anni nulla ha scalfito lo smalto, l'originalità con la quale vengono risolte le situazioni più ovvie e qualche volta anche le più banali. Per esempio, si va verso il finale. Anche Casablanca non è più una città sicura. Laszlo, Ilse e Rix devono scappare. E naturalmente i lasciapassari sono soltanto due. Chi rimarrà a terra? Chi partirà con Ilse? Rix, l'uomo che l'ama, o Laszlo, il marito scialbo ma eroe? Sono già all'aeroporto. La regola dell'happy end vorrebbe che Ilse e Rix, che si amano perdutamente, vivano insieme felici e contenti. Invece no. Proprio sotto la scaletta dell'aereo, Rick Boghi, dice la battuta che farà di questo film del 42 il primo vero e proprio film americano del dopoguerra. Lui le dirà, le cose da eroe mia cara non mi piacciono, ma tu sai bene che i problemi di tre piccole persone come noi non contano in questa immensa tragedia. Un giorno capirai. Buona fortuna, bambina. Tratto dalla pièce teatrale di Murray Barnett e John Ellison, il film fu sceneggiato da Howard Koch e dai fratelli gemelli Jules e Philip Epstein. La trama in fondo è semplice. Siamo appunto a Casablanca nel 41. Humphrey Bogart è dovuto scappare da Parigi perché ricercato dai tedeschi che hanno appena occupato la città. Ama una donna con la quale ha progettato e organizzato la fuga a Casablanca, ma lei alla stazione non si è presentata e lui è partito da solo. Mette su, come abbiamo visto, il Rix American Café, aiuta clandestini e uomini della resistenza ad andare a Lisbona, da dove poi si imbarcheranno per gli Stati Uniti d'America, ma, come abbiamo già detto, un giorno Ilse, con il marito che è un partigiano super ricercato dai tedeschi, entra nel Rix Café e il passato ritorna. La prima stesura del copione non convince affatto la Warner che l'aveva commissionata. Tuttavia aveva dialoghi molto brillanti e ben scritti e Michael Curtis, terzo regista interpellato, accettò di girare il film a patto però di avere sul set un direttore dei dialoghi. Perché questo? Per due motivi. Intanto perché lui era ungherese e nonostante vivesse negli Stati Uniti da qualche anno parlava malissimo l'inglese. Poi perché Bogart e la Bergman cambiavano continuamente i loro dialoghi, creando grande confusione e anche perché erano poi pare molto litigiosi tra di loro. Tra l'altro, Bergman e Bogart entrarono nel film all'ultimo minuto e quasi per caso. La coppia destinata a girare Casablanca, secondo un vecchio contratto della Warner, avrebbe dovuto essere un'altra. E questa coppia di attori si chiamavano Anne Sheridan e Ronald Reagan. All'ultimo momento però la storia è cambiata e la Warner ha deciso di prendere Ingrid Bergman e Bogart, che però litigavano continuamente sui dialoghi e su quant'altro succedeva sul set. Infatti in una famosa intervista rilasciata molti molti anni dopo il film, uno dei due fratelli Epstein, che era uno dei tre sceneggiatori del film, ha detto «Sul set niente sembrava andare per il verso giusto, si lavorava nel caos più totale. Bogart e la Bergman non si intendevano per nulla, litigavano continuamente e a metà delle riprese esistevano almeno quattro diversi finali. Noi sceneggiatori eravamo disperati e non avevamo la più pallida idea se far fuggire Ilse con Victor oppure con Rick». Fino a poco prima di girare il finale lo stesso Curtis non sapeva nemmeno quale finale avrebbe girato. E a proposito dell'ultima scena c'è una curiosità tecnica molto interessante. L'aereo, l'aereo se lo ricordano tutti quello che appare nella sequenza finale del film, non è un vero e proprio aereo ma solo una sagoma in formato ridotto. Per non smascherare le ristrettezze del budget, i soldi che ormai erano finiti e per farlo apparire più grande, gli addetti al rifornimento che si vedono in campo lungo nella scena sono dei nani. Secondo molti critici e storici del cinema è probabile che insieme al cast perfetto, ai dialoghi sciolti e brillanti, alla struttura filmica compatta e scorrevole sia stato proprio quel caos durante le riprese a creare, a spiegare almeno in parte il mistero del fascino tutto speciale di questo film. Perché? Perché secondo questi critici, dovendo gli sceneggiatori trovare delle soluzioni immediate, pescavano un po' a casaccio tra gli stereotipi del genere. Due cliché fanno ridere, cento cliché commuovono, ha scritto Umberto Eco proprio a proposito di Casablanca. È un film che dimostra quanto può essere divertente un brutto film, ha scritto Pauline Kael sul New Yorker, ma i film che rimangono misteriosamente come questo nell'immaginario collettivo non hanno affatto il dovere di essere belli o brutti o importanti, hanno la grazia delle buone intuizioni messe a fuoco nel momento giusto e con i giusti ingredienti. E questo è uno dei tanti segreti di Casablanca. Di Humphrey Bogart Hemingway diceva «è il più bel volto che io abbia mai incontrato». In effetti non era bello. Non era bello per esempio come Gary Cooper, né ammagliatore come Clark Gable. Era piccolo, aveva il labbro superiore leggermente paralizzato, non aveva nemmeno delle spiccate doti espressive. Era un brutto affascinante, se così si può dire, con una faccia un po' sofferente, un po' strana. Era il disilluso, il cinico dal cuore d'oro, il tenebroso intrigante, capace però di far perdere la testa ad una giovane meravigliosa new yorkese di molti anni più giovane di lui, che diventerà la sua quarta moglie, Lauren Bocall. Soprattutto Humphrey Bogart è un attore moderno, con uno stile asciutto. Forse anche per questo la sua fama sopravvive a lui, dopo tanti tanti anni dalla sua morte, e i film che ha interpretato rimangono ancora oggi dei film esemplari, film che si possono guardare senza trovarli datati, senza trovarli vecchi appunto, tra virgolette. Dire che Humphrey Bogart è più di Ingrid Bergman, l'attore rivelazione di Casablanca, in fondo sarebbe veramente come dire una cosa ingiusta. Il sorriso, la bravura, l'aderenza totale al personaggio di Ilse da parte della Bergman è ovvio, fuori discussione. Tuttavia, se vogliamo pescare un'immagine, un fotogramma che sintetizzi quel film, quell'epoca, quella situazione, dobbiamo per forza ricorrere a lui, a Humphrey Bogart, al suo impermeabile stazzonato, al suo borsalino, al suo sguardo un po' opaco, un po' ottuso, un po' cinico, un po' dolente. Insomma, è lo sguardo di Rick. È Humphrey Bogart la bandiera, il simbolo di Casablanca. Anche perché, se Ingrid Bergman è una grande attrice che può fare qualunque ruolo, lui, Bogart, ha un fisico, come abbiamo anche detto prima, che lo costringe un po', lo limita a certi personaggi e forse anche una psicologia personale che lo avvicina più a certi tipi umani piuttosto che ad altri. È limitato, ma da questo suo limite riesce a trarre linfa che dà veramente anima ai dannati che lui interpreta. Come nasce? Nasce facendo infatti il gangster dei tipici film di serie B degli anni trenta. La sua fortuna, però, si chiama George Raft. È infatti Raft a rifiutare il ruolo di protagonista in un film di Raoul Walsh, che si intitola Una pallotola per Roy, che è ancora un film gangster, ma di tutt'altro spessore umano, di tutt'altra categoria. È l'eroe caduto vittima del proprio passato che non è in grado di esorcizzare. È insomma un film di serie A. E Bogart subentra a George Raft e a quel personaggio offre uno stile così sobrio, così secco, così carismatico, che se non è ancora il vero successo è però quasi il successo. Poi arriva il 1941, che è il suo anno d'oro. Perché? Perché è appena finito di girare il film di Walsh, quando George Raft rifiuta un'altra occasione clamorosa. Il ruolo di Sam Spade, l'investigatore creato da Hammett, nel mistero del falco. Sigaretta in bocca, impermeabile, una morale tutta sua, caustico, spietato, nessuna donna potrà mai conquistare il suo cuore solitario. È appunto Sam Spade, l'investigatore del mistero del falco. L'unica che riuscirà a scalfire il suo cuore sarà appunto la Ilse di Casablanca, che infatti arriva l'anno successivo e che metterà a dura prova la sua maschera impenetrabile. Maschera che peraltro Henry Bogart farà proprio anche nella vita, ritagliandosi un ruolo di duro, di tough guy, come dicono gli americani. Gran bevitore di whisky, sovrano dei locani notturni, lingua pungente contro tutto e contro tutti, usava a dire una frase molto bella che sembra una frase di Casablanca. La differenza tra un copione la vita è che il copione deve avere un senso. Dunque Bogart come Rick, Bogart soprattutto come Philip Marlowe, l'investigatore privato, figlio del genio di Raymond Chandler, che sfida tutte le regole del gioco quotidiano in un film, Il grande sonno del 1946, girato insieme alla sua giovane e meravigliosa moglie, Lorine Boca, che farà di lui il tenebroso, intrigante e unico investigatore privato dell'epoca mitica del cinema americano. Henry Bogart si può veramente dire il volto icona di un cinema che ha segnato la fantasia di intere generazioni. Ricordate il Provace ancora Sam, scritto e interpretato da Woody Allen? È il 1972, la regia non è ancora di Woody Allen, è di Herbert Ross, ma la pièce teatrale da cui il film è tratto porta la firma di Woody Allen. Il film prende a modello proprio Casablanca e nelle vicende del critico cinematografico fanatico che duetta con Henry Bogart su come trattare le donne ci sono già tutte le citazioni, i ticche, gli omaggi ad un cinema della memoria, alla nostalgia di un'epoca dei padri, di quei creatori di prototipi, di quei giganti della professione che molto difficilmente potrà ripetersi nella storia del cinema. E perché? Intanto perché in quegli anni di prima e durante la guerra l'Europa non aveva molto da offrire, anzi non aveva proprio nulla da offrire. Finita la grande stagione del cinema muto, del cinema muto sovietico, dell'espressionismo tedesco, finita la stagione del verismo francese, di alcuni bei colossali italiani dell'epoca fascista, l'Europa della fine degli anni trenta sta veramente dando il peggio di sé e presto precipiterà nella guerra. Di conseguenza l'America è un po' l'unico paese libero a cui fare riferimento, non a caso molti registi, molti talenti cinematografici, molti attori ma soprattutto molti sceneggiatori, registi e produttori europei riparano in quegli anni a Hollywood in cerca di lavoro e lo trovano. Il cinema americano in quegli anni difficili non solo non si ferma ma cresce, diventerà più tardi durante la guerra cinema di vera e propria propaganda antinazista, diventerà un'arma formidabile contro il nazismo, soprattutto riuscirà a coniugare molte cose insieme a diventare un'industria che sa fabbricare dei sogni perfetti. Quindi nel dopoguerra insieme alla libertà, alle sigarette, alla cioccolata, gli americani ci porteranno il loro immaginario cinematografico, le loro storie che sono storie di western, d'amore, di spionaggio, di complicazioni psicologiche eccetera eccetera. Questi film per via del proibizionismo prima e della guerra poi arriveranno da noi dopo il 45 e 46 e avranno il sapore della libertà, delle cose che ci sono state negate, soprattutto ci faranno sognare e riflettere e desiderare un mondo migliore, un mondo che dalle ferite, dall'umiliazione della guerra sta per rinascere veramente alla grande, anche da noi, anche nel cinema e più che mai della nostra cinematografia nazionale. Ne parleremo domani alle otto della sera su Radio 2. Non mancate e buona serata a tutti. Figlio di un ricco e noto architetto, Roberto Rossellini nasce a Roma l'8 maggio del 1906. Quando prende la licenza liceale è più o meno tempo di marcia su Roma. Questo per dire che le sue ambizioni cinematografiche devono, dovranno fare i conti con un regime che al cinema darà molta, moltissima importanza. Non a caso, infatti, dopo aver fatto lo scenotecnico, il montatore, lo sceneggiatore, il regista di qualche documentario prodotto in proprio, il giovane Rossellini, giovane si fa per dire perché ormai era quasi trentenne, approda nell'unico posto dove si può lavorare in quegli anni, all'Istituto Nazionale Luce, vale a dire la società di Stato per la produzione dei cinegiornali e dei documentari, società che insieme alla nascente cinecittà costituisce il vero e proprio fiore all'occhiello della cinematografia italiana voluta da Mussolini, dal Duce. Qui, all'Istituto Luce, Rossellini gira qualche documentario, tra cui Fantasia Sottomarina, Prelude alla Premi di Denfon e soprattutto collabora con il regista Goffredo Alessandrini alla stesura della sceneggiatura di Luciano Serra, pilota. Finalmente nel 1941 realizza il suo primo lungometraggio, La nave bianca, e l'anno dopo un pilota ritorna e l'uomo della croce. Questi ultimi due sono due veri e propri film di propaganda bellica. Poi arriva il 25 luglio, arriva l'8 settembre, arriva l'armistizio con Badoglio che dice la guerra continua e si allea agli angloamericani, gli italiani diventano ostaggio dell'esercito tedesco fino a ieri nostro alleato, e Roma, Roma diventa città aperta. Per 212 giorni, vale a dire fino all'arrivo degli americani nel giugno dell'anno successivo, cioè del 44, la città sarà di fatto governata dai tedeschi che rastrellano, puniscono, arrestano, danno la caccia a chiunque sia in odore di resistenza. In quel clima di paura, di delazioni, di vendette personali, Rossellini sente crescere prepotentemente, dentro e intorno a sé, quello che più tardi chiamerà il mondo che appartiene alla realtà, il mondo della gente semplice, della gente umile, ordinaria, che in questa situazione di emergenza riesce ed è capace di atti eroici, di sacrifici eccezionali. Dal suo amico e sceneggiatore Sergio Amidei viene a sapere la storia di un prete, Don Morosini, che è stato fucilato dai tedeschi nella primavera del 44 perché sospettato di aver nascosto dei partigiani. Ispirandosi a questo fatto vero, Rossellini e Amidei buttano giù un soggetto. Lo sceneggiano con la collaborazione di un giovane Federico Fellini. «Volevamo fare, dirà più tardi Rossellini, un film sulla paura, la paura di tutti, anche la nostra. Anch'io ho dovuto nascondermi, fuggire, anch'io ho avuto amici che sono stati catturati e uccisi. In quei nove mesi ho perso 34 chili, per la fame, ma soprattutto per quel terrore che ho vissuto e descritto in Roma città aperta. Nasce così, tra paure, disagi, ristrettezze economiche e soprattutto casualità, il primo film italiano del dopoguerra che stupirà il mondo intero e darà inizio a quel miracoloso fenomeno chiamato neorealismo italiano. Forse nemmeno lui in quell'autunno del 44, mentre si barcamena tra gli esterni dal vero, i debiti, gli spezzoni di pellicola comprata a 60 lire al metro, che lo costringerà a girare in quadrature molto brevi, istantanee della guerra, si dirà poi, forse nemmeno Rossellini si rende conto di quello che sta facendo. Per lui è solo un altro modo di fare il cinema. Per chi lo vedrà sarà il nuovo modo. Che cosa racconta Roma città aperta? Racconta una serie di destini infelici in una città occupata dai tedeschi. C'è una donna, Pina, Anna Magnani, che è una vedova con un figlio e sta per sposarsi con Francesco. C'è la Gestapo, che sulle tracce dell'ingegner Manfredi, Marcello Pagliero, capo partigiano, il quale già sfuggito ad una perquisizione, ha trovato rifugio nella casa di un parroco, Don Pietro Aldo Fabrizi, benemerito della lotta contro l'oppressore. C'è un'attricetta che con l'ingegner Manfredi ha avuto una breve storia d'amore, la quale, attratta dal miraggio di lauti guadagni e forse in cambio di un po' di cocaina, lo denuncia rivelando il suo nascondiglio. La Gestapo fa irruzione nel palazzo, ma si fa sfuggire per la seconda volta l'ingegner Manfredi e al suo posto catturerà Francesco. È la scena chiave, la scena della morte di Magnani, poche inquadrature che faranno di lei un'attrice memorabile e di quella scena in sé il grande trailer del nostro coraggio e del nostro orgoglio cinematografico. La scena comincia con lui che viene portato via dalla Gestapo, chiama il nome di lei, grida Pina e Pina irrompe come una furia, gridando a sua volta Francesco. Scansa un soldato insultandolo Carogna, vattene via. Quindi si butta in avanti correndo verso la camionetta, alza un braccio come se potesse con la sua forza viscerale fermarla. Arriva Aldo Fabrizi, Don Pietro, mentre in un'altra inquadratura Rossellini ci fa vedere Francesco, ormai a bordo del camion in movimento, che si lancia in avanti tra le canne dei fucili che lo tengono a bada. E poi? Poi ancora lei che corre nella strada bianca e polverosa, il rumore della raffica di un mitra che la fa cadere a terra, e il bambino, suo figlio, vestito da chierichetto, che accorre urlando mamma, mamma, mamma. Fabrizi, Don Pietro, si inginocchia accanto al corpo morto di lei. Musica. È questa la scena che ha commosso il mondo intero. È stata, ed è ancora oggi, la scena che si studia e si analizza in tutte le scuole di cinema di ogni continente per capire come si monta in poche inquadrature con stile secco ma molto emotivo ed emozionato la vitalità coraggiosa di quella scena di morte. È quello che si chiamerà da adesso in poi il cinema di Rossellini. Vale a dire scene che sembrano documentari, registrazione della pura realtà senza ricerche simboliche, senza eccessiva espressione, gente presa dalla strada e attori professionali mischiati insieme che sono un tutt'uno, soprattutto ricostruzione emotiva dei fatti che dia al documento, al documentario, il calore dell'immediatezza, se vuoi, della realtà nel momento stesso in cui si fa. Insomma, un capolavoro di lirismo epico e di retorica populista che mette insieme il prete buono, l'ingegnere comunista, la popolana, tutti destinati a morire nel nome dell'imminente libertà. Open City è il suo titolo americano e i cineasti di Hollywood si inchineranno al genio italiano che in povertà ha saputo raccontare la guerra come loro al cinema nemmeno se la immaginavano. Avrà la nomination come miglior sceneggiatura agli Oscar del 1946. Roberto Rossellini riceverà una simpatica lettera di complimenti e congratulazioni da una star famosa, non è americana ma è come se, si chiama Ingrid Bergman, una lettera che cambierà nell'arco di pochi mesi i loro destini e le loro vite, soprattutto quella della Bergman che lascerà Hollywood per venire a vivere in Italia con un uomo sposato, cosa veramente imperdonabile per l'epoca. La Pina indimenticabile di Roma città aperta ha la faccia appassionata e temperamentosa di Anna Magnani. Un'attrice, quando è che si identifica pienamente con un film, quando ripensando la sua faccia in quel ruolo non riusciresti mai a immaginarne un'altra. E la faccia di Magnani nel ruolo di Pina non solo è perfetta, è Pina, punto e basta. Di madre romagnola e di padre calabrese, cresciuta tra Roma e Alessandria d'Egitto per via del secondo matrimonio della madre con un ingegnere tedesco, alla Magnani, nannarella, come la chiamano sin dai tempi dell'Accademia d'Arte Drammatica dove studia alla fine degli anni venti, non si può dire che il temperamento manchi. Appena uscita dall'Accademia entra nella compagnia teatrale diretta da Dario Nicodemi e subito dopo passa alla rivista con i famosi all'epoca Fratelli de Rege. Sa recitare, sa cantare, sa ballare. È sfacciata, è insolente, ha una bellezza particolare, fatta sin da quando è giovane di una spontaneità un po' minacciosa, di una fisicità generosa, dirompente. Al cinema proda nel 1934 con un piccolo ruolo nel film La cieca di Sorrento, ma anche la sua vita privata è ricca di turbulenze e di avvenimenti. Sposa il regista Goffredo Alessandrini nel 1935, recita con lui nel film Cavalleria, ma poco dopo si innamora di un giovane bell'attore, Massimo Serato, dal quale avrà un figlio, l'unico figlio, l'amattissimo Luca. Durante la guerra lavora nel teatro di rivista, sia con Totò che con De Sica, due grandi mostri sacri. E poi, poi arriva il ciclone Rossellini, un amore tempestoso, rissoso, conflittuale. Tutti gli amici comuni raccontano di liti nei ristoranti romani con piatti che volano, tavoli rovesciati, bicchieri tirati in faccia, qualunque cosa. Soprattutto arriva il personaggio di Pina, una donna generosa, appassionata, autentica, fino al punto da correre verso la morte per l'uomo che ama senza nemmeno accorgersene. Ed è proprio questo personaggio di Popolana con l'anima in mano a rendere non solo grande, ma unica la Magnani agli occhi del mondo. Avrà la nomination come miglior attrice non protagonista, rappresenterà per anni e anni presso gli americani quella spontaneità mediterranea, quella naturale sfrontatezza che sono, a loro avviso, garanzia di bravura e di eccezionalità. Avrà l'Oscar nel 1955 con la rosa tatuata di Daniel Mann, ma per tutti sarà sempre la Pina di Roma città aperta, quella donna che corre in avanti, verso la vita, davanti alla morte. Nel 51 Lucchino Visconti la riporterà ad un grande ruolo, la madre che vuole a tutti i costi far diventare attrice e sua figlia adolescente in Bellissima. Indimenticabile, assolutamente, è la scena allo specchio quando Magnani vuole convincere la ragazzina a recitare e spiega a lei come si fa a diventare attrice. La fissa attraverso lo specchio e le dice recità, che vuol dire recità? Basta pensare ad essere un'altra e tutto si risolve. Grandissima Anna Magnani, mamma Roma, come l'ha voluta Pasolini nel suo bel film del 1962. Eppure nel 1959 Anna Magnani rifiuta ad Esica il ruolo della ciociara, un ruolo che toccherà alla Loren. Ne riparleremo fra qualche puntata. Roma città aperta è il primo dei film italiani che abbiamo messo tra i film cosiddetti immortali. Non solo perché ha rappresentato quel che ha rappresentato nell'immediato dopoguerra, e lo abbiamo appena detto, ma anche e soprattutto per quello che rappresenterà nel corso del tempo. Abbiamo avuto occasione ieri di parlare della supremazia e della grandezza del cinema americano subito prima e durante e dopo la guerra mondiale, della sua strepitosa capacità di creare prototipi, del suo potente immaginario che influenzerà intere generazioni. Ebbene, con Roma città aperta si inaugura un altro modo di fare il cinema. Un cinema che si può fare al di fuori dell'industria, che si deve fare al di fuori dell'industria e delle regole stabilite. È, al di là del neorealismo, che peraltro durerà poco, il cinema di contenuto o, se vogliamo, quel cinema d'autore che dal dopoguerra in poi si spargerà come una macchia di leopardo qua e là per tutta Europa, ricreando un cinema impegnato ma popolare, che per almeno 10-15 anni sarà equivalente a quello americano anche al botteghino e non soltanto. E i primi saremo noi italiani, con Rossellini, con De Sica, con Visconti, con Zavattini, eccetera, eccetera. Poi verranno i francesi della Nouvelle Vague, i giovani critici dei cahiers di cinema, che si chiamano per il momento Rivet, Truffaut, Godard, Mal, Chabrol, eccetera, eccetera. Tutti ammetteranno di avere un debito d'onore con Rossellini. Godard, per esempio, dirà, anzi scriverà in un articolo sui cahiers di cinema che Viaggio in Italia con la Bergman è il primo film sulla crisi della coppia borghese mai girato prima d'ora in Europa. Negli anni Sessanta verrà poi il free cinema inglese, con Richardson, Karel Reis, Schlesinger e tanti divi inglesi di cui parleremo nelle prossime puntate. Tutti in debito con Rossellini? In un certo senso sì, anche se il cinema della fantasia e della strutturazione psicologica e registica avrà pian piano la meglio sul cosiddetto cinema della realtà, e questo avverrà man mano che il nostro continente uscirà dalla povertà e dai disagi del dopoguerra, tuttavia laddove si mostra la condizione della povertà e i disastri sociali che ne conseguono, i primi nomi che affiorano sono quelli di De Sica e di Rossellini. E il richiamo a Roma città aperta è comunque un richiamo d'obbligo. Insomma è il contrario esatto del cinema americano che fa sognare, ma quando riesce bene fa sognare ancora di più. Sembra facile, ma è difficile. Per fare film come questi al di fuori delle regole bisogna essere davvero grandi e Rossellini lo era. Per questa settimana io ho concluso e vi prometto altri film altrettanto interessanti se non di più per la prossima settimana e vi appuntamento a lunedì alle 8 della sera su Radio 2. Tra i film cosiddetti immortali di cui abbiamo parlato la settimana scorsa manca un titolo, soprattutto manca una diva che è più di una diva, è un mito assoluto. Dire l'anno 1930 significa dire Angelo Azzurro, significa dire Marlene Dietrich, perché ognuna di queste tre parole, 1930, Angelo Azzurro, Marlene Dietrich evoca la nascita di un certo tipo di femme fatale in cilindro e calze nere, un certo tipo di femminilità sensuale e un po' perversa, dalla quale dal 1930 in poi appunto non si potrà mai più prescindere. Quando quel genio del regista Joseph von Stenberg la incrociò in un teatro di Berlino dove recitava in una commedia musicale di Kaiser e Spoliansky che si chiamava Zweig Kravatten, lui era già un regista di fame internazionale. Lei aveva presa poco 25 o 26 o 27 anni, non si sa di preciso perché misteriosa è la sua data di nascita, ed era considerata sì un'attrice abbastanza brava, ma niente di più di questo. Era infatti nata a Berlino il 27 dicembre del 1901 o forse 2 o forse 4. Maria Magdalena von Loesch era il suo vero nome. Figlia di un ufficiale di carriera, da vera aristocratica prussiana, era stata avviata dal padre agli studi musicali, ma a causa di un'infiammazione muscolare alla mano dovete abbandonare lo studio del violino. E in pieni anni venti arriva nella mitica Berlino per cercare fortuna come attrice. Bisogna immaginare cos'era la Berlino degli anni venti. Era la culla di tutte le avanguardie, teatrali, cinematografiche, architettoniche, pittoriche. Negli studi di Berlino il cinema espressionista tedesco di Murnau e di Lang aveva il suo laboratorio visivo da anni e anni. Nei teatri di prosa c'era praticamente di tutto, dal giovane Brecht che faceva il dramaturga al Deutsche Theater in attesa di mettere in scena con Kurt Weill i suoi capolavori, a Erwin Pischkator, il fondatore del teatro proletario che aveva inventato quella cosa geniale che si chiama la scena multipla, con il palcoscenico al centro e il pubblico che partecipa in funzione corale. C'era, c'era soprattutto il cabaret e il suo geniale padre padrone era Max Reinhard, vero dittatore delle scene berlinesi. Ed è proprio a lui che la giovane Maria Magdalena von Loesch si va a presentare in cerca di lavoro. Lui le fa un'audizione e l'affida al suo assistente tale Held per un corso di recitazione. Ecco, i primi passi della futura Marlene nella mitica Berlino che sarà spazzata via dal nazismo imminente sono questi. Ma in quella seconda metà degli anni venti la futura Marlene non è che poi in realtà sia molto consapevole di quello che sta accadendo a lei e al suo triste paese. Intanto non ha grandi ambizioni, vuole recitare ma è una persona molto insicura, è grassoccia, veste male, sogna di sposarsi con un uomo qualunque di vivere in campagna, allevando polli e ocche. Continua la scuola, scrive a un'amica durante quei primi mesi a Berlino, infatti, e aggiunge, penso di proseguire nella carriera di attrice, ma senza grandi speranze di fare molta strada. Insomma era incerta sugli obiettivi che voleva perseguire. Ammirava irresistibilmente un'attrice molto intellettuale, tutta talento e bravura, che in quel momento era la regina delle scene teatrali berlinesi. Si chiamava Elisabeth Bernier. Voleva essere come lei, un'interprete stimata e rispettata. E invece? E invece viene scritturata per una rivista, e comincia a esibirsi anche come cantante, e per la prima volta mette in mostra le sue gambe leggendarie. Non sono in pochi a notarle, compresa peraltro la Bernier, che essendo una vipera come tutte le attrici, commenta con questa frase al vetriolo. Se io fossi bella come la Dietrich non saprei che farmene del mio talento. Era di una freschezza abbagliante, ammette il regista teatrale Barnowski, ma ad essa mancava quella fiducia in se stessa e pareva assolutamente inconsapevole delle sue attrattive. L'unica cosa di cui andava certa erano appunto le sue gambe. Ma da vera prussiana dissimola la sua insicurezza nella buona volontà e nella diligenza. Lavora, dimagrisce, migliora il suo aspetto fisico e il suo modo di vestire, è impeccabilmente professionale. E una sera, in quel gelido inverno berlinese del 28-29, l'uomo del destino, il genio del cinema Joseph von Stenberg, in cerca di talenti, si siede al Kleines Theater per vedere la rivista Zweikravatten, come abbiamo detto prima, e si imbatte in quella ragazza svogliata e un po' volgarotta che canta con una voce che sembra uscirle dal ventre. Lui era venuto da Hollywood fin qui per girare un film con Emily Anning tratto da un romanzo di Heinrich Mann, il professor Umrat. Emily Anning in quegli anni era una vera e propria star. Aveva recitato con Lubitsch due grandi personaggi storici che l'avevano reso una specie di mostro sacro delle caratterizzazioni del muto, Enrico VIII e Luigi XV. Era stato Nerone nella prima versione muta del Quo Vadis. Nel 1924 aveva lavorato con von Stenberg proprio a Hollywood. Insomma, era quel genere di attore che volendo avrebbe potuto mettere anche contrattualmente il veto sulla scelta della sua partner femminile. E cercò in tutti i modi di farlo, perché trovava Marlene inadatta, inadeguata alla sua statura di grande interprete, la trovava fisicamente sbagliata per il personaggio di Luisa Fröhlig. Per di più, la stessa Dietrich non era affatto entusiasta di quella offerta. Sono troppo grassa, ho una faccia che sembra una patata. Insomma, non fremeva per niente dalla voglia di mettersi al fianco di un divo come Annings che per di più la odiava. Ma Stenberg fu irremovibile. Da quella sera che l'aveva vista cantare con la voce un po' rubata ad una canzonettista in quegli anni alla moda che si chiamava Lara Evaldov, non aveva mai più avuto un dubbio. La protagonista del romanzo di Heinrich Mann, la futura Lola Lola, sarebbe stata lei punto e basta. E la curò moltissimo. Durante le riprese le prestava le cure più esclusive, studiava luci solo per lei, movimenti di macchina che la favorivano, costumi che la valorizzavano. Insomma, la plasmava come uno scultore plasma la propria creta. E nonostante le ire sempre più esplicite di Annings, il risultato fu, a dir poco, travolgente. L'apparizione di Marlene, Lola Lola, sul palcoscenico di quel fumoso cabaret, piantata là, a gambe divaricate di fronte al pubblico, oppure seduta con le gambe accavallate e inguainata nel famoso pagliaccetto e nelle calze nere sorrette dalle mitiche giarretiere, ha fatto epoca, ha fatto scuola e è diventata un'icona insostituibile di quella femminilità fatale destinata a distruggere, col solo richiamo della sua torbida natura, l'esistenza di un rispettabile insegnante. Quel professor Unrat, appunto, che per scovare e punire i suoi allievi libertini si reca all'angelo azzurro, un locale dove si esibisce la conturbante Lola Lola, e invece di richiamare all'ordine i suoi allievi, si innamora perdutamente di lei. Una murfu che lo porterà alla rovina. La cinica Lola Lola lo seduce col suo fascino e con la sua indifferenza. Per lei il vecchio e ingenuo professor Unrat lascerà il lavoro, la sposerà, farà il clown nei suoi spettacoli pur di starle vicino. Dovrà esibirsi nella città dove insegnava davanti a conoscenti ed ex allievi e fare in scena quel famoso chicchirichi. Morirà di disperazione e di vergogna senza essere riuscito a scalfire nemmeno di un millimetro la sua enigmatica indifferenza. Il libro di Mann, pubblicato 25 anni prima, voleva essere una denuncia esemplare dei mali e dei vizi della borghesia tedesca, futuro serbatoio del nazismo. Il film di Von Stenberg è soprattutto lei, la potenza della sua apparizione, la forza della sua inedita femminilità. Von Stenberg e Dietrich stanno per diventare il caso più clamoroso di allievo pigmaglione, regista interprete, plagiatore, plagiato, mai visto prima al cinema. L'abbiamo detto prima, lei si sentiva insicura, incerta, poco convinta del suo talento, ma l'irruzione nella sua vita professionale di Stenberg cambierà veramente tutto. Lei di lui si fida ciecamente. Lui costruisce una regia fatta apposta per servirla da capo a piedi e dopo il successo travolgente dell'Angelo Azzurro, la Paramount li chiama a Hollywood tutte e due insieme. firmano un contratto per sei film, lui regista, lei interprete. Marocco, Disonorata, Shanghai Express, Venere bionda, L'imperatrice Caterina, Capriccio spagnolo. In ogni film si tenta lo sviluppo e l'esasperazione del personaggio di Lola Lola. E lo stile di Stenberg, di film in film, si fa sempre più barocco, più ricercato, con l'aiuto delle luci, della scenografia, della sartoria. Si fa di Marlene Lola una specie di statua di carne, sempre più fatale, sempre più simbolica. Lei dice di lui, quando siamo in teatro di posa insieme, io sono assolutamente sopraffatta dal piacere del lavoro. Sento che senza di lui non sarei assolutamente nulla. Egli è il solo e unico uomo in grado di far venire alla luce la vera me stessa. E lui dice di lei. Marlene è la donna più intelligente che io abbia mai conosciuto. In lei c'è una strana mescolanza di sofisticazione mondana e coltivata raffinatezza che danno vita all'illusione della perfetta indifferenza. La moglie di lui, di von Stenberg, minaccia un processo per alienazione di affetto coniugale. Ma nulla può incrinare questo miracoloso rapporto di dipendenza da parte di lei e di gratitudine da parte di lui. Lei rimpiangerà per anni e anni i bei tempi dei film fatti con Stenberg e si dice che alla fine di ogni scena girata con un altro regista usasse sussurrare dove sei Joe. Pare che persino al grande Fritz Lang durante la lavorazione di Rancio Notorious lei non la smettesse mai di spiegargli scena dopo scena come e in che modo Stenberg avrebbe girato quell'inquadratura. Lui per tutta la vita la difenderà dagli attacchi dei giornalisti che la definiscono un semplice pappagallo ammaestrato e arriva persino ad auspicare che dopo il suo preventivo ritiro sia Marlene stessa ad assumere personalmente la regia dei suoi film. Plagio, amore, incontro felice, chiamatelo come volete, fatto sta che da questo amore probabilmente mai consumato sono nati i più folli, artificiosi, barocchi e meravigliosi film americani della coppia Stenberg-Dietrich, la quale peraltro dopo Marocco girato con Gary Cooper è diventata la diva più pagata di tutta Hollywood. È possibile considerare Marlene Dietrich l'attrice di un solo film? In un certo senso sì, ma sarebbe molto ingiusto. Sì perché è ovvio che la dirompente vitalità di Lola Lola non sarà mai più superata né da lei con i film che verranno né da altre attrici o simboli sessuali che seguiranno dopo di lei. Ingiusto perché considerarla la diva di un solo film sarebbe estremamente riduttivo e non farebbe onore alla sua intelligenza di attrice, di cantante, di persona. Come attrice, come cantante era di una sensibilità e di una precisione assolutamente sconcertanti. Persino un regista ossessionato dalla tecnica, quale era Hitchcock, disse una volta di lei, Marlene Dietrich è una professionista, un'attrice professionista, un'operatore professionista, una costumista professionista. La sua esperienza tecnica le consente di verificare di persona se l'illuminazione del suo volto è regolata a dovere e come vuole lei. È docile, abile, immediatamente comprensiva e la messa a punto della recitazione non vi farà perdere mai nemmeno un minuto. Detto da uno come Hitchcock, che peraltro detestava gli attori, è una cosa assolutamente eccezionale. Come donna, poi, è stata capace di rimanere imperturbabilmente se stessa, nonostante il mito incredibile che portava sulle proprie spalle. Ha amato gli uomini che ha voluto, ha mostrato in pubblico la propria maternità, è andata in giro in abiti maschili, in una Hollywood puritana e piena di proibizioni. È stata capace, nel 1937, a Goebbels, che la invitava con tutti gli onori a tornare in Germania, a rispondere un sonoro e clamoroso no. E durante la guerra non esitò un minuto a schierarsi dalla parte degli americani, attraversando continenti e i fronti di mezzo mondo per intrattenere i soldati con le sue canzoni famose. Dalla BBC di Londra invitava i soldati tedeschi a disertare. La guerra, diceva sempre scherzando, mi ha dato l'opportunità di baciare più soldati di qualsiasi altra donna al mondo. E un soldato americano la ripagò con questa seducente e famosa dichiarazione. Solo tre cose buone vengono dalla Germania. La musica, Le Salsicce e Marlene Dietrich. Nel dopoguerra aiutò Roberto Rossellini a trovare i soldi per il suo terzo film sulla guerra, Germania Nozero. Era Marlene Dietrich la figlia della Repubblica di Weimar, cancellata dalle camicie brune del cancelliere Hitler, ma ricreata e immortalata nel cinema da un altro viennese come Hitler, Joseph von Stenberg. Era un mito vivente che non ha mai rinunciato ad essere una persona. Era Marlene, un nome che si può riconoscere senza bisogno del cognome e questa è la vera grandezza. Per questa sera io ho concluso, vi saluto e vi do appuntamento a domani alle otto della sera su Radio 2. La pianura della risaia non è soltanto uggiosa, ma è anche patetica. Uno scenario dove possono svolgersi sia fiabe che tragedie. È il 1949 e la Lux Film pubblicizza così Riso Amaro del regista Giuseppe De Santis. Per lui, dice ancora la pubblicità, il cinema deve essere carne, sangue e vita pulsante. E in Riso Amaro effettivamente la carne, il sangue e la vita pulsante sono affidate all'icona erotica di Silvana Mangano. Siamo in pieno dopoguerra, quasi al tempo della ricostruzione, e stiamo per parlare di un film e di una diva che hanno fatto veramente epoca. Partiamo tanto per cominciare da quella meravigliosa, memorabile, indimenticabile affisce. Si vede Silvana Mangano stagliata sullo sfondo della risaia vercellese. Ha le calze nere strappate, ha il fango fino alle ginocchia, indossa dei pantaloncini stretti a mezza coscia e la maglietta è ben aderente a modellarle il seno, che è quanto mai generoso. E in effetti, lo vedremo poi nel film, una mondina tutta speciale. Legge Grand Hotel, mastica Chewingham, balla Boogie Boogie, sogna di diventare ricca rubando. È insomma una specie di miscela esplosiva di neorealismo all'italiana e di noir americano. Quando il film, dopo l'enorme successo italiano, viene comprato e lanciato sul mercato americano con grande, grandissimo clamore pubblicitario, la Mangano esplode planetariamente. I giornali americani la definiscono un'autentica atomica italiana. La Hayworth con 10 chili di più, la Magnani con 15 anni di meno, la Bergman con temperamento latino, Mae West e Jane Russell insieme con più sex appeal. Insomma, mai prima d'ora tanti aggettivi erano stati spesi per osannare un'attrice non americana. Ma in realtà, cosa ha di speciale rispetto alle altre attrici italiane di quel momento questa ragazzina di 18 anni timida e riservata, che come tutte le sue coetanee peraltro ha partecipato ai concorsi di Miss Italia, che ha fatto un solo film, un piccolo ruolo peraltro, nell'elisir d'amore di Mario Costa e che all'improvviso, con un film, diventa una star mondiale. Intanto c'è una questione interessante di fisico. Suo padre è siciliano, sua madre è inglese. Ha tutti gli attributi fisici della maggiorata, ma possiede una misteriosa discrezione che è tipica delle facce nord-europee. È procace come un'adolescente mediterranea, ma il suo sguardo sfuggente ha già qualcosa di adulto, di sofferto, di cosmopolita. Insomma, è la Mangano, quella ragazza unica che lo scrittore Vasco Pratolini così definì pochi anni dopo Risomaro. Nonostante la conturbante divisa da Mondina che De Santis le ha regalato al suo esordio, Silvana Mangano è una creatura che nessuna guaina. Nessuna audacia può destituire del suo candore e del suo stupefatto sorriso. De Santis, il regista, dice di averla incrociata per puro caso. In un primo tempo, infatti, Perrisomaro aveva pensato a Carla del Poggio. Poi, successivamente, aveva fatto un provino alla Bosè e si stava orientando verso di lei, quando, una sera di pioggia, andando su per via Veneto e rasentando il muro per non bagnarsi, incrociò, anzi si scontrò con una ragazza vestita con un trench comprato al mercato americano. Era il 1947. Questa ragazza, fradice di pioggia, struccata, tutta acqua e sapone, un sorriso dimesso che faceva tenerezza, aveva in mano una rosa, proprio come la fioraia cieca di luci della città di Chaplin. Restammo, dice De Santis, per circa mezz'ora a parlare sotto la pioggia. Lei cercava di affascinarmi con quella rosa. Eravamo fradici, ma non ci importava veramente niente. Poi, naturalmente, qualche giorno dopo le feci il provino e tutto andò per il meglio. Il mondo, non solo paesaggistico, ma anche social-culturale, dove Nato ha preso forma e si è sviluppato il progetto di Risomaro, è un mondo veramente molto interessante. Siamo nel Vercellese, ma soprattutto siamo in Piemonte, in quella Torino del dopoguerra, piena di fermenti intellettuali e di personaggi eccezionali. Il direttore dell'unità di Torino a quei tempi è un ex partigiano, si chiama Davide Laiolo, Ulisse, secondo il suo nome di battaglia, e tutti gli amici lo chiameranno sempre così. Nella sua unità di Torino lavora un giovane giornalista, un giovane redattore, Raff Vallone. Raff Vallone sarà, insieme a Vittorio Gasman, uno dei due protagonisti maschili di Risomaro. Laiolo è anche un grande amico di Cesare Pavese, e Pavese farà delle ricerche per il film di De Santis e sarà molto prezioso al regista nella messa a punto psicologica del mondo contadino. Soprattutto Cesare Pavese è molto innamorato di Constance Dowling, una procace Miss California, sorella dell'attrice Doris Dowling, che insieme a Silvana Mangano sarà l'altra protagonista del film. Di queste due sorelle Dowling si è molto parlato negli anni Cinquanta. Intanto perché erano straordinariamente belle, delle specie di Marilyn Monroe ante Litteram. Poi perché una di loro, appunto Constance, fu amatissima da Cesare Pavese. Lo tradiva volentieri e senza farsene un problema, si dice persino con i macchinisti del film di De Santis. Naturalmente poi, come tutti sappiamo, un anno dopo Risomaro, nel 1950, Pavese si suicida, e secondo l'opinione di molti, anche per via dell'indifferenza della Dowling nei suoi confronti. Sarà proprio, come ben sappiamo, l'aiolo qualche anno dopo a scrivere un libro, Il vizio assurdo, nel quale cercherà di dare una spiegazione più complessa della morte per suicidio dello scrittore. Di queste discusse sorelle Dowling si diceva anche che avessero qualche legame con la CIA. Probabilmente non era vero. Il sospetto era nato dal fatto che, appena arrivate in Italia, si erano immediatamente inserite nell'area di sinistra. Erano anni di guerra fredda. Però va anche detto che in quegli anni l'area della sinistra, soprattutto al cinema, era la più vivace e la più interessante. Tutto questo per farvi capire qual era il background cinematografico, culturale e un po' anche sentimentale che c'era dietro al mondo che aveva partecipato più o meno consapevolmente alla gestazione di questo film molto speciale. Gente rigorosamente di sinistra, personaggi di rigorosa fede marxista che costruiscono, senza neanche accorgersene, il più hollywoodiano film della storia del nostro risorto cinema italiano del dopoguerra. Scritto da Corrado Alvaro, Gianni Puccini, Ivo Perilli, Carlo Lizzani e Giuseppe De Santis, un vero e proprio esercito di sceneggiatori, Riso Amaro, in un miscuglio di torrido erotismo e affresco sociologico, racconta la storia di una collana rubata e poi rirubata. C'è Francesca, Doris Dowling appunto, che d'accordo col suo amante Walter, un meraviglioso Vittorio Gasman, ruba una preziosa collana ad una cliente dell'albergo nel quale lavora. Per sfuggire alla polizia salta sul treno che trasporta le mondine stagionali nella bassa vercellese e naturalmente tra le mondo e riso c'è la bella Silvana, una lavoratrice semiclandestina, come si direbbe oggi, con però una testa piena di sogni. Furba e svelta com'è, Silvana capisce al volo cosa nasconde Francesca, ne intuisce le intenzioni e la sera stessa trafuga la collana. Ancor più furbo di lei, il malavitoso e gradasso Walter, pur di riprendersi il bottino, seduce Silvana, ne diventa l'amante e balla con lei degli sfrenatissimi boogie-boogie. Scopre che la collana è falsa, cambia obiettivo e con la complicità della sua nuova amante decide di rubare il riso stipato nei magazzini. Naturalmente tutto finirà nel peggiore dei modi. Lui morto ammazzato, lei suicida. Insomma, riso amaro è quello che si può definire un melodrammone con ambizioni nazional-popolari. Che è costato all'epoca 70 milioni di lire e in pochi mesi ha incassato solo in Italia mezzo miliardo. Cifra assolutamente incredibile. Ancora più incredibile è il fatto che sia stato lanciato nel grande circuito statunitense con un successo popolare in America a dir poco inaspettato. Fino a qualche anno fa, ha detto una volta Lizzani, in America bastava dire Bitter Rice per ricevere grandi accoglienze. Era un film che aveva scasato, dice Lizzani. Era proprio uscito di casa. Ma questo miracolo, compiuto, se così si può dire, da un'equip di comunisti ortodossi, padri fondatori del neorealismo e fautori della dottrina del cinema di realtà contro il cinema dell'evasione della fantasia, questo miracolo e tutti quei miliardi di incasso cominciarono a insospettire più che mai la critica militante. Si inizia a parlare di neorealismo rosa, di tasso di verità sociale troppo, troppo annacuato, di una strizzata d'occhio troppo evidente a Hollywood. Insomma, una coppia di ladruncoli, un uomo senza scrupoli, il destino tragico di una mondina, ingredienti che, nella critica militante di sinistra, cominciano a destare grandi sospetti. Ma invece era proprio quella la cultura delle mondariso, si difende con forza sanguigna De Santis. Il proletariato agricolo di quegli anni era fatto di ragazze che leggevano fotoromanzi e sognavano di ballare il buggy-buggy con il principe azzurro. L'Italia cambiava in fretta e i critici che dissentivano vistosamente dal mio film, dice ancora De Santis, critici come Guido Aristarco o i sindacalisti che mi attaccavano, non si accorgevano di quanto stava accadendo in Italia. E avevano ragione loro, i cineasti di riso amaro, con la loro cultura di sinistra e la loro militanza, avevano costruito un film italianissimo che però prestava l'orecchio, ma soprattutto l'occhio, al cinema hollywoodiano che era sbarcato in Italia insieme agli anglo-americani. Questi ragazzi, figli del neorealismo, avevano finalmente visto John Ford e Casablanca, King Vidor e Via Colvento e si erano giustamente innamorati. Mettevano le belle sorelle Dowling nel cast, se ne invaghivano, come abbiamo visto il grande Pavese faceva, e non avevano il minimo scrupolo nel tentare l'amplein di accontentare in un colpo solo il produttore, la classe contadina e il pubblico americano. E il fatto che con riso amaro ci siano riusciti alla grande non può che fargli onore, anche se per anni e anni hanno continuato a difendersi. Soprattutto De Santis, che dopo essere stato l'aiuto di Visconti in ossessione, l'autore di uno dei primi film sulla resistenza come caccia tragica, mal digeriva questa accusa dei suoi amici, compagni e colleghi. E infatti si era inventato un bellissimo distinguo tipico dei militanti. Lui diceva sempre il realismo puro, vale a dire quello di Roma città aperta, e il realismo di contaminazione, vale a dire il mio, non possono e non devono essere contrapposti, fare differenze ideologiche è una pretesa puramente illusoria. Tempi in cui ci si appassionava le discussioni e il cinema di impegno andava a braccetto con gli imprenditori del cinema. Tempi in cui, non a caso, anche noi italiani sapevamo fare grandi film. Riconosco che non ho mai avuto eccessiva simpatia per il cinema, ha scritto Silvana Mangano in una dichiarazione all'avventurosa storia del cinema italiano di Franca Faldini e Goffredo Fofi e aggiunge «Ho accettato di girare Riso Amaro più per la necessità di guadagnare che per il desiderio di intraprendere la carriera di attrice. Purtroppo, buona parte del pubblico è rimasto con l'impressione di una mangano dell'epoca di Riso Amaro e va ancora a vedere i miei film nella speranza di vedere le mie gambe». Non voleva Silvana Mangano essere l'icona che è stata e per tutta la vita ha tentato in tutti i modi di rimuovere la sua immagine di bellezza sfacciata e prorompente. Si è trasformata, è dimagrita, è diventata una signora appartata e discreta, una signora, anzi un'attrice, che grazie al privilegio di essere la moglie di un grande produttore, Dino de Laurentiis, sceglieva con ponderatezza e con oculatezza i suoi ruoli. Ruoli che erano e saranno dagli anni cinquanta in poi completamente diversi dalla mangano di Riso Amaro. Drammatica e vibrante nel ruolo della prostituta che cerca il riscatto, per esempio nell'Oro di Napoli. Magnifica interprete del personaggio di Eddaciano nel processo di Verona, di Lizzani. Era pigra, era riservata, era solitaria, era, come aveva ben intuito tanti, tanti anni prima Vasco Pratolini, una creatura nemmeno incontestabilmente bella, della quale avevano voluto fare una vamp, mentre Silvana sarebbe stata la donna della perfetta felicità domestica. E in qualche modo era vero, preferiva starsene a casa a fare la madre, piuttosto che andarsene in giro a recitare, eppure, pur di riuscire a scalfire, a defenestrare quell'immagine di Mondina scosciata, continuava, seppur raramente, ad accettare ruoli, a fare film, a fare ruoli contrari a quelli della vecchia Mondina. Negli anni Sessanta era diventata la musa di Pasolini, era stata giocasta nell'edipo re, la borghese padrona di casa di Teorema. Più tardi, presterà il suo volto sempre più sofisticato, sempre più diafano, quasi una maschera, a tre grandi interpretazioni in tre film di Visconti, Ludwig, gruppo di famiglia in un interno e naturalmente e soprattutto morte a Venezia. Ma nemmeno la meravigliosa madre di Tazio, che sorseggia i suoi vini pregiati nel ristorante dell'Hotel De Ben, del Lido di Venezia, tra musiche di Mahler, i languori estenuati, riuscirà nemmeno questa immagine a doffuscarne un'altra, quella della mondina nazional popolare che mastica chewing gum, vota PC, sogna il benessere, ma non è abbastanza cinica per procurarselo. L'icona immortale, lei, Silvana Mangano, è davvero l'icona immortale di quell'italietta avida e ingenua che grazie a lei ancora oggi abbiamo negli occhi. Domani torneremo in America per parlare di nuovi divi anni 50 che si affacciano sull'orizzonte hollywoodiano. A domani dunque alle 8 della sera su Radio 2. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Alla faccia di un poeta e il fisico di un giocatore di calcio. Il sorriso di un bambino indifeso e il pugno di un boxeiro. Recita la Stanislavski, il nuovo metodo dell'Hattors Studio dove ha studiato con Lee Strasberg ed Elia Casan e lui medesimo, Marlon Brando, viene definito il metodo al lavoro. È perfetto. Perfetto nell'immedesimazione con la quale si cala nei personaggi, perfetto nel mettersi in bocca le battute più vere di quelle che gli scrivono gli scrittori, perfetto nel fare a cazzotti nel baciare le donne. È il nuovo tipo di attore che rinnoverà l'idea stessa della recitare e dello star system, la nuova icona del ribelle, del nevrotico che fa della sua fragilità una forma di talento. È il selvaggio, è Marlon Brando, il vero mito degli anni 50. Figlio di un fabbricante di prodotti chimici e di un'attrice, Dorothy Pennybecker, nasce nel Nebraska il 3 aprile del 1924. A 19 anni è già New York, passeggia per le strade di Broadway. Torna a casa, scrive alla dorata madre attrice. Cara ma, oggi ho visto per la prima volta i più grandi teatri del mondo, quelli che tu mi hai insegnato a conoscere con la fantasia quando ero piccolo ed ero vicino a te. Mi sono fermato a Broadway fino al calar del sole, ho provato una grande commozione e ti ho pensata. Frequenta la New School di Stella Adler, si iscrive ai corsi di danza di Catherine Dunham. Soprattutto si imbatte in un nuovo laboratorio teatrale appena fondato da Lee Strasberg e da Kazan, l'Actors Studio appunto. Quell'attore con le spalle da facchino e il cuore di un bimbo sarà il miglior attore di tutta Broadway, intuisce il geniale Elia Kazan e nell'estate del 47 gli offrirà il ruolo di Stanley Kowalski, il famoso emigrato polacco del dramma di Tennessee Williams, un tram che si chiama Desiderio. A street car Named Desire, questo è il titolo originale, che debutta a Broadway il 4 dicembre del 1947. 855 repliche, tutte le sere esaurito. Il vero successo è Brando, ma la fisicità strabiliante di Brando ha bisogno di cinema per esplodere definitivamente e la sua prima apparizione è del 1950 in un film di Zinemann, si chiama Uomini. Lui è quel tenente ferito in guerra e destinato a restare in carrozzella per tutto il resto della vita. Beh, la sua recitazione commuove e sconvolge l'America. Non si era mai visto prima d'ora un simile concentrato di silenzi ed esplosioni, di introversioni e di animalità, di impotenza e di erotismo. E non è che l'inizio. L'anno dopo sarà la volta della versione cinematografica di un tram che si chiama Desiderio, ancora regia Delicazin, Vivienne Lee nel ruolo di Blanche. Eppure, a rimanere nell'immaginario non sarà la meravigliosa, dolente bravura di Vivienne Lee, ma sarà la canottiera immacolata di Kowalski che diventerà l'indumento cult per ogni macio americano. Tale è la sua capacità di medesimazione che i personaggi che interpreta diventano loro stessi delle icone. Basti pensare per esempio al selvaggio del 1953, il suo celebre giubbotto di pelle finirà nelle serigrafie di Andy Warhol e verrà praticamente consegnato ai must più popolari di tutto il novecento. Insomma, è già un mito quando nel 54 arriverà fronte del porto. Tratto da una serie di articoli denuncia di Malcolm Johnson, premio Palitzer per il giornalismo 1951 e da un racconto di Schulberg che peraltro è lo sceneggiatore del film, fronte del porto on the waterfront racconta la scomoda storia degli scaricatori di porto di New York vessati da una banda di gangster che più o meno d'accordo con il sindacato taglieggiano i lavoratori. Terry Mallory, Marlon Brando, è un ex pugile fallito che lavora al porto. Ha un fratello Charlie nel film Rothsteiger che al contrario di lui ha fatto carriera spalleggiando il super corrotto box del sindacato portuale. Mallory ha una bellissima fidanzata, la meravigliosa Eva Marie Sente la quale a sua volta ha un fratello che sarà ucciso anche lui lavoratore portuale. Terry Mallory sembra come gli altri in realtà è diverso accetta e subisce le imposizioni della mafia con crescente disagio comincia a frequentare un prete e nel film è un fantastico Karl Malden che lo incoraggia a usare a parlare a denunciare. Terry si lascia convincere ma dopo che si è presentato alla commissione di inchiesta per rivelare i soprusi si trova a dover combattere non soltanto con l'ostilità dei mafiosi ma anche con la paura dei suoi colleghi degli scaricatori che temono per colpa sua di perdere il posto di lavoro. Il fratello Charlie muore ammazzato lui rischia di rimetterci la pelle in una leggendaria scazzottata il prete lo incoraggia a non mollare e alla fine tutti gli scaricatori ammirati dal suo coraggio si uniranno a lui e avranno la meglio su quella banda di gangster. Mitico è il finale con Brando che pesto di botte si avvia barcollante alla chiamata al lavoro. 12 nomination 8 Oscar miglior film miglior regia miglior attore protagonista Marlon Brando miglior attrice non protagonista Eva Mary Sant miglior sceneggiatura fotografia scenografia montaggio ovviamente il trionfatore indiscusso è lui è Marlon Brando da adesso in poi i giovani di tutto il mondo vorranno i capelli tagliati alla Mallory Brando corti e schiacciati sulla fronte si identificheranno con la sua capardietà con la sua travagliata onestà il film però nonostante gli incassi e gli Oscar susciterà molte perplessità e tante discussioni intanto prima di tutto perché mette in difficoltà l'intelligenza libera l'americana di quel tempo descrivendo il sindacato come una specie di associazione a delinquere poi perché questa denuncia che arriva nell'anno cruciale 1954 è fatta da due uomini Schulberg lo sceneggiatore e Casan l'autore che proprio in quei mesi stanno denunciando i loro colleghi di sinistra davanti alla commissione per le attività anti-americane sono quelli gli anni del macartismo della caccia alle streghe indetta appunto dal senatore Joe McCarthy sono gli anni della guerra fredda in cui l'America vede fantasmi comunisti dappertutto nelle università nel giornalismo fra gli attori e i registi del cinema Elia Casan comunista in crisi di identità è stato espulso dal partito nel 1951 è un po' per rivalsa un po' per la paura di perdere la cittadinanza americana un po' per senso del dovere proprio in quell'anno mentre ritira l'Oscar per fronte del porto si siederà davanti alla commissione che indaga sulle attività anti-americane e farà i nomi di chi ha militato insieme a lui nel partito comunista americano una denuncia una delazione se volete una rivelazione che costerà cara sia a lui sia alle persone denunciate sui denunciati cadrà la mannaia della caccia alle streghe molti perderanno il lavoro o dovranno lavorare sotto falso nome o ripareranno all'estero su di lui cadrà il risentimento di quasi tutto il mondo del cinema soprattutto di quel cinema che lui stesso aveva contribuito a fare grande nel 1999 Elia Casan compiva 90 anni e l'Academy Award di Hollywood decise di assegnargli un Oscar alla carriera lui era nato a Costantinopoli si chiamava in realtà Kazanioglus era sbarcato come tutti gli emigranti a Ellis Island negli Stati Uniti insieme ai genitori quando aveva soltanto quattro anni si era americanizzato era diventato Kazan aveva portato sulle scene di Broadway le migliori opere di Arthur Miller e di Tennessee Williams aveva vinto il suo primo Oscar nel 48 con Barriere Invisibile il titolo originale è interessante perché era tutt'altro si chiamava Gentleman's Agreement aveva scovato Marlon Brando in quegli stessi anni scoverà James Dean ne parleremo domani di formazione ruoseveltiana comunista ed ex comunista continuò per tutta la vita ad avere un atteggiamento molto ambivalente verso quel gesto di denuncia e di delazione dei suoi antichi compagni da un lato pensava di aver fatto il suo dovere di cittadino americano dall'altro personalmente psicologicamente se ne vergognava e quella notte degli Oscar di tre anni fa quando come si fa nei confronti dei grandi e degli immortali al momento della consegna del premio tutti si alzano in piedi quel momento che si chiama pomposamente la standing ovation di fronte a quell'uomo gracile piccolo di statura con i capelli candidi e il sorriso incerto di un ex emigrato ci fu a distanza di quasi cinquant'anni chi si rifiutò di alzarsi in piedi e di applaudirlo primo fra tutti Warren Bitti un attore che lui aveva contribuito a far nascere con splendore nell'erba ferite brucianti che avevano segnato molte vite e compromesso parecchie carriere che il tempo forse si aveva offuscato ma non aveva ancora cancellato eppure Casan per tutti gli anni che verranno dopo quel fatidico 1954 per tutti gli anni 60 e 70 continuerà a fare film che in qualche misura rilanciano il tema del tradimento il tema del compromesso il tema della difficile identità degli sradicati il tema dell'uomo diviso tra fede e dovere tra coscienza e lealtà soprattutto in America America un film che in italiano si intitolava il ribelle dell'Anatolia film del 63 peraltro quasi autobiografico lui greco di Turchia con un nome ebreo rende omaggio alle minoranze ai popoli in fuga all'esilio soprattutto all'integrazione basti pensare al finale di quel film veramente glorioso un film peraltro bellissimo anche se è andato molto male in questo finale si vede una folla di derelitti turchi armeni curdi che toccano finalmente il suolo americano e salgono un'immensa scala di marmo baciando i gradini e trascinando i loro poveri fagotti come dire siamo piccoli poveri emigrati rendiamo onore al paese che farà di noi dei cittadini liberi e di questo paese questo è il senso del messaggio che ci manda Kazan rispetteremo le regole e le leggi regole e leggi che lui ha interpretato e rispettato fino alle estreme conseguenze sia nelle sue scelte di vita che di lavoro il suo travaglio artistico e umano e politico non ha veramente nulla di meschino anzi è una delle massime testimonianze dell'incertezza della modernità quanto a Marlon Brando Divo Immortale il suo prossimo Oscar dopo quello di fronte del porto lo avrà nel 1973 con il padrino lui però non andrà a ritirarlo al suo posto manderà una giovane Apache per spiegare il suo rifiuto politico del premio per via delle discriminazioni di Hollywood verso i nativi americani Marlon Brando anche nel declino rimane grande e unico nonostante l'età i suoi cento e più chili di peso una storia familiare sconvolgentemente tragica una figlia suicida un figlio accusato di omicidio nonostante molti brutti film fatti per ragioni puramente economiche e alcune apparizioni geniali come per esempio quella del colonnello Kurz in Apocalypse Now Brando quell'attore che come dicevano i critici negli anni 50 ha cambiato per sempre l'arte della recitazione anche nelle sue scelte più estreme non è mai patetico non è mai ridicolo con i capelli bianchi con l'andatura incerta e claudicante lui continua a fare Marlon Brando è praticamente l'icona di se stesso nei film che interpreta nella pubblicità la quale si presta con disinvoltura nelle sue scelte di vita privata qualche anno fa ha presentato domanda all'ONU per ottenere il permesso di qualificarsi re delle quattro isole polinesiane da lui acquistate nel 56 in quelle isole di fatto lui è già un re ha istituito sanità e istruzione gratis per tutti gli abitanti paga lui ha istituito un'indennità per chi superati i 70 anni non abbia più voglia di lavorare paga sempre lui e ha legalizzato la poligamia lui personalmente ha sette mogli locali la sua compagna occidentale che ha sposato qualche anno fa vive a Londra ed è molto molto contenta di dividere Brando con altre sei mogli è il tipo di donna che mi è sempre piaciuta dice lui di lei schiava a letto e regina nel sociale l'ho conosciuta quando veniva a fare le pulizie a casa di mio figlio aveva 22 anni e io circa 50 più di lei l'ho guardata muoversi e le ho detto sei consapevole di essere una dea? lei ha abbassato gli occhi e mi ha risposto sì padrone voi permettendo lo sarò le sue carognate sono così paradossali che quasi tutti gliele perdonano non Francis Ford Coppola però che alla fine delle riprese di Apocalypse Now gli chiese di rifare due scene un paio di giorni se lo fai per me per amicizia e lui al telefono gli ha risposto per gli extra Brando prende un milione di dollari al giorno Coppola pagò la leggenda vuole di tasca sua ma anche lì finì la loro amicizia del resto la miglior definizione di se stesso l'ha data proprio lui io non sono uno snob ha detto di se stesso io sono un re un re che da quasi 50 anni illumina il regno del cinema e non è mai stato eguagliato né superato nemmeno da James Dean che nonostante la morte precoce non è riuscito a sottrargli lo scettro domani parleremo di lui di James Dean e della sua mitica apparizione a domani dunque alle 8 della sera su Radio 2 alla notizia della sua morte alle 17.58 del 30 settembre del 1955 ragazzi di tutto il mondo si sono abbandonati a scene di disperazione e di incredulità e mentre la polizia stava ancora mettendo insieme i cocci della sua magnifica Porsche Spyder andata in frantumi insieme a lui c'era già chi avanzava il sospetto che James Dean non fosse morto c'era chi lo voleva a tutti i costi sopravvissuto all'incidente magari sfigurato o rinchiuso in un manicomio in ogni caso vivo il simbolo dei Dean Agers gioco di parole tra teenagers adolescente e Dean Agers appunto non poteva e non doveva morire lui è letteralmente il primo fenomeno di isteria giovanile collettiva tre soli film girati in due anni tra il 1953 e il 55 eppure anche se non sapremo mai se era un buono o un cattivo attore se sarebbe diventato un professionista del cinema o no a distanza di quasi 50 anni dalla sua morte si continua a pensare a James Dean come all'attore simbolo al Che Guevara del disagio giovanile nel cinema pre-hippie e pre-sessantottino perché? intanto perché c'era una totale sintonia tra la sua personalità privata e i ruoli che interpretava poi perché la sua vita i suoi amori le sue disperazioni le sue solitudini erano lo specchio ingigantito di una condizione giovanile ormai diffusa anche se per il momento ancora nascosta clandestina Dean non aveva bisogno di essere un attore perché era molto molto di più era come tutti lo definivano il ragazzo che non sorrideva mai uno di noi un mito un mito che non vive per quello che fa ma in ciò che gli altri vedono in lui era nato nel 1931 in una cittadina dello stato dell'Indiana ad appena nove anni nell'autunno del 40 sua madre muore davanti a lui all'improvviso shock psicologico si trasferisce immediatamente dagli zii è sempre più malinconico e solitario a scuola legge Shakespeare e Byron per i suoi amici un giorno mentre declama ad alta voce una poesia di Byron il professore lo interrompe un po' bruscamente lui non sopporta quell'intrusione si scaglia contro di lui e lo picchia a sangue ovvio che viene cacciato dalla scuola deve persino cambiare città va a Los Angeles prende lezioni di recitazione e si innamora per la prima volta di una simpatica ragazza Beverly Willis figlia di un'attrice lei lo trova simpatico ma è letteralmente terrorizzata dai suoi sbalzi di umore lo lascia per disperazione Jimmy scappa a New York e qui come una pera matura casca nell'Hactors Studio una buona segnalazione dall'insegnante di Los Angeles se viene ammesso all'esame naturalmente è spaventato nervoso in preda al panico ma quando è di fronte Alice Strasberg e Delia Casan sembra che abbia il diavolo in corpo e non solo viene ammesso ma lascia il suo segno indelebile come vuole la leggenda per pagarsi i corsi e gli studi fa un po' tutti i mestieri il lavapiatti il fattorino l'uomo sandwich si lava poco indossa abitualmente dei blue jeans sdruciti e pieni di macchie va in giro con una scimmietta di peluche che gli dondola dal polso appesa ad un elastico ha appena 21 anni legge Genet suona il tamburo africano e il suo mito è Marlon Brando lui stesso viene definito uno dei Brando Boys un seguace ma le porte della leggenda si stanno aprendo un film da protagonista e un amore non corrisposto gli daranno gloria istantanea il primo dei tre film che lo consegneranno all'immortalità è La Valle dell'Eden tratto da un romanzo di Steinberg e affidato alla regia di Elia Kazan che lo aveva come abbiamo detto prima già adocchiato ed apprezzato all'Actors Studio il suo personaggio è naturalmente quello di un adolescente ipersensibile che si sente trascurato da papà e che starà ancora peggio quando scoprirà che la mamma creduta morta fa invece la maîtresse in un bordello non lontano dalla città in questo film con l'aiuto di Kazan e con l'esperienza dell'immedesimazione stanislavskiana James Dean mette a punto la sua leggendaria camminata man in tasca andatura ciondolante è tutto un soffrire uno star male un non dire per dire eccetera eccetera è l'estate del 1954 la lunga estate calda della sua breve felicità conosce una giovane attrice italiana che vive a Hollywood Anna Maria Pierangeli si innamora di lei per lei abbandona momentaneamente i jeans e indossa abiti più tradizionali con lei passeggia mano nella mano lungo il Sunset Boulevard ma lei il 24 novembre del 1954 sposerà il cantante Vic Damone le cronache dell'epoca riferiscono di un James Dean sull'orlo di una crisi di nervi parlano di lui a cavallo di una motocicletta piantato davanti alla chiesa del buon pastore dove si stava celebrando il matrimonio e descrivono la scena di un James Dean che quando gli sposi escono sul sagrato lui che fa fa ruggire il motore della sua moto e con una spettacolare impennata esce di scena a tutto gas lupo solitario come veniva chiamato non è soltanto un attore di successo è un ragazzo infelice che soffre e questo piace ancora di più poi naturalmente arriva il film giusto al momento giusto Rebel Without a Cause Ribelle senza causa in italiano con il suo bel titolo si chiama Gioventù bruciata lui in questo film sarà Jim Stark un ragazzo che disprezza il padre vessato dalla moglie che fa a botte volentieri che spesso finisce al posto di polizia per ubriachezza molesta ama la ragazza di un altro Judy una fantastica e giovanissima Nathalie Wood in un crescendo di liti in famiglia interrogatori al posto di polizia scontri tra gang di bulli eccetera eccetera si arriva alla scena clou del film quella della sfida con le macchine la cosiddetta Chicky Run la corsa del coniglio si tratta di lanciare un'automobile a tutta velocità verso la scogliera e quindi buttarsi fuori dall'auto poco prima che questa precipiti i fari delle automobili illuminano il bordo del precipizio i ragazzi sfidano la vita per una pura questione di orgoglio e in questa scena il nemico di Jim Stark ci rimetterà le penne e inizieranno per lui altri guai fino al bellissimo e melodrammatico finale ambientato nella sala della conferenza sulla fine del mondo dove il personaggio di Plato Salmineo ci rimetterà la pelle per un colpo di pistola sparato dalla polizia e James Dean in lacrime si butterà sul suo cadavere e si strazierà alla maniera di Stanislavski dicendo più e più volte ehi testone testone perché l'hai fatto il film è una sorpresa clamorosa mette in scena la gioventù che si deve bruciare per non arrendersi alle regole dei padri e i padri rimangono sconvolti i figli invece si sentono finalmente rappresentati è il mondo dei teenagers anzi dei teenagers che con questo film inizia la sua lunga lunga marcia verso il 68 e James Dean con questo film sarà per sempre il primo dei ribelli Rolf Wuterich era un brillante meccanico tedesco che negli anni 50 la Porsche aveva mandato a Hollywood per occuparsi della manutenzione delle sue macchine che in quegli anni molti produttori registi e attori famosi avevano cominciato ad acquistare Rolf Wuterich era seduto accanto a James Dean sulla Porsche Spyder che si è schiantata sulla strada 466 nei pressi di Salinas in quel fatidico pomeriggio del 30 settembre al contrario di James Dean si salvò la vita ma non certo la sua tranquillità psicologica migliaia e migliaia di fans lo perseguitarono per mesi e per anni accusandolo di essere la causa della morte dell'attore dovete lasciare gli Stati Uniti e tornare in Germania perseguitato non solo dalle persone ma anche dai suoi stessi sensi di colpa e dal fantasma dell'attore diventò completamente pazzo in un raptus uccisa addirittura sua moglie e finì in un ospedale psichiatrico col passare degli anni si è ripreso ha ricominciato a occuparsi di corse automobilistiche ha aperto un'impresa di pulizie a Stoccarda e verso la metà degli anni 60 ha ricominciato anche se con molta cautela a parlare di quei fatti di allora e ha scritto addirittura una testimonianza sul suo breve ma intenso rapporto con James Dean e ha ricostruito infine la fatidica giornata del 30 di settembre lui e Dean si erano incontrati al Grand Prix un bar sul Sunset Strip dove Jimmy andava spesso a bere milkshake Jimmy l'aveva visto sapeva chi era e gli aveva detto subito parlami della mia baby la baby era una Porsche Spyder nuova fiammante appena arrivata dalla Germania 1500 di cilindrata 7000 dollari di costo dell'epoca severo il detto donne motori gioie e dolori nulla di più vero nella breve vita infelice di James Dean comprò la macchina la provarono insieme è una bomba disse James Dean la voglio la voglio trattare bene come una baby lo ha lesse a suo meccanico particolare voleva a tutti i costi partecipare il 2 di ottobre ad una corsa che si sarebbe svolta a Salinas però stava finendo di girare il gigante e il contratto che aveva con i produttori del gigante gli proibiva di usare auto da corsa fino alla fine delle riprese evidentemente lo conoscevano ma lui come riferisce Buterich nel suo racconto voleva scendere in pista a tutti i costi e con la complicità del meccanico decise di violare quella clausola il resto del racconto sembra veramente la scena di un film di quegli anni la nazionale 466 deserta Jimmy al volante che forza troppo l'andatura il caldo il sole che picchia Vuterich che si appisola quindi una Ford che taglia la strada freni che stridono botto e Jimmy laggiù tra le lamiere accartocciate della Porsche morto sono le 17.58 del 30 settembre 1955 lui ha appena compiuto 24 anni non abbiamo ancora parlato del regista di gioventù bruciata di Nicola Srei se questo film nonostante gli anni la sua sociologia un po' datata e un'intensità troppo legata a quel momento storico rimane dicevo un film esemplare ancora oggi il merito è soprattutto suo di Nicola Srei era lo abbiamo già detto anche l'autore del soggetto che peraltro ebbe l'Oscar come miglior storia originale era un autore molto eccentrico con una grande sensibilità verso gli attori sapeva come farli funzionare del resto anche lui veniva dall'Actor's Studio ed era grande amico di Elia Casan questa è una grande cucina del cinema di quegli anni se pensate che Salmineo e Nathalie Wood ebbero l'Oscar come migliori attori non protagonisti ed erano dei giovanissimi attori all'epoca capirete anche come Nick Ray li sapeva manipolare usare al meglio soprattutto Ray possedeva una grande sapienza cinematografica che riusciva a dare visionarietà ai simboli riusciva a dare immaginazione a quella sociologia tucur di cui gioventù bruciata peraltro è sovraccarico un esempio classico è l'inizio del film l'immagine iniziale quando James Dean ubriaco e in attesa di essere interrogato al posto di polizia chiacchiera con la sua scimmietta insomma Nick Ray era un americano del Midwest che come il suo compagno di infanzia Joseph Losey troverà comprensione stima e considerazione più in Europa che negli Stati Uniti non a caso alla fine degli anni 50 verrà a vivere in Europa anche se diversamente da Losey i suoi film migliori i suoi film più grandi saranno quelli e rimarranno per sempre quelli che ha fatto in patria che non sono soltanto gioventù bruciata l'anno successivo il 56 l'anno dopo gioventù bruciata Nick Ray firma uno dei più bei western barocchi fatti in quegli anni Johnny Guitar dove una magnifica John Crawford Vienna proprietaria del Saloon canta per Sterling Hayden la famosa indimenticabile canzone Play it again play it for me my Johnny regista culto dei cineasti europei degli anni 60 e 70 diventa grande grandissimo amico di Wim Wenders e per lui farà l'attore nel film l'amico americano Nicholas Ray è il personaggio del bandito Derwatt tornato negli Stati Uniti si ammalerà di cancro e consentirà al suo amico Wenders di filmare la sua malattia la sua agonia la sua morte Nick's Movie Lampi sull'acqua si chiama infatti il film che si conclude appunto con la morte del regista nel 1979 erano questi registi attori e scrittori di un'epoca irripetibile un'epoca dove gente ha saputo creare le regole fantasiose e oniriche della nostra fantasia cinematografica non a caso il termine cult movie nasce proprio negli anni 50 e cult movie non vuol dire il film che ci piace vuol dire il film che ci rappresenta e che rappresenterà le generazioni a venire io per stasera vi saluto e vi lascio e vi do appuntamento a domani alle 8 della sera su Radio 2 grazie per essere stati con noi e buona serata alla fine degli anni 50 il modello dell'attore nevrotico e anticonformista ha decisamente spiazzato il vecchio mito hollywoodiano del divo esemplare alla Cary Grant alla James Stewart bande di Brando Boyce e seguaci di James Dean si affacciano negli studios per fare provini per dimostrare la loro bravura ribelle il loro talento di squilibrati e disagiati sono centinaia nessuno però è in grado di raggiungere il tremendo carisma di un Marlon Brando o l'immortalità di James Dean che essendo morto è ormai decisamente irraggiungibile per un breve momento però ci riuscirà Anthony Perkins e ci riuscirà con un solo film Psycho anche se il personaggio che interpreta lo incatenerà per sempre ad un cliché che farà di un bravo attore come lui un condannato a dei ruoli estremi per tutta la sua vita professionale Norman Bates lo strano proprietario di quel motel fuorimano e un po' gotico come usava dire Hitchcock sarà il fantasma persecutorio della sua carriera eppure tutto era cominciato sotto i migliori auspici nel 1959 all'epoca in cui Hitchcock iniziava la preparazione del film Anthony Perkins non era ancora una star né tantomeno ambiva ad esserlo era un ottimo attore di teatro nato a New York nel 32 e Broadway era il suo naturale luogo di lavoro all'inizio degli anni 50 aveva ottenuto grandi soddisfazioni interpretando la commedia di Robert Anderson tè e simpatia e nel cinema c'era arrivato con un piccolo ruolo nel 1953 accanto a Gene Simmons in un film di Kugor che si chiamava L'attrice non è ancora il film che lo farà notare alla critica al pubblico e agli addetti ai lavori il film che lo segnalerà veramente è un film che si intitola L'uomo senza fucile di William Wyler ambientato durante la guerra di secessione ha per protagonista Gary Cooper ma la partecipazione di Perkins in un piccolo ruolo quello di Josh il ragazzo pacifista che imbraccerà il fucile gli varrà una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista e a quel punto gli occhi di Hitchcock si puntano su di lui quel ragazzo non ancora trentenne tutto allampanato con lo sguardo fisso e i gesti insicuri da giovane nevrotico sembra proprio pane per i suoi denti lui Hitchcock ha appena acquistato i diritti del romanzo horror di Robert Bloch i dirigenti della Paramount però con i quali lui abitualmente lavora non sono molto entusiasti di questa storia di un albergatore pazzo che accoltella i clienti e gli negano il Technicolor il grande budget e le star internazionali quindi niente Cary Grant Gregory Peck Kim Novak eccetera vive ai quali lui è ormai abituato Hitch accetta la sfida e cosa fa? Decide di produrre il film di tasca propria realizzandolo con la troupe televisiva ridotta con la quale da cinque anni sta confezionando i suoi telefilm della serie Alfred Hitchcock presenta lo fa lui lo produce lui lo dirige lui al 28enne Anthony Perkins viene offerto un compenso di 40 mila dollari senza nessuna clausola speciale a suo favore ovviamente Perkins accetta senza esitazione e da bravo professionista qual è? si lascia plasmare dal grande Hitchcock trasformandosi in un Norman Bates così convincente così perfetto che in un colpo solo riuscirà a diventare un divo famosissimo e purtroppo va detto il perenne ostaggio del proprio personaggio persino la sua morte nel 1992 di AIDS a 60 anni appena compiuti sembra la morte di Norman Bates del suo personaggio dicevamo prima che la Paramount non era affatto entusiasta del progetto di Hitchcock di fare un film da romanzo di Bloch lui stesso Hitchcock nella famosa intervista rilasciata a Truffaut dirà che il romanzo non è che gli piacesse un gran che l'aveva trovato parole di Hitchcock vergognosamente falso ma una cosa gli era piaciuta e l'aveva convinto anzi spinto a fare il film il modo improvviso in cui avviene l'omicidio sotto la doccia è un modo dice Hitchcock del tutto imprevisto un omicidio che è come uno stupro ed è per questo che ho deciso di fare il film non solo decide di fare il film ma decide di rischiare in proprio e con i suoi soldi personali 800.000 dollari tanto è il costo del film investimento che gli farà incassare nel corso di qualche anno 15 milioni di dollari il miglior investimento di tutta la sua vita se come diceva sempre lui con tipico humor inglese per alcuni i film sono dei pezzi di vita per me sono soltanto dei pezzi di torta qui si tratta di una torta tutta intera perché mai un film di Hitchcock ha incassato così tanto fino ad ora cosa c'è di nuovo in psycho rispetto ai precedenti suoi film insieme alla scandalosa sensualità alla patologia freudiana e all'horror tutt'altro che classico Hitchcock in questo film aggiunge un'inventiva tecnica a dir poco veramente strepitosa basterebbe da sola la scena dell'assassinio di Janet Lee nella doccia del motel per consegnare questo film al culto è stata girata per sette giorni ha richiesto 80 spostamenti di macchina vale a dire un'ottantina o poco più di inquadrature per un totale di 45 secondi di film montato scena scioccante violentissima dove però dove però non si vede mai il sangue né il corpo nudo della protagonista né quello dell'assassino tutto si svolge in un frenetico montaggio se pensate che 80 inquadrature come abbiamo appena detto per 45 secondi di montato fanno una media di 2 inquadrature al secondo capirete come la velocità frenetica del montaggio e la capacità tecnica del regista di manipolare e di miscelare insieme queste immagini sia strepitosa il coltello dell'assassino non tocca mai il corpo della vittima eppure l'inganno ottico del montaggio la sua velocità ci fanno credere il contrario altra strepitosa ingegnosità non si vedono mai le parti tabù del corpo della donna all'epoca bisogna pensare che erano vietatissime e come ha fatto Hitchcock ha ripreso a rallenti alcune inquadrature del corpo di Janet Lee oppure della controfigura in modo per esempio da non avere mai i seni nell'immagine o altre parti ancora più intime del corpo e poi li ha inserite nel montaggio solo che il montaggio è talmente veloce che l'inserimento di queste inquadrature rallentate dà l'impressione di una velocità normale è un film che mi appartiene più di tutti quelli che ho girato dirà Hitchcock a Truffaut è il film di noi registi dove il modo di costruire una storia è di gran lunga più importante della storia in sé e della sua recitazione naturalmente Hitchcock mente la storia la sceneggiatura di Psycho contiene tutte le astuzie tutti gli inganni tipicamente Hitchcockiani diviso in tre parti il film inizia con una protagonista Marion Janet Lee che si appropria di 40.000 dollari che il suo datore di lavoro l'aveva incaricata di depositare in banca e fugge via da Phoenix Arizona vi ricordate il cartello dell'inizio ebbene fugge in auto fa una serie di errori di maldestraggine se volete che ci dimostrano quanto non sia né una ladra né un'avventuriere innamorata in cerca di una nuova vita è come ci suggerisce Hitchcock una di noi una borghese ordinaria e quindi ci è simpatica e probabilmente l'autore vuole ci sta suggerendo di identificarci con lei quando cala la notte decide di sostare in un motel fuori mano dove da quando hanno costruito l'autostrada non passa più nessuno e il proprietario Norman Bates è quello strano meraviglioso inquietante Anthony Perkins vive tra uccelli impagliati inspiegabili timidezze la invita a cena e le racconta della sua vecchia mamma che adora e che lo tratta come se fosse ancora un bambino e lui lui proprio come un bambino le confessa tra una cucchiaiata e l'altra il miglior amico di un uomo è la propria madre cosa farci bisogna avere pazienza dopo cena lei decide di farsi una doccia prima di dormire e come ben sappiamo viene uccisa da quella strana sagoma femminile forse appunto la madre di Norman Bates quella che Hitchcock ci ha finora spacciato per la protagonista del film e ci ha invitato quindi a identificarci con lei è morta a poco più di mezz'ora dall'inizio del film e qui inizia la seconda parte che è la parte tutta affidata a Norman Bates appunto a lui spetta il compito di farci credere che la madre sia la vera assassina e a convincerci che farà di tutto per scagionarla per amore la vorrà e la dovrà scagionare quindi che fa mette scrupolosamente in ordine il luogo del delitto pulisce tutto prende valigia denaro vestiti corpo della protagonista caccia tutto nel baule della sua macchina e lascia sprofondare l'automobile in uno stagno quando l'auto sparisce anche noi tiriamo un sospiro di sollievo la mamma di Anthony Perkins è salva a questo punto entra in scena la sorella di Marion Leila che nel film è Sarah Miles lei e Sam l'amante di Marion non credono affatto alla fuga a scopo di rapina e invece di rivolgersi alla polizia chiamano un detective privato e lo incaricano di occuparsi del caso naturalmente anche Arbogast il detective finirà con un paio di coltellate all'altro mondo e a questo punto c'è la terza e ultima parte che è quella delle rivelazioni dallo sceriffo Leila e Sam verranno a sapere la notizia più importante e cioè che la madre di Norman Bates è morta dieci anni fa loro rischiano la vita tornando al motel e scoprono la semplice verità Norman Bates è l'assassino è lui malato e schizofrenico che veste gli abiti femminili della madre per uccidere che indossa la sua parrucca per essere contemporaneamente se stesso e la madre defunta un irreprensibile figlio e una madre assassina un incubo edipico che sembra un vero e proprio caso clinico freudiano tutte le prossime tematiche alla moda negli imminenti anni 60 il non detto l'oscuro l'inconscio il rimosso eccole qua servite con qualche anno d'anticipo su un piatto d'argento in un prodigio di ingegneria tecnica e di talenti naturali cosa dire di Hitchcock che già non si sappia che amava apparire in tutti i film che faceva in caccia al ladro per esempio è seduto su un camion al fianco di Cary Grant nell'uomo che sapeva troppo e di schiena davanti agli acrobati arabi nella donna che visse due volte attraversa la strada nel caso Paradin trasporta un violoncello in Notorious beve un bicchiere di champagne e in Psycho sta impalato su un marciapiede con un cappello texano in testa Hitchcock era come ha detto Martin Scorsese un esempio assoluto di come sia possibile fare un film dentro e con le regole dello studio system e nello stesso tempo essere un vero e proprio autore differentemente da Orson Welles per esempio che dal sistema Hollywood è stato totalmente stritolato lui invece ci si era perfettamente accomodato il mago del brivido come viene comunemente definito sosteneva di avere un'unica paura che il mio prossimo film non sia bello quanto il precedente un'unica missione far emergere l'inferno che è dentro di noi e un solo dovere progettare film come Shakespeare costruiva le sue commedie vale a dire per il pubblico non stimava e mal sopportava gli attori che facevano troppe domande ad un'attrice per esempio che gli chiedeva quale fosse il suo profilo migliore lui con cattiveria tipica inglese rispondeva mia cara ma lei è seduta sul suo miglior profilo aveva una certa vocazione didattica e molto volentieri spiegava il senso di quello che faceva a Truffaut per esempio ha raccontato con enorme dovizia di dettagli la differenza che c'è in un film tra la sorpresa e il suspense e faceva questo esempio esempio due persone conversano normalmente non succede nulla di speciale e ad un certo punto boom scoppia una bomba e questa è una sorpresa nel suspense due persone sono sedute allo stesso tavolo la bomba è sotto il tavolo dove si sta svolgendo la conversazione ma il pubblico lo sa il pubblico è informato della bomba e dunque la conversazione prende tutto un altro tono tutta un'altra aspettativa era Hitchcock il più grande genio del thriller l'uomo il regista che più di ogni altro ha saputo raccontare l'attesa l'attesa che accada qualcosa che ognuno di noi dentro di sé vorrebbe che non accadesse questo è il suspense la disgrazia il delitto la bomba appunto che è innescata sotto il nostro tavolo quella bomba che in psycho non è un evento esterno non è una minaccia orchestrata dall'assassino è invece la moderna angoscia che c'è dentro di noi è il disagio della civiltà è l'ultima immagine del film Norman Bates avvolto in quella povera coperta che sussultando parla con la voce femminile della madre e rimprovera e sgrida quel bambino che è dentro di lui i ragazzi disturbati dei prossimi anni sessanta si preannunciano così e questo disagio sarà presto raccolto anche dai cineasti europei che dalla fine degli anni cinquanta e per tutti gli anni sessanta ci regaleranno dei film indimenticabili cominceremo proprio da loro anzi da noi italiani lunedì prossimo alle otto della sera su radio 2 già il titolo si annuncia molto molto promettente la dolce vita la douceur de vivre the street life dura quasi tre ore e racconta anzi documenta la vita debosciata di una Roma mondana cinematografare e intellettuale vista e fotografata con gli occhi di un giornalista scandalistico che è un po' uno scrittore mancato e che da questa vita si lascia attrarre e sedurre una Roma come dire come Babilonia tra via Veneto e la cupola di San Pietro tra feste di nobili e orge notturne tra inseguimenti di paparazzi e bagni nella fontana di Trevi il 5 di febbraio del 1960 al cinema Capitol di Milano viene presentato il film in anteprima mondiale e alla fine della proiezione Federico Fellini e Marcello Mastroianni vengono accolti da urla e da sputi ci salviamo astento dal linciaggio commenterà più tardi il regista benché difeso dai gesuiti e dal cardinale Siri il giornale del Vaticano l'osservatore romano punta il dito accusatore contro il film gli dedica una serie di articoli 6 o 7 via via intitolati in maniera sempre più minacciosa la vita schifosa la vita sconcia basta eccetera eccetera articoli si dice scritti dal futuro presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro si invita la censura a intervenire contro un film che propaganda il vizio e getta un'ombra caluniosa sulla popolazione romana sulla dignità di Roma capitale d'Italia e del cattolicesimo ci sono varie varissime interrogazioni parlamentari l'Ansa del 17 febbraio 1960 alle ore 19 e 30 di sera dirama il seguente comunicato gli onorevoli Quintieri Pennacchini e Negroni hanno chiesto al presidente del consiglio e al ministro degli interni se sono a conoscenza del film e delle vibranti proteste di persone e associazioni preoccupate che la rappresentazione di un mondo moralmente deteriore possa gettare un'ombra caluniosa sulla popolazione romana e italiana Fellini è costretto a difendersi La dolce vita dice per me è un film che lascia in letizia e con una gran voglia di nuovi propositi intanto però interviene la censura il film viene proibito a tutti i credenti pena la scomunica ma il pubblico invece corre a vederlo incassa due miliardi e duecento milioni di allora una cifra più o meno equivalente a una quarantina di miliardi oggi diciamo venti milioni di euro e a maggio al festival di Cannes la giuria presieduta da Georges Simenon e che ha tra i suoi membri anche lo scrittore americano Henry Miller assegnerà alla dolce vita la palma d'oro 1960 il film di Fellini bersagliato in patria dal mondo cattolico e dalla critica più miope inizierà da qui da Cannes il suo lungo interminabile viaggio verso una gloria che non finirà mai di riconfermarsi le frenesie notturne nella via Veneto ricostruita nel teatro 5 di Cinecittà da un magnifico scenografo Piero Gerardi diventano semplicemente un mito già nel 1961 un dizionario americano contiene i termini paparazzo parola inventata dagli sceneggiatori del film e dolce vita insomma la dolce vita tanto odiata dai cattolici ha dimostrato e sta dimostrando che la Roma ruggente degli anni 50 e 60 è la città dove si specchiano gli umori la volgarità il cinismo e i falsi ideali di tutte le prossime metropoli moderne cosa c'era di tanto scandaloso nella dolce vita? a rivederlo oggi assolutamente nulla zero anzi certe battute e certi comportamenti soprattutto certi comportamenti femminili appaiono addirittura un po' naif la storia poi senza il decor la fantasia l'immaginosità di quel fellini diavolo e dei suoi attori potrebbe apparire più un documentario un lunghissimo cinegiornale più che un film e in effetti però la struttura del film è proprio quella c'è un giornalista romagnolo Marcello Rubini che sogna velleitariamente di poter diventare uno scrittore un intellettuale intanto però sfanga la giornata anzi la nottata facendo il cronista mondano per un rotocalco scandalistico la sua professione la sua curiosità i suoi spostamenti lo portano ad essere il punto di vista del film la macchina da presa è un po' il suo sguardo che vaga si sposta struscia nella cafe society della città fino anni 50-60 ha un'avventura sentimentale con Maddalena a Nuckeme un'aristocratica alla ricerca di emozioni forti a una fidanzata Emma Yvon Furno che è gelosa a morte e gli fa delle scenate si potrebbe dire da futura moglie infatti tenterà per lui il suicidio incontrerà per motivi di lavoro la meravigliosa unica Silvia Anita Egberg diva in lite con tutti i suoi fidanzati che passerà qualche ora notturna insieme a lui con tanto di bagno nella famosa fontana di Trevi e non mancherà naturalmente l'incontro specchio con l'intellettuale stimato e realizzato Steiner un eccezionale Alain Cunin Steiner è un po' quello che Marcello vorrebbe essere uno scrittore temuto con una famiglia esemplare ma quel sogno di esistenza ideale durerà nella sua fantasia poco perché Steiner non solo si suiciderà ma lo farà dopo aver ucciso i figli e l'esistenza del cronista Marcello occhio voyeur della dolce vita romana si trascina così tra orge notturne di debosciati come lui che tirano l'alba per ritrovarsi finalmente tutti stralunati e stanchi sulla spiaggia di Fregene dove pescatori tirano a riva uno strano mostro marino e un'innocente ragazzina la giovanissima Valeria Ciangottini sorriderà da lontano nel vento che batte la spiaggia e dov'è lo scandalo nel suicidio di un intellettuale borghese nell'orgia frenetica del finale nello spogliarello iniziale negli aristocratici sinistri e lunari nella visione della Madonna inventata dai bambini lo scandalo è praticamente dappertutto in un'Italia a fine anni 50 che sta portando a termine la sua difficile e faticosa ricostruzione post bellica e che finora è stata intenta soltanto ad autodescriversi virtuosa esemplare assessuata e ipercattolica la dolce vita cosa fa alza il coperchio di questa enorme pentola e mentre ci fa vedere e lascia venire su i vermi contenuti in questa pentola ci sussurra all'orecchio che siamo dei grandi ipocriti e che sarebbe ora di aprire gli occhi e le orecchie troppo per un paese cattolico assopito nel perbenismo clamoroso invece per un mondo non più chiuso nei confini nazionali che si sta aprendo ai favolosi e cosmopoliti anni 60 si dice che sia stata Giulietta Masina a consigliare al marito il nome di Mastroianni per il ruolo di protagonista della dolce vita Marcello e Giulietta Masina avevano lavorato insieme a teatro erano amici e per farlo conoscere a Fellini lo invitò nella loro casa di fregene leggenda o non leggenda pare che Mastroianni dopo una serie di simpatiche chiacchierate e conversazioni con Fellini abbia chiesto di leggere la sceneggiatura e Fellini senza battere ciglio prende un voluminoso copione glielo mette in mano lo apre tutte pagine bianche tranne la prima dove c'era un disegno sapete che Fellini era anche disegnatore che doveva secondo lui rendere l'idea del personaggio una barca in mezzo al mare con un gigantesco pene circondato da splendide sirene commento di Mastroianni personaggio molto interessante accetto subito da allora in poi non si lasceranno mai più erano del resto nati per incontrarsi docile pigro di buon carattere dotato di un'ironia tra il paesano e il cosmopolita Mastroianni è l'attore ideale per chi come Fellini considera il cinema un'opportunità della fantasia un gioco che si improvvisa facendolo una bugia che grazie al sortilegio del suo talento si trasforma in realtà per fare questo più che degli attori occorrono dei complici o ancora meglio dei complici che siano dei bravi attori e Mastroianni è veramente tutto questo forse anche qualcosa di più all'inizio degli anni 50 ha lavorato molto a teatro con Visconti partecipando in vari ruoli alla messa in scena delle più grandi novità teatrali del dopoguerra da morte di un commesso viaggiatore a un tram che si chiama Desiderio ha fatto molto cinema grazie al suo fisico duttile è in grado di essere borghese e proletario intellettuale villanzone grazie alla sua strepitosa fotogenia può tecnicamente muoversi con disinvoltura tra le luci e le ombre dell'inquadratura grazie al suo indubbio talento e alla sua adattabilità può fare ruoli sia comici che drammatici sia grotteschi che realistici una vera eccezione nel panorama italiano di quegli anni e non solo di quegli anni quando arriva a Fregene nel famoso salotto di Fellini per accettare il ruolo di Marcello ha già fatto un grande film le notti bianche da Dostoievski con Maria Schell sempre regia di Visconti ha già fatto due film con Sofia Loren peccato che sia una canaglia e la fortuna di essere donna entrambi diretti da Blasetti e ha appena finito di girare un vero e proprio must della commedia all'italiana i soliti ignoti insomma è un attore affermato stimato pronto a spiccare il volo e arriva appunto la dolce vita quel ruolo di cronista disincantato corteggiatore da corteggiare farà di lui il Latin lover per eccellenza il nostro ambasciatore di seduzione e di bellezza nel mondo intero dive irraggiungibili cascano ai suoi piedi Faye Dunaway farà per qualche anno la pendolare tra Hollywood e Roma pur di vederlo per una notte Catherine Deneuve diventerà la sua compagna per molti anni dandogli anche una figlia ma lui lui Mastroianni rimarrà per sempre il marito di Flora Clarabella una signora che ha sposato nel 1950 e che nonostante vite parallele tradimenti non lascerà mai 160 film nell'arco di più di 50 anni di carriera è un understatement davvero baronetto inglese il mio diceva sempre è un lavoro come un altro la mattina mi alzo e vado sul set come un altro prenderebbe un autobus e andrebbe in ufficio le donne le bacio per dovere di copione altro che latin lover mi rendo conto che la dolce vita ha costituito un fenomeno che è andato al di là del film stesso ha detto una volta Fellini in una lunga intervista e in effetti dal punto di vista del costume la dolce vita rappresenta molto molto di più di un film è un modus vivendi entrato ormai nell'immaginario collettivo un neologismo che fotografa un concetto fino a quel momento inedito del vivere nonostante i futuri immensi successi da otto e mezzo ai clown da marcorda Roma la città delle donne nonostante gli oscar e i riconoscimenti che gli arriveranno da tutto il mondo Fellini non rifarà mai più quella cosa speciale e unica che è stata la dolce vita il documentario perfetto del passaggio di una generazione dallo strapaese alla città per questo più di ogni altro suo film è un film culto chiude gli anni 50 e apre i 60 alla grande spalanca le porte al permissivismo che verrà alle ragazze che faranno l'amore senza chiedere il permesso ai futuri urlatori dei jukebox non dimentichiamo che nella dolce vita c'è Adriano Celentano appena ventenne che interpreta appunto un cantante di rock and roll grande grandissimo Fellini mago e chiromante del cinema che sa intravedere le carte del futuro la mia vocazione diceva è quella di rappresentare quello che vedo quello che mi colpisce quello che mi sorprende aveva fatto il disegnatore sul Marco Aurelio aveva scritto sketch per la radio e per le riviste di Macario aveva fatto lo sceneggiatore con Rossellini e con Germi aveva debuttato nel 1950 firmando una coregia insieme alla Tuada di un film che si chiamava Luci del Varietà aveva fatto la gavetta come si faceva una volta improvvisando tanti mestieri fino a quando non si scopre e non si imbocca il mestiere e la strada giusta aveva già toccato un Oscar nel 56 con La strada e un altro ancora nel 57 con Le notti di Cabiria ne avrà un terzo nel 63 con 8 e mezzo ma nel 60-61 dopo gli attacchi furibondi del mondo cattolico e il consenso internazionale che gli verrà dalla dolce vita potrebbe e potrà permettersi tutto quello che vuole invece lui non lascia e non lascerà mai l'Italia non si allontanerà mai da Cinecittà dal suo adorato Teatro 5 rifiuterà tutte le offerte americane che film potrei fare diceva sempre in una città per esempio come San Francisco gli piaceva come piace a certi grandi starsene a casa tranquillo e immaginare il mondo e provare a metterlo in un sogno molti di questi sogni non è riuscito a realizzarli come per esempio Il viaggio di Mastorna o il suo ultimo progetto un film sulla figura dell'attore che non è mai mai andato in porto era Fellini quel cineasta che si autodefiniva lo schiavo della sua spudorata voglia di raccontare per oggi io ho concluso vi auguro una buona anzi una dolce serata e vi do appuntamento a domani alle 8 della sera su Radio 2 Il protagonista del film Fino all'ultimo respiro A bout de souffle di Jean-Luc Godard si chiama Michel Poicar ma usa lo pseudonimo ungherese di Laszlo Kovac alla domanda meglio il dolore o il nulla lui risponde che preferisce il nulla perché il dolore secondo lui puzza di compromesso siamo nel cinema ai tempi della rivoluzione La fantasia vuole andare al potere e il cinema le presta la sua spada più incisiva quella dello svizzero francese Jean-Luc Godard che con i suoi film vuole cambiare il mondo Fino all'ultimo respiro del 1960 ed è il suo primo lungometraggio Nasce da un soggetto di François Truffaut all'interno di quella agguerrita ondata di nuovi cineasti francesi che si sono opposti al vecchio cinema di papà di René Cler di Clouseau di Carnet eccetera fondando un movimento la Nouvelle Vague che si propone appunto di ricreare il cinema d'autore e ringiovanire lo stanco psicologismo di quella vecchia cinematografia francese hanno una rivista i Cahiers de Cinéma dalla quale sparano a zero su tutto ciò che puzza di vecchio e di tradizione e fino all'ultimo respiro sarà la bandiera fiammeggiante di questo nuovo movimento la storia a raccontarla sembra quello di un qualunque noir americano di serie B c'è un giovane ladro di macchine Michel Poacar alias Laszlo Kovac interpretato peraltro da un giovane irresistibile bravissimo Jean-Paul Belmondo il quale Poacar ruba un'automobile a Marsiglia e si mette in viaggio verso Parigi dove deve incassare dei soldi e rivedere una ragazza americana Patricia Jean Seberg nel film che ha da poco conosciuto e della quale è perdutamente innamorato viaggiando compie un forpasso in zona vietata viene fermato da un poliziotto afferra una pistola che trova per caso nell'auto rubata lo uccide sempre per caso e raggiunge Parigi senza battere ciglio qui riscuote l'assegno rivede la donna amata le propone di fuggire per sempre con lui in Italia la polizia intanto è già sulle sue tracce lo identifica e Patricia diventa personaggio cruciale perché perché un'americana che lavora a Parigi all'Ereal Tribune ha un permesso di soggiorno per lavoro in quasi scadenza e se non dirà dove si trova Michel non potrà certo contare sul suo futuro rinnovo di permesso la situazione evolve rapidamente ed evolve al peggio Patricia è insicura è indecisa non sa cosa fare intanto Michel trova i soldi e un rifugio sicuro lei però lo denuncia anche se poi subito dopo cambia idea ma ormai è tardi la polizia arriva spara Michel cade lei accorre vicino a lui lui la insulta lei dice schifosa lei non capisce lui muore lei si allontana la trama è tutta qui una trama come abbiamo detto prima da noir americano a cui peraltro il film si ispira ma la domanda è dov'è la rivoluzione la rivoluzione come ha detto lo stesso Godard è nel linguaggio e siccome la presunzione non gli ha mai fatto difetto ha anche aggiunto questo film si può paragonare ad Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll un romanzo che riflette su se stesso a Boudesouf è cinema che parla di cinema dunque come dicevamo prima è nello stile nel modo tutto filosofico ed autoreferenziale che dobbiamo cercare le novità rivoluzionarie di questo film fino all'ultimo respiro prima di tutto si gira dal vero in mezzo alla strada non ci si preoccupa se i passanti si fermano a guardare a vedere girare un film tanto è cinema come vuol dire Godard sin dalla primissima inquadratura quindi sia chiaro non passanti comparse non attori presi dal vero come ai bei tempi del nearealismo italiano ma passanti che fanno i passanti incuriositi dalla macchina da presa punto e basta del resto qui in questo film anche gli attori non hanno alcun timore di recitare guardando in faccia la macchina da presa anziché l'interlocutore fino a quel momento fino al 1960 appunto persino nei documentari si fingeva di rivolgersi ad un ipotetico intervistatore qui invece no l'attore fissa l'obiettivo e dice la battuta e per giocare ancora di più al gioco del cinema che parla di cinema Michel farà una serie di cose per esempio comprerà una copia dei cagli di cinema dirà di aver fatto l'assistente in un film a Cinecittà si fermerà a guardare una fotografia di Humphrey Bogart imitando i suoi gesti del resto per quasi tutto il film indossa un trench bianco si passa continuamente le dita sulle labbra fuma una sigaretta dopo l'altra e muore solo e solitario come la narco individualista Bogart sarebbe morto in tanti suoi film la seconda strepitosa novità di questo film è però nel montaggio Godard qui non ha alcun rispetto di quello che nel linguaggio tecnico si chiama il raccordo lui lo spezza lo rompe lo disintegra con una determinazione assolutamente provocatoria ad esempio c'è una sequenza dove si vede la ragazza americana Patricia seduta ad un tavolo di un bar in compagnia di un suo corteggiatore che non è Belmondo questo qua in una inquadratura tira fuori un sigaro da una confezione di carta nell'inquadratura successiva il sigaro è tra le sue labbra ed è spento taglio altra inquadratura il sigaro è acceso ancora un altro taglio il sigaro acceso è nella mano sinistra dell'uomo Godard non si preoccupa della continuità filmica dell'azione anzi teorizza il contrario quello che si chiamerà da adesso in poi il jump cut questo sistema vuole in realtà stigmatizzare un concetto al cinema se un personaggio apre una porta non necessariamente bisogna vedere che la richiude il montaggio serve a portarci dove l'azione più interessante è ad eliminare i passaggi e le zone morte Abu Dessouf è appunto la prima sistematica operazione di distruzione della continuità dell'azione smaschera il cinema confezionato lo sbriciola sotto i nostri occhi e ci racconta una storia magari antica ma con l'ansia frenetica della discontinuità moderna risultato grande successo di pubblico critica che si genuflette ai piedi di Godard incoronandolo maestro i cahiers di cinema scrivono con questo film il cinema lascia l'infanzia ed entra nella sua età matura e consapevole forse nessun regista al mondo può dire di aver influenzato la storia e il linguaggio del cinema più di Jean-Luc Godard adorato come genio oppure odiato e tenuto lontano come la peste Godard è il cineasta che ha fatto del suo mestiere una vera e propria militanza se non addirittura una religione svizzero di origine figlio di un ricco banchiere che ben presto gli taglia i fondi per costringerlo a studiare cresce a Parigi frequentando i cine club del quartiere latino diventa amico di Jacques Rivet di Truffaut di Romer di Louis Malle di tutti quelli che saranno poi i registi della Nouvelle Vague negli anni 50 poco più che ventenne comincia a collaborare come critico cinematografico ai cahiers di cinema diretti dal suo fondatore a quell'epoca vale a dire André Bazin dopo il suo capolavoro d'esordio fino all'ultimo respiro conoscerà per qualche anno un'attività creativa frenetica e quasi geniale con pochi soldi scarsissimi mezzi tecnici realizza dei film memorabili e sconcertanti su vari argomenti che sono come dei saggi sulle donne sull'amore la politica la società i titoli sono tanti Une femme et une femme Vivre sa vie Le petit soldat Bande à part Une femme mariée Pierrot le fou quest'ultimo ancora con Jean-Paul Belmondo lucidità freschezza provocazione e intelligenza sono la linfa principale di questi film gioiello le immagini apparentemente slegate tra di loro sono in realtà pensate organizzate e filmate con una perfezione cinematografica veramente rara ed unica poi però la politica prenderà il sopravvento Godard si radicalizza si lascia trascinare verso una militanza sempre più estrema smette di fare film politici e comincia a fare cinema politicamente di questo periodo che va da prima a dopo il 68 sono film come La Chinoise Weekend Tu va bien che in italiano si chiamava Crepa padrone crepa inutile dire che si tratta di film dove lo smalto iniziale si è già molto appannato lo snobismo ha preso il sopravvento sulla freschezza originaria e il talento di Godard sta diventando sempre più un'arida provocazione per pochi intimi fedeli cinefilm al cinema diceva bisogna usare suoni ed immagini come se fossero unghie e denti su cui graffiare il cinema è come una battaglia amore odio azione violenza in una parola emozione un vero e proprio fustigatore d'immagini negli anni 70 insieme a Jean-Pierre Gorin fonda una società Ziga Viertov dal nome del grande documentarista sovietico per sperimentare in video nuove forme di espressione lavora al laboratorio Sony Image di Grenoble realizza ancora film Prenome Carmine Je vous salue Marie ma nulla potrà mai più raggiungere lo shock dirompente dei suoi inizi il suo se volete è un po' il destino degli iniziatori e dei provocatori necessari anzi indispensabili per rompere le regole del gioco ma invadenti e faticosi quando il gioco diventa fine a se stesso e non abbiamo ancora parlato della meravigliosa faccia di Michel Poincar il ladro di macchine di Abu Dessouffle Michel o Laszlo Kovac che dir si voglia alla faccia straordinaria di un attore nemmeno trentenne che da qui in poi farà molta molta strada Jean-Paul Belmondo prima di arrivare su quel set di scapestrati aveva fatto di tutto il boxeur il calciatore il corridore ciclista nel 1958 aveva debuttato nel cinema con un film di grande successo si chiamava Le Tricheur in italiano Peccatori in blue jeans era una specie se volete di gioventù bruciata a Saint-Germain-des-Prés tra amori infelici nichilismo giovanile peccati d'orgoglio eccetera eccetera il regista era quel Marcel Carnet principale bersaglio dei giovani ribelli della Nouvelle Vague tutto ciò però non impedirà a Godard di affidare a Jean-Paul Belmondo il ruolo di protagonista del suo primo film Bandiera non solo ma gli farà dire persino una battuta autobiografica c'è infatti un'inquadratura in cui Jean-Paul Belmondo è davanti allo specchio e si compiace dicendo a se stesso e alla propria immagine non sono bello però sono un gran boxeur quel ruolo farà di lui l'antieroe la simpatica incorreggibile canaglia che accompagnerà tutti i personaggi della sua lunga carriera una specie se volete di moderno Jean Gabin François Truffaut che era un po' il poeta della Nouvelle Vague troverà infatti per lui delle citazioni vibranti e sontuose dirà infatti Truffaut l'Atalante di Jean Vigot termina con una scena in cui Jean d'Asté di Taparlo si abbracciano sul letto quella notte devono senz'altro aver fatto un bambino e quel bambino è il Belmondo di Abu Dessouffl quel bambino farà molta strada saprà mischiare il cinema d'autore con il cinema commerciale sarà sì l'icona della Nouvelle Vague ma anche Borsalino ma anche il clan dei marsigliesi sarà l'attore di cinema ma anche di teatro lavorerà in Francia ma non solo anche in Italia oltre ad aver suscitato grandi passioni e ad aver avuto una lunga storia d'amore con Laura Antonelli farà un sacco di film come per esempio La Viaccia e La Ciociara con la Loren ne parleremo domani sera insomma non è stato affatto lo schiavo di quel personaggio di spaccone scavezzacollo votato alla morte ma ha saputo costruire la propria lunga carriera professionale con pignoleria con prudenza e con molta molta accortezza ha fatto 97 film ha avuto la legion d'onore è stato Sirano di Bergerac e Lavaro nei nostri occhi però nei nostri occhi della nostra generazione rimarrà per sempre l'immagine della sua corsa traballante in avanti in quel vicolo di Montparnasse dove il giovane Laszlo colpito a morte dalla polizia ruzzò la terra e prima di morire con quella sua faccia di carogna impenitente fa un gesto alla Bogart e dice a lei schifosa ma quel che è ancora più geniale in quel film è che lei tanto non capisce del resto è il 1960 un anno molto molto speciale un anno di svolta nel mondo ma soprattutto nel mondo del cinema domani infatti parleremo ancora di un film del 1960 questa volta italiano a domani dunque alle 8 della sera su Radio 2 il 1960 è proprio un anno d'oro per il nostro cinema italiano in pochi mesi come per miracolo appaiono dei film memorabili l'altra sera abbiamo parlato della dolce vita ebbene in quegli stessi mesi sui nostri schermi nazionali e non solo escono film come L'Avventura Rocco e i suoi fratelli Capò Tutti a casa Era notte a Roma Antonioni Visconti Ponte Corvo e non solo intorno a Natale nel dicembre del 1960 esce un film che in inglese si chiamerà Two Women e che noi in Italia conosciamo come La Ciociara a giugno dell'anno successivo avrà già incassato un miliardo e 550 milioni una cifra record per l'epoca quanto a Sofia Loren avrà il primo Oscar della sua carriera miglior attrice protagonista tratto da un romanzo di Alberto Moravia uscito un paio d'anni prima sceneggiato da Zavattini diretto da De Sica prodotto da Carlo Ponti il film racconta la storia di Cesira Loren appunto e di sua figlia la tredicenne Rosetta nel film interpretata da Eleonora Brown una giovane simpatica italo-americana che poco dopo lascerà la carriera non farà mai più l'attrice siamo a Roma nel 43 sotto i bombardamenti incessanti degli alleati le due donne decidono di sfollare in Ciociaria appunto paesino natale della protagonista tra tedeschi che fanno razzia di uomini e di cibo e gente costretta a rubare per sfamarsi scoprono che la guerra ci rende tutti peggiori conoscono però Michele un giovane idealista interpretato da un magnifico Jean-Paul Belmondo lui Michele è veramente diverso dagli altri a chi dice che i fessi sono quelli che pagano le tasse e vanno in guerra lui risponde dicendo allora io sono fesso naturalmente farà una brutta fine costretto con le armi ad accompagnare i tedeschi che lo prendono in ostaggio perché non conoscono la strada morirà purtroppo proprio nel momento in cui gli americani stanno sfondando il fronte intanto Cesire e Rosetta nell'euforia dell'arrivo degli alleati sono ormai convinte che il peggio sia finito e si mettono in viaggio verso Roma a piedi le attende come ben sappiamo un destino terribile all'interno della chiesa diroccata e ancora fumante di recenti rovine dove si rifugiano per riposare un po' verranno raggiunte da un gruppo di soldati marocchini aggregati all'esercito americano e verranno violentate e stuprate la scena la scena clou si svolge proprio sotto l'altare davanti all'immagine sbilenca e rovesciata di una madonna addolorata e impotente come la faccia strepitosa di Sofia Loren che è costretta ad osservare la traumatica fine dell'innocenza della propria unica figlia da quel giorno in poi non saranno mai più madre e figlia ma saranno due donne two women appunto che avranno bisogno di molto molto tempo per ricominciare a vivere e a volersi bene Cesira sognerà di morire ma vivrà non avrei mai saputo perché la vita è preferibile alla morte dice Loren al suo meglio ma sapevo che dovevo continuare a vivere naturalmente scene madri tutte per lei dolore commozione strazio Hollywood si commuove ed è subito Oscar per la migliore interpretazione femminile che dire che già non si sappia della Loren è la nostra migliore ambasciatrice nel mondo l'emblema di un'Italia povera e verace che si è fatta da sé che ha saputo rimboccarsi le maniche salire ad uno ad uno gli scalini che portano al successo The Italian Cinderella come fu soprannominata negli Stati Uniti negli anni 50 quando vantava sui giornali americani le sue impeccabili misure petto 95 vita 58 fianchi 95 è infatti negli anni 50 che il suo mito si sviluppa e si consolida fino a quel momento Sofia Scicolone nata a Roma nel 34 ma cresciuta a Pozzuoli ha fatto tante cose ma non ha ancora sfondato ha dieci anni quando Napoli viene liberata dagli americani e lei sembra l'emblema della sua città ferita e stremata dalla resistenza e dalla sete ero magrissima con una bocca troppo grande e troppo larga dice di se stessa avevo gli occhi eternamente sbarrati forse dallo stupore di essere viva Sofia una madre indomita che avrebbe voluto essere attrice e non lo è stata sbarca a Roma e col nome d'arte di Sofia Lazzaro interpreta molti fotoromanzi pubblicati sulle riviste Sogno e Cine Illustrato 30.000 lire per ogni 10 giorni di lavoro tanto è la durata delle riprese di un fotoromanzo si fidanza con Achille Togliani cantante e suo compagno di lavoro sul set fa la comparsa in molti film compreso il Quo Vadis di Mervyn Leroy girato a Cinecittà all'epoca in cui Cinecittà era la Hollywood sul Tevere poi due incontri fondamentali per la sua vita privata e professionale Carlo Ponti produttore esecutivo della Lux e suo futuro marito e Vittorio De Sica il primo lo incontra quando ha appena 17 anni lui non è ancora il grande produttore che conosceremo però l'ama l'appoggia l'aiuta la spalleggia a trovare lavoro riesce persino a farle fare la protagonista della Ida di Clemente Fracassi l'altro De Sica si materializza nel 53 quando è già un mito e ha già fatto i suoi film più leggendari l'idea di affrontare il cinema serio dice la Loren diretta da uno dei più grandi registi del mondo letteralmente mi terrorizzava ma lui e da sicurezza la incoraggia scioglie le sue timidezze come neve al sole e lei cammina ancheggiando esibisce il suo seno glorioso allo sguardo protervo e invitante è insomma la strepitosa pizzaiola dell'oro di Napoli la napoletana per eccellenza il simbolo carnoso e vivente della solare vitalità mediterranea the most la più la meglio come scrivono entusiasti i giornali americani tutto quello che ho dice lei orgogliosa mostrando la sua procace femminilità l'ho acquistato mangiando spaghetti provate anche voi suggerisce alle ragazze americane che le scrivono lettere aperte sui quotidiani di tutti gli Stati Uniti è vitale ottimista capace di sedurre e di far ridere non ancora di far piangere ma lo farà presto e per tutta la seconda metà degli anni cinquanta accetta sfide qua e là con le maggiori star italiane del momento Lollo Brigida diva di pane amore fantasia pane amore gelosia rifiuta il terzo film della serie pane amore e e lei accetta la sostituisce la spiazza e sfonda la grande l'Italia di coppie di Bartali ha adesso anche Loren contro Lollo che polemizzano a colpi di bersagliera e di pesci vendola insomma a tutto le manca solo l'opportunità di quel ruolo universale che la strappi al nazional popolare nel quale è confinata e arriva Cesira la ciociara contadina coraggiosa che farà di lei la seconda attrice italiana dopo Magnani ad avere un Oscar per la migliore interpretazione femminile Lillo De Sica non solo era quel grande attore che era ma era un regista in grado di far recitare chiunque anche le pietre conosceva tutte le astuzie della recitazione e quel che è incredibile era in grado di far fare agli altri qualunque cosa durante le riunioni di sceneggiatura o quando gli sceneggiatori andavano dai produttori a raccontare scena per scena il film lui recitava tutte le parti di tutti i personaggi anche quella degli animali domestici dice con ironia Ennio De Concini che ha scritto per lui e con lui decine di film una volta l'ho visto sparire sotto la scrivania di Ponti poi abbiamo sentito abbaiare ed era lui che faceva la parte del cane della scena non gli mancava nemmeno quel cinismo necessario a tirar fuori il meglio dei personaggi si racconta di lui una storia incredibile pare che proprio in Chouchard in una scena con cinque o sei bambini che dovevano piangere tutti insieme e non ci riuscivano mai a trovare i tempi la credibilità e i modi giusti per rendere la scena appetibile lui abbia avuto un'idea tanto sadica quanto geniale dopo una decina di ciaghi disastrosi del Sica che fa dice basta pausa dieci minuti di riposo per tutti poi chiama la sarta e le dice di riempire di spilli le tasche delle giacche dei bambini finisce l'intervallo ciak si gira ed Sica invece di dire azione fa ai bambini bambini tutti insieme mani in tasca questi eseguono immediatamente e tutti insieme cacciano delle urla di dolore che sembra l'inizio di un pianto straziante scena bellissima attori bambini strepitosi e commoventi questo era de Sica un vero e proprio maestro dell'arte di arrangiarsi quanti film ha fatto impossibile orientarsi tra i suoi film di attore e quelli di regista quelli fatti per puro bisogno di soldi e quelli perseguiti invece con la passione e la volontà del neofita la sua prima apparizione in un film risale al 1912 ha appena 11 anni è il processo Clemenceau poi grazie a Mario Camerini diventerà l'attore per eccellenza del cinema dei telefoni bianchi grandi magazzini gli uomini che mascalzoni eccetera eccetera nella regia debuta nel 1940 l'anno in cui l'Italia dichiara guerra alla Francia Rose Scarlatte è il titolo del suo primo film ma è nel dopoguerra grazie anche al matrimonio artistico con Zavattini che esplode il fenomeno de Sica Shushai del 1946 gli porta l'Oscar come miglior film straniero ma in patria un vero e proprio disastro 56 milioni di incasso Ladri di biciclette del 48 gli americani lo acclamano i critici italiani sono poco 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 entusiasti Miracolo a Milano è del 51 scontenta tutti pubblico e critica ma a Cannes si aggiudica la palma d'oro Umberto D è del 52 e suscita una vera e propria indignazione di Andreotti all'epoca sottosegretaria allo spettacolo che scrive il famoso articolo sui panni sporchi che si devono lavare in casa e dopo tutti questi attacchi de Sica non batte ciglio non chiede solidarietà non fa manifestazioni non fa niente di tutto questo de Sica ha famiglia anzi ha due famiglie per di più gli piace giocare al casino ha bisogno di molti soldi e che fa si rimette a fare l'attore anche perché a De Sica il senso della realtà non fa assolutamente difetto anzi è proprio dalla realtà che ha saputo trarre i migliori risultati sia nella vita accettandola e aggirandola sia nel cinema denunciandola con l'enfasi e l'ispirazione che gli conosciamo perché abbiamo detto prima che sa far recitare anche le pietre ma dobbiamo aggiungere che riesce a far piangere persino i sassi probabilmente la Ciociara non è in assoluto il migliore dei film italiani usciti in quel fatidico e miracoloso 1960 sicuramente non ha quel potere scioccante e dirompente che ha avuto la dolce vita o quel fascino da cinefil enigmatico dell'avventura e nemmeno ha la modernità sociologica di un film come Rocco e i suoi fratelli però ha un altro merito quello di essere classicamente il più bel film classico di quell'annata italiana poi ha un'altra caratteristica interessante in questo film ci sono tutti i personaggi tipici della famiglia del cinema italiano degli anni 60 e 70 c'è naturalmente un desica che con questo film inaugurerà una nuova e fresca stagione della sua vita di regista lasciandosi alle spalle i film del maestro immortale quelli che abbiamo citato prima dalla ciocciare in poi grazie a Sofia Loren e più tardi alla coppia incredibile Loren Mastroianni farà film stimatissimi e popolarissimi sia in Italia che nel mondo fin come Matrimonio all'italiana ieri oggi e domani i girasoli e più avanti il bellissimo giardino dei finzi contini dal romanzo di Bassani secondo grande personaggio di questo film è uno scrittore Alberto Moravia che dalla ciocciare in poi sarà lo scrittore più tradotto al cinema di tutta la letteratura italiana contemporanea il suo primo romanzo gli indifferenti diventerà un film di Maselli il disprezzo sarà cinematografato dal grande Godard il conformista sarà forse uno dei più bei film del giovane Bernardo Bertolucci naturalmente poi c'è lei Sofia che con questo film viene definitivamente consacrata diva universale e che saprà fare buonissimo uso del suo successo e della sua popolarità da star sovranazionale lavorerà indifferentemente in produzioni italiane e americane come diva brillante e come attrice drammatica dalla contessa di Hong Kong sotto la regia del grande Chaplin con un partner come Marlon Brando fino al bellissimo giornata particolare di scuola dove lei e Mastroianni saranno strazianti e strepitosi c'è infine nella ciocciara una maniera tutta italiana di lavorare nel cinema che è quella dell'artigianato familiare qui c'è tutta la famiglia Ponti all'opera ma il nostro cinema è in quegli anni soprattutto un vero e proprio aggregato di famiglie in competizioni continua fra di loro i De Laurentiis vogliono essere meglio dei Ponti i Lombardo guardano con diffidenza Cristaldi che piazza in tutti i loro film la sua giovane protetta Claudia Cardinale un giovane produttore esecutivo di Ponti Mario Cecchigori sta mettendo su famiglia con il figlio e il regista Risi per fare un film che si chiamerà Il sorpasso famiglie famiglie del cinema famiglie un po' paesane che avevano grandi intuizioni cosmopolite e di cui oggi c'è una certa sincera affettuosa nostalgia per questa sera io ho concluso e vi do appuntamento a domani dall'Inghilterra dove nel cuore dei favolosi anni 60 parleremo di un film decisamente ambientato anzi calato nella Swinging City a domani dunque alle 8 della sera su Radio 2 grazie a tutti e buona serata Per capire l'importanza di un'attrice simbolo degli anni 60 bisogna sapere che il cuore e non solo il cuore cinematografico degli anni 60 è l'Inghilterra è dall'Inghilterra che in quegli anni arriva la musica dei Beatles dei Rolling Stones dei V degli Animals e nei Fabulous Sixties che da una boutique di Kings Road di Londra una signora chiamata Mary Quant comincia a vendere le minigonne a tutte le ragazze struccate e psichedeliche di quella città ragazze diverse da tutte le ragazze che abbiamo visto finora per le strade delle nostre città nei salotti delle nostre case e anche sugli schermi cinematografici di tutti i film di tutto il mondo infatti non a caso sarà proprio da Londra che una ragazza inglese facendo una piccola apparizione in un film del 63 Pili il bugiardo di John Schlesinger sarà subito promessa di simbolo cammeo di ragazza swinging da tenere d'occhio per il futuro futuro di fatto che non tarderà a nascere anzi questa ragazza si chiama Julie Cristi è nata nel 1941 ad Assam in India lì è cresciuta insieme ai genitori che in una località chiamata Chabua hanno una bellissima piantagione di tè ancora adolescente è venuta in Europa a studiare lingue subito però ha scoperto di avere una grande vocazione per il teatro e si è iscritta alla Central School of Speech Training di Londra alla fine degli anni 50 nemmeno ventenne è già la protagonista di una serie televisiva molto molto popolare che si chiama A come Andromeda qui in questa nuova area che sta cominciando a soffiare sull'Inghilterra tradizionale e conservatrice viene notata appunto da John Schlesinger e scritturata per il piccolo ruolo di Liz la fidanzata di Tom Courtney nel film Billy il bugiardo ed è subito simbolo perché? perché ha un modo di vivere che è esattamente quello delle ragazze giovani di quel momento si compra i vestiti ai mercatini dell'usato di Portobello Road non si trucca ha le gambe storte e non le nasconde non va mai alle prime mangia rigorosamente cibi macrobiotici in più ha una faccia da cinema che veramente non si vedeva da anni un ovale perfetto degli zigomi che prendono la luce da soli come se fossero delle calamite una bocca carnosa e sensuale che basta farle un primo piano per innamorarsene e poi ha un sorriso che può disarmare e lasciare senza parole chiunque è il futuro indimenticabile sorriso di Lara quella crocerossina russa che diventerà l'amante appassionata dell'infelice dottor givago dopo averla intravista come abbiamo detto e non dimenticata in quel finale di billy il bugiardo quando lei alla stazione saluta tom curtney che va in città giuli cristi appena ventenne è già destinata ad un futuro di diva sarà lo stesso regista john schlesinger a cucirle addosso a scrivere per lei apposta il personaggio di diana scott la fotomodella della swinging london la darling appunto che spopola nei leti di londra e cerca l'edonistica satisfaction del momento del resto non dimentichiamo è il 1965 anno di uscita del film e in quell'anno il disco più venduto e richiesto è proprio il 45 giri dei rolling stones darling le porterà all'oscar per la migliore interpretazione femminile farà di lei l'attrice icona del free cinema inglese una star hollywoodiana ma anche e soprattutto farà di lei la musa privilegiata di quel cinema di quegli anni che vede nel lavoro dell'attore anche un impegno politico e sociale che cosa racconta darling il film scritto da frederick raffael oscar per la miglior sceneggiatura originale diretto da john schlesinger e prodotto da joseph janni che era un leggendario produttore degli anni 60 e interpretato da un magnifico dirk bogart racconta appunto la storia di diane scott di julie christie una fotomodella che decide di dare la scalata alla città dei fotografi e della moda va letto con tutti prima con un giornalista televisivo robert gold dirk bogart appunto lo spinge ad abbandonare la moglie ma subito dopo lo lascia per mettersi con un uomo d'affari si unisce cinicamente per calcolo ad un fotografo poi ad un principe italiano che le offre di sposarla a un amico gay col quale si confida e si lascia andare ma mano a mano che il suo cinico calcolo si dipana diane scopre anche che probabilmente non è tanto lei a sfruttare gli altri quanto gli altri che si servono di lei girato con un occhio al free cinema e uno stile molto molto nouvelle vague scritto benissimo con degli attori tutti perfetti il film ha il dirompente merito di mostrare per primo i vizi e le virtù il cinismo e le ingenuità di una Londra in quel momento al centro dell'attenzione del mondo Michelangelo Antonioni con Blow Up arriverà qui esattamente due anni dopo Darling e spazierà nello stesso ambiente di fotografi e di fotomodelle lo farà naturalmente nel suo stile tutto inventato tutto enigmatico Schlesinger invece da inglese da inglese nato a Londra perlustra la città in bianco e nero la setaccia quasi con lo spirito del documentarista e del sociologo ne fa un ritratto che è una specie di radiografia in movimento con al centro quei personaggi che scambiano la libertà sessuale la marijuana per la vera libertà un ritratto preciso è proprio la Londra di quegli anni del resto John Schlesinger nasce proprio come regista di documentari dopo aver fatto l'attore per qualche anno si è messo a lavorare per la BBC nel 1961 con Terminus un interessante documentario girato alla stazione di Waterloo vince un premio al festival di Venezia è un ex attore lo abbiamo detto e come tale adora gli attori già l'anno prima di Billy il bugiardo esattamente nel 62 con il suo secondo film Una maniera da mare farà conoscere al pubblico un attore di teatro assolutamente eccezionale Alan Bates nel 63 abbiamo visto la volta di Tom Courtney ed ora con Darling consacra definitivamente Julie Christie quale attrice diva internazionale il gioco gli piace si diverte tenta di mettere insieme gli attori che più ama in un film tratto da Thomas Hardy via dalla pazza folla ci mette tutti Julie Christie Alan Bates Peter Finch un giovane fantastico Terence Stamp il film invece va malissimo e lui deluso si trasferisce negli Stati Uniti dove nel giro di un paio d'anni sarà proprio lui personalmente a guadagnarsi l'Oscar per la miglior regia con un film assolutamente strepitoso un uomo da marciapiede da l'ora in poi farà il pendolare di lusso tra Hollywood e Londra tornerà a casa per un film coraggioso e graffiante Domenica maledetta domenica con Peter Finch appunto farà bei film americani come Il Maratoneta Il Giorno della Locusta e tanti altri regia teatrali inglesi di autori classici e moderni porterà in scena persino un ballo in maschera di Verdi al festival di Salisburgo la regina Elisabetta gli darà il titolo di commander dell'impero britannico Schlesinger è veramente un grande professionista dello spettacolo che come tutti i suoi amici e colleghi del free cinema è riuscito perfettamente a conciliare i film cosmopoliti e hollywoodiani con il cinema d'impegno realizzato in patria gli inglesi si sa sono un po' l'aristocrazia dell'America e Hollywood che tratta tutti con sufficienza di loro a una certa malcelata soggezione che cosa era questo free cinema inglese che qua e là abbiamo citato era un movimento di cineasti nato nella seconda metà degli anni 50 che per semplificazione ma anche per chiarezza possiamo dividere in due momenti uno eroico ed impegnato che va dalla sua fondazione fino agli inizi degli anni 60 l'altro è un po' quello dei grandi successi internazionali che va appunto dal 62 63 fino a esaurimento con film come Sabato Sera Domenica Mattina Darling Sapore di Miele eccetera la prima parte quella eroica chiamata dai critici e dagli storici la kitchen sink vale a dire il lavandino di cucina è fatta di un cinema estremo e volutamente trasandato che intende esplorare e mettere in scena la triste e sporca vita di tutti i giorni finanziato dal British Film Institute con un fondo a favore del cinema sperimentale si avvale subito sin dall'inizio della collaborazione di scrittori di teatro come Harold Pinter e Osborne Young Angry Men i giovani arrabbiati di allora e realizza con i loro copioni una serie di film inchiesta su luoghi e momenti diversi della vita sociale della città di questo periodo sono film come Terra di sogno di Anderson Mamma non vuole di Karel Rice Tutti i giorni tranne Natale ambientato nei mercati generali questi cineasti hanno naturalmente il loro piccolo vangelo il cinema deve aderire al reale mostrare la vera faccia della realtà renderla pubblica e comprensibile insomma sono poi i padri di Ken Loach che non a caso sarà con loro molto molto presto ma mentre loro si aggirano per le periferie inglesi e nei bassi di Londra la città sta cambiando volto sta cambiando look il rock britannico la moda trasandata e giovanile la rivoluzione sessuale permissiva eccetera eccetera stanno trasformando Londra nella city più swinging e trendy del mondo e a questo punto i registi del free cinema con una plomba assolutamente inglese danno vita naturalmente alla seconda fase del loro movimento spostano la loro attenzione dal mondo operaistico e sottoproletario a quello della musica della moda della droga del romanzo storico ma con un occhio al presente e in questa seconda fase fanno i loro film più conosciuti e più famosi Morgan Mato Dallegare Karel Rice Tom Jones Tony Richardson Heath The Sporting Life Lindsay Anderson Io sono un campione Purkow Georgia Svegliati e mille altri tra cui appunto quelli di Schlesinger in ognuno di questi film e questo interessante esce un attore eccezionale che farà sia in patria che in America una grande carriera David Warner Richard Harris Vanessa Redgrave Terence Stamp Albert Finney Rita Tashingham Malcolm McDowell Charlotte Rampling Julie Christie ovviamente e altri e altri e altri ancora insomma il free cinema inglese è un movimento che nasce un po' come quello francese contro il cinema di papà si ispira più al documentario che alla rilettura stilistica del cinema ma soprattutto dalla seconda metà degli anni 60 in poi sarà e questo è molto interessante la linfa vitale del nuovo cinema americano che ne è di Julie Christie viva del suo tempo o attrice che ci può ancora riservare delle sorprese probabilmente tutte e due queste cose insieme da un lato Julie Christie è stata davvero l'attrice simbolo di una generazione e di quella generazione ha rappresentato sia nel bene che nel male tutti i tic e tutte le manie anche quelle più trendi più alla moda è stata femminista militante e ha lavorato anche gratis in film soltanto perché erano diretti da delle donne come per esempio il film Miss Mary dell'argentina Maria Luisa Benberg è stata compagna di Warren Beatty col quale ha fatto sì dei film tipo Il paradiso può attendere Schampo e anche altri ma soprattutto ha fatto politica e militanza con lui si è impegnata in campagne elettorali in battaglie per la difesa dei diritti dei lavoratori precari è andata sempre gratis ad insegnare cinema nella scuola fondata a Cuba da Gabriel Garcia Marquez per il suo amico Fidel Castro e lo ha fatto rinunciando ad un sacco di offerte hollywoodiane e ad un sacco di soldi dopo la fine della sua storia con Beatty è tornata in patria e si è messa a fare la contadina nel Galles ma questo suo aver incarnato lo spirito del tempo non le ha tuttavia impedito di fare alcuni film memorabili l'anno dopo Darling e il dottor Givago che sono tutte e due del 1965 del 66 lei sarà la professoressa Clarissa del mitico Fahrenheit 451 di François Truffaut e lei quella donna che conserva i libri votati alla distruzione nel 1971 sarà Marian di messaggero d'amore The Go Between era il titolo originale del film di Losey un personaggio spietato e drammatico che all'inizio del secolo usa un ragazzino per fissare i suoi segreti appuntamenti sessuali con il possente fattore Alan Bates nel 1975 Robert Altman le chiede di fare se stessa in Nashville naturalmente lo farà nel 1973 e Laura Baxter in un film strano a Venezia un dicembre rosso shocking di Nicholas Roeg un film di grandi suggestioni fantastiche ed erotiche recentemente un paio d'anni fa è stata una meravigliosa regina Gertrude nell'adattamento cinematografico integrale di Amleto fatto da Kenneth Branagh a 60 anni compiuti senza aver mai fatto ritocchi nel lifting Julie Christie è ancora una ragazza un aging girl come dicono loro con un sorriso intatto e una bravura da grande professionista di recente è tornata a lavorare a teatro ha avuto una nomination due anni fa per un film mai uscito in Italia Afterglow girato con Nick Nolte ha ripreso a lavorare con discrezione tipicamente inglese e la serietà di una missionaria lei è una di quelle vecchie ragazze come Mina che spariscono ma non vanno via aspettiamola perché sicuramente tornerà e in attesa del ritorno di Darling Lara io per oggi vi saluto e vi do appuntamento a domani alle 8 della sera su Radio 2 grazie per essere stati con noi e a domani la ballata di Bonnie and Clyde era il grande successo del 68 finiva più o meno così nella vita c'è sempre chi ti spia nell'ombra chi ti pugnala alle spalle forse è un tuo amico questa è la storia di due che si chiamavano eccetera eccetera il film in Italia conosciuto come Gangster Story è dell'anno precedente del 67 l'anno in cui è stato ucciso Che Guevara i dirigenti della Warner che avevano il film in distribuzione non ci credevano affatto ed erano convinti di avere per le mani un film di gangster vecchia maniera un film di genere così tanto per testarlo cominciarono a distribuirlo in alcune città minori del Midwest e invece i giovani di tutte quelle città cominciavano ad accorrere a passarsi la voce e andare a vedere il film a questo punto la Warner riorganizza la sua distribuzione centinaia di coppie vengono spedite in centinaia di città americane e non solo e Gangster Story ovvero Bonnie and Clyde diventa il film mito dei giovani di tutto il mondo il suo successo bandiere è paragonabile soltanto ad un altro film giovanile della decade precedente vale a dire gioventù bruciata gli ragazzi del 68 hanno trovato in quei due fuorilegge un po' narcoidi gli idoli nei quali identificarsi Bonnie and Clyde sono sì dei gangster degli sbandati dei violenti ma sono anche e soprattutto dei giovani senza speranza come loro la chiave magica del successo del film è esattamente qui si parla del passato degli anni 30 ma gli occhi sono puntati sul presente si racconta di rapine ma in realtà si allude alle anime belle votate al fallimento si mette in scena il gangster per dimostrare che la polizia ti sparerà a tradimento ed è ancora più gangster di te insomma un meraviglioso cocktail di gioventù bruciata e fino all'ultimo respiro un equilibrio perfetto tra film di genere e nouvelle hollywood che ai nuovi cineasti francesi infatti faceva riferimento gangster story è un caso assolutamente tipico il soggetto è di Robert Benton futuro regista di Kramer contro Kramer la sceneggiatura è di Benton e David Newman il produttore è Warren Beatty non appena la sceneggiatura è pronta e scritta la mandano prima a Truffaut e poi a Godard tutte e due snobisticamente rifiutano lo snobismo anti-americano di quegli anni non va sottovalutato Warren Beatty che fa offre la sceneggiatura al più europeo e politicizzato dei nuovi registi americani del momento Arthur Penn Penn appena ha fatto un film con lui un film quasi sperimentale si chiama Mike and Wan viene da un grandioso insuccesso la caccia con Brando e il giovane Robert Redford ha una gran voglia di continuare a sfidare il sistema hollywoodiano però la sceneggiatura non gli piace esita sta per rifiutare si mettono tutti a tavolino fanno una specie di collettivo sessantottardo chiamano un altro sceneggiatore Robert Tone e lavorano tutti insieme scrivono riscrivono il personaggio di Clyde che nella stesura precedente era omosessuale qui diventa un po' più o meno un mezzo impotente Bonnie viene riscritta tutta in una versione più femminista i ruoli secondari vengono caratterizzati e resi più brillanti dagli impeccabili dialoghi di Tone e Penn trova l'idea della violenza frenetica mischiata al rallenty ed è subito miracolo dunque gangster story siamo negli anni trenta anzi nel 1933 a Dallas Texas i titoli di testa mostrano le foto segnaletiche dei cinque ricercati wanted i cinque wanted sono Clyde Burrow Warren Beatty Bonnie Parker Faye Dunaway il fratello di Clyde Gene Ackman sua moglie Estelle Parson e un ragazzo fuggito dal riformatorio Michael Pollard appena i titoli finiscono in un tripudio di luci dorate di flu che scontornano e romanticizzano le facce già meravigliose dei nostri protagonisti prende il via la storia lui ladro di macchine claudicante maldestro più avanti sapremo anche un po' impotente vuole avere a tutti i costi una vita migliore lei la sua fidanzata Bonnie Parker fa la cameriera per arrotondare ogni tanto fa anche la puttana sogna una vita di fasti e di ricchezze e per procurarsela è disposta a tutto mettono su quella banda di sgangherati e cominciano a rapinare banche sparano come matti sono esibizionisti sfidano la polizia sfidano tutte le regole del gioco anche quelle del gioco della malavita i giornali cominciano a parlare di loro la gente li trova strani però simpatici sotto sotto li ammira la polizia li vuole prendere i giornali cominciano a parlare di loro e loro accettano la sfida Clyde si mette a insegnare a un contadino come si tira con la pistola e lo fa proprio davanti al cartellone pubblicitario della banca che l'ha sfrattato e ridotto sull'astrico lei Bonnie Parker personalmente spedisce ai giornali di tutto il Texas la sua fotografia e si diverte ad ammirarsi sulle pagine della cronaca nera nella sua mitica posa in piedi accanto all'auto con il leggendario baschetto in testa sigaro in bocca pistola in mano altro che pupa del gangster qui siamo di fronte a una gangsteressa in prima persona e questo piace sempre di più piace alla gente e in pochi mesi riescono a diventare la banda di rapinatori più famosi d'America è ovvio che la polizia li scoverà grazie a una soffiata del padre di Pollard li accerchierà li ucciderà in quel modo cruento brutale ed eccessivo che trasformerà loro dei fuorilegge in delle vere e proprie vittime vittime quasi beatificate dalla rallenty di Arthur Penn che ce li farà vedere morire poco a poco con i capelli biondi di lei che navigano nella polvere marroncina il Panama di lui che rotola all'infinito il corpo di lei che sobbalza sinuoso dentro l'automobile crivellata di colpi comprensibilissimo che i giovani 68 tardi appassionati del film vedano in quel massacro finale la metafora assoluta di una violenza che si consuma quotidianamente nel Vietnam di allora e che i notiziari tv ci mostrano ogni giorno in maniera altrettanto cruenta però il film ha un'altra magia e questa magia si chiama Bonnie vale a dire Faye Dunaway è un'attrice sconosciuta fino a quel momento ha un fisico asciutto longilineo una glacialità che farebbe la felicità di Hitchcock ha un temperamento nervoso un piglio da donna in guerra che piace alle femministe di tutto il mondo e agli uomini un po' in difficoltà che cominciano ad essere tanti insomma donna è bello è nata in Florida nel 41 ha frequentato l'università delle belle arti di Boston è entrata a far parte della compagnia Lincoln Center Repertory e in breve tempo è diventata una delle protagoniste della produzione teatrale off Broadway ha un carattere di merda è litigiosa e attacca briga ma è brava è bellissima e tutti la chiamano è Faye Dunaway nella compagnia di Elia Kazan dove entra da protagonista porta in scena Marilyn Monroe dalla pièce di Arthur Miller dopo la caduta After the Fall quando arriva l'offerta inaspettata di Arthur Penn lei al cinema non ha ancora fatto nulla o quasi giusto un piccolo ruolo in un film di Preminger che si chiamava E venne la notte i protagonisti di quel film erano Michael Caine e Jane Fonda e pare si dice che sia stata proprio la fonda altra sessantottina doc a segnalarla al suo amico Warren Beatty fatto sta che a 26 27 anni con un solo film Faye Dunaway diventa un mito le gonne a pieghe anni 30 di Bonnie i suoi golfini attillati le sue giacchine strette prearmani inventate dalla bravissima costumista del film che si chiamava Theodora Van Rankel diventano una moda e fanno di lei l'icona femminile di una nuova Hollywood che si è buttata alle spalle il vecchio star system e punta tutto sui giovani ribelli come lei e lei ribelle di cattivo carattere invece di starsene a Hollywood e a raccogliere i frutti di quella miracolosa popolarità cosa fa? nel 68 viene in Italia a ritirare il David di Donatello come miglioratrice straniera e accetta l'offerta di Carlo Ponti di fare un film con De Sica insieme a Mastroianni un brutto film si chiamava Amanti con un pessimo risultato al botteghino ma lei e Mastroianni si innamorano lei si mette in testa che lui la sposerà che lascerà la moglie italiana e andrà a vivere con lei a Hollywood lui invece non ci pensa proprio si tiene la moglie italiana le regala un fantastico appartamento a New York su South Central Park West a Hollywood non ci mette proprio piede e quando lei arriva in Italia per passare la notte di Capodanno con lui lui la molla all'hotel Excelsior con una scusa tutta italiana e passa la notte di Capodanno in famiglia Faye Dunaway manda in Frantumi la suite e riparte per estate lasciando il conto da pagare vera dissipatrice che non sa fare i propri calcoli Faye Dunaway è un po' come Bonnie Parker sposa le cause perse impugna il fucile spara vanvera e perde quasi sempre anche nel lavoro dopo gangster story e dopo la tempestosa e infelice storia d'amore con Mastroianni farà ancora dei film notevolissimi primo fra tutti Quinto Potere che elevarà l'Oscar per la migliore interpretazione femminile sarà la protagonista del bellissimo film di Polanski Chinatown con Jack Nicholson parteciperà anche se non sarà protagonista a film importanti come L'inferno di Cristallo Piccolo Grande Uomo ma pian piano la sua stella che ha brillato luminosa in gangster story si andrà via via spegnendo la ripescherà quel genio di custurizza per un film Arizona Dream dove riapparirà eccessivamente ritoccata e tutta rimessa a nuovo Faye Dunaway forse per il suo carattere forse perché aveva il fisico di un'attrice classica in un'epoca in cui non c'era più posto per la classicità rimane veramente la mitica attrice di un solo personaggio Bonnie la donna col mitra votata alla sconfitta molti degli attori con i quali il regista Arthur Penn ha lavorato vengono dall'Actors Studio da Paul Newman che è stato il protagonista del suo primo film Furia Selvaggia a Marlon Brando che ha fatto con lui lo sfortunato La Caccia a Dustin Hoffman con il quale farà Piccolo Grande Uomo ne parleremo molto presto Penn è uno di quei grandi continuatori del cosiddetto metodo inventato da Stanislavski lui stesso è stato direttore dell'Actors Studio tra il 1996 e il 99 recentemente ha fondato un Actors Studio Free Theater dove per sentirsi ancora più liberi nessuno è pagato naturalmente anche il pubblico non paga proprio in quella veste di direttore dell'Actors Studio è venuto in Italia qualche anno fa nel 99 e ha tenuto una serie di interessantissimi seminari sul teatro in quell'occasione oltre che a parlare di teatro ha detto tante cose sul suo paese che ama e che non ama sul cinema che vorrebbe diverso e che non è Bonnie and Clyde per esempio li ha così definiti due ingenui con una gran voglia di emergere di uscire dall'anonimato in un'America che non aveva nulla da offrire e loro alla loro maniera si sono presi ciò che gli aspettava si è definito un regista che non crede nella storia la storia ha detto è la menzogna in cui scegliamo di credere e per tener fede a questo principio nel 1970 ha fatto un film piccolo grande uomo nel quale ha voluto appunto rileggere la storia della conquista del West attraverso tutti gli eccidi del generale Caster e l'ha voluta guardare con gli occhi dei perdenti dei comanci sconfitti ha voluto in pratica smentire John Ford l'America della frontiera e di arrivano i nostri Arthur Penn è davvero l'intransigente puritano che non conosce compromessi quando vado al cinema dice mi chiedo dove sia finita la passione il romanticismo i sentimenti che fino a pochi anni fa potevo ancora trovare sullo schermo un vero aristocratico nel 96 a 60 anni suonati ha deciso di andare in Sudafrica a fare un film contro l'apartheid si chiamava Inside ho voglia di andare lontano ha detto lontano da Hollywood e dai film che devono per forza incassare almeno 300 milioni di dollari un meraviglioso puritano aristocratico moralista che nella seconda metà degli anni 60 insieme a gente come lui ha saputo traghettare a Hollywood dalla tradizione al rinnovamento l'abbiamo scelto unico regista e unico film americano di questa settimana tutta dedicata al cinema del cambiamento della rivoluzione e della nuova aria d'Europa proprio perché è il più tipico di tutti i registi della cosiddetta nuova Hollywood il più anti americano ma ce ne sono altri ne parleremo a partire dal lunedì prossimo alle 8 della sera su Radio 2 chi può dimenticare Anne Bancroft che si sfila la calza scura con la gamba in primo piano mentre sullo sfondo arriva il giovane goffo fantastico Dustin Hoffman e il duo Simon & Garfunkel canta la più fantastica hit dell'epoca God blesses you Mrs. Robinson chi può dimenticare il fascino tutt'altro che sfiorito di quella meravigliosa ultra quarantenne Bancroft Mrs. Robinson appunto fascino che ha sedotto Benjamin il giovane laureato The Graduate che di lì a poco però la lascerà per fuggirsene via con sua figlia Elaine Catherine Ross non solo la strapperà letteralmente allo sposo promesso sfilandogliela proprio sotto l'altare film scandalo scandalo che quasi quasi rasenta il tabù dell'incesto all'interno di una borghesia americana perbenista e ben lontana dalla contestazione giovanile che imperversa in America e in tanti altri film di quel momento siamo nel 1967 lo stesso anno di Bonnie and Clyde di cui abbiamo parlato la settimana scorsa ma qui siamo in zona commedia sofisticata tutt'altra storia tutt'altra vicenda il disagio e la ribellione giovanile qui sono uno stato d'animo e non una condizione diffusa della gioventù le unghie del laureato sono nell'ironia più che nella provocazione tratto da un romanzo di Charles Webb sceneggiato da Buck Henry e da Calder Willingham il film racconta appunto il ritorno a casa di Benjamin appena laureato e messo sotto violenta pressione dai suoi genitori devi sceglierti un lavoro giusto una fidanzata giusta degli amici giusti eccetera eccetera e lui un po' giovane Holden ma più borghese anche più romantico non reagisce sbattendo la porta e nemmeno accettando le regole del gioco familiare prende tempo e mentre prende tempo diventa l'amante di una donna parecchio più grande di lui una donna che la salunga in tema di seduzione di appuntamenti clandestini in alberghi fuori mano di sesso eccetera eccetera imbranato frastornato da tanta troppa esperienza che gli cade in testa da un minuto all'altro travolto dagli eventi quando lo scandalo sta per scoppiare lui ha già risolto il problema si è perdutamente innamorato della di lei figlia e la strapperà lo sposo promesso conquistandola a sé gli ultimi tre minuti di film dirà Mike Nichols il regista sono la cosa che mi piace di più i due ragazzi sono seduti sull'autobus disorientati e consapevoli di non aver risolto nulla o quasi nulla non sanno che diavolo dirsi mi piace perché non si tratta di una conclusione in effetti molte cose sono ancora possibili sulla carta niente di più di una commedia sofisticata d'altri tempi nei fatti invece un film che lascia il segno regala un Oscar per la miglior regia al giovane Mike Nichols al suo secondo film rilancia un'attrice straordinaria come la Bancroft finora considerata semplicemente una brava attrice ed adesso in poi una molto seducente brava attrice consacra al successo anche cinematografico la coppia Simon e Garfunkel la cui strepitosa colonna sonora è una delle chiavi del successo anche giovanile del film e infine inventa un attore al suo debutto nel cinema Dustin Hoffman che col suo successo personale inaugurerà una nuova tipologia di attore mai visto prima d'ora dalle parti di Hollywood il bruttino senza fascino che in altri tempi sarebbe stato confinato a ruoli di secondo piano o di caratterista è proprio lui il fenomeno del laureato il fenomeno del film Dustin Hoffman classe 1937 pesa 55 chili e alto poco più di un metro e sessanta e goffo smarrito ha un naso d'ebreo che fa paura Mike Nichols lo nota in un piccolo teatro off-Broadway dove interpreta un ufficiale nazista gobbo e un po' omosessuale in una pièce off-off intitolata Harry Noon and Nights prima d'ora non ha mai fatto cinema anche se è nato a Los Angeles anche se suo padre fa l'attrezzista a Hollywood e lui ha fiutato polvere di cinema fin dall'infanzia in realtà quando decide di fare l'attore punta tutto sul teatro si iscrive prima alla scuola di recitazione Pasadena Playhouse quindi come quasi tutti finisce all'actor's studio di Lee Strasberg a New York lui dice che per mantenersi ha fatto tutti i mestieri compreso quello del guardiano in un manicomio in realtà fino a 30 anni ha fatto molto teatro è amico e compagno d'avventura e di lavoro di Robert Duval e di Gene Hackman insieme a loro gira per la città cercando lavoro insieme mettono in scena aspettando Godot il mercante di Venezia morte di un commesso viaggiatore poi a 30 anni esatti arriva Mike Nichols arriva a teatro lo vede lo vuole lo prende ed è il laureato da lì in poi sarà una conferma dopo l'altra un trionfo dopo l'altro un uomo da marciapiede piccolo grande uomo Lenny Cane di Paglia tutti gli uomini del presidente Tutsi Rain Man chi più ne ha più ne metta ma insieme a tutte queste decine di film uno più bello dell'altro uno più importante dell'altro va sottolineato che Dustin Hoffman è veramente il capostipite di una tipologia di futuri attori americani i cosiddetti brutti e bravi che soltanto dopo di lui e probabilmente grazie a lui arriveranno al successo attori come Al Pacino come Woody Allen come Robert De Niro attori etichettati come la generazione post-mitica vale a dire non più i belli e i raggiungibili come i divi di un tempo o i magnifici nevrotici degli anni 50 ma gente che può incontrare dovunque in autobus uomini e donne della porta accanto gente comune che fa una vita comune borghese che lavora e che studia Dustin Hoffman per esempio ha sei figli e va sempre in giro con loro e la sua seconda moglie siamo una comunità di zingari molto molto ricchi dice lui con understatement e snocciola le regole fondamentali della sua vita mai più di due settimane lontano dalla famiglia cibi vegetariani molta ginnastica e poi studiare capire immedesimarsi come tutti i figli e i nipotini dell'actors studio è maniaco del perfezionismo leggendarie sono infatti le sue discussioni estenuanti con i registi si dice che per imparare a zoppicare come zoppica rasta il personaggio di un uomo da marciapiede Hoffman abbia studiato per mesi e mesi la camminata degli zoppi sui marciapiedi di New York ha fatto anche un film in Italia con Germi Alfredo Alfredo le sue partners erano Carla Gravina e Stefania Sandrelli lui era un impiegato di banca che si innamorava di una farmacista la Sandrelli appunto e lei lo ricorda così l'uomo più sexy che abbia mai incontrato ti sovrasta con lo sguardo più che con la statura vero o falso lui dichiara apertamente di detestare i premi anche se va a ritirarli tutti nel 1979 quando dopo varie nominations ha finalmente avuto l'Oscar per Kramer contro Kramer si è presentato al Chandler Pavion tutto elegante con il suo sorrisetto ironico ha preso in mano la statuetta l'ha guardata un bel po' e poi ha detto che strano non ha nemmeno le palle la grazia la freschezza la indubbia originalità di un film come il laureato è dovuta in gran parte alla regia di Mike Nichols anche lui quasi al suo debutto prima del laureato infatti ha fatto un solo film che ha paura di Virginia Woolf dall'omonima commedia di Edward Olby è interpretato da una coppia di mostri Elizabeth Taylor e Richard Burton lui Nichols si chiama in realtà Mikhail Igor Peshkovsky è nato a Berlino nel 31 da una famiglia ebrea di origine russa che ben presto lascerà di corsa la Germania nazista cresce a New York come ogni persona che ha voglia di fare qualcosa nel campo del teatro e del cinema va a studiare all'Actor's Studio lì incontra la sua futura prima moglie Ellen May che sarà la sceneggiatrice di molti dei suoi prossimi film diventa regista teatrale di successo porta in scena a Broadway appunto la pièce di Olby e lì riscuote un tale successo di stima e di pubblico che Burton e Taylor chiedono di conoscerlo ed esprimono il desiderio di lavorare con lui nasce così la versione cinematografica di Chi ha paura di Virginia Woolf con Burton e Taylor nei ruoli di George e di Martha e due giovani fantastici attori George Segal e Sandy Dennis nei ruoli di quella disgraziata coppia di ospiti invitata alla famosa cena massacro con il laureato e l'Oscar per la miglior regia il successo è definitivamente acquisito e Nichols nemmeno quarantenne diventa uno dei massimi registi del cosiddetto nuovo cinema americano appena se lo può permettere compra i diritti del libro di Joseph Heller Catch 22 comma 22 e fa il suo prossimo film che è una feroce satira sul militarismo il comma 22 del regolamento militare recita esattamente così un pilota che risulti non sano di mente può essere esonerato dal servizio ma un pilota che chieda di essere esonerato dal servizio non può considerarsi non sano di mente per cui potrà essere mantenuto in servizio il film racconta appunto la storia di un pilota Alan Erkin che cerca di farsi esonerare e incapperà nella capziosità del regolamento militare assolutamente grandioso è Orson Welles nei panni di un generale svampito e ultra militarista Mike Nichols è un po' come Arthur Penn di cui abbiamo parlato la scorsa settimana autori che hanno traghettato il cinema hollywoodiano sulla nuova sponda e che poi un po' per la loro intransigenza un po' per l'arrivo imponente delle nuove generazioni lavoreranno ma sempre di meno anche se continueranno a suscitare molto rispetto e molta stima nel 98 molto recentemente Nichols ha fatto un intelligente film con Emma Thompson e John Travolta i colori della vittoria primary color dove si vede in maniera molto ironica e interessante la prima campagna elettorale di Clinton la sua inesperienza la sua disorganizzazione i suoi trucchi le coperture e le complicità della moglie Hillary le bugie che lo renderanno un simpatico famoso Don Giovanni una critica naturalmente benevola e affettuosa fatta tutta da sinistra che però evidentemente non è stata gradita dai clintoniani ancora al potere Emma Thompson è una Hillary strepitosa è travolta un Clinton a dir poco perfetto il film l'abbiamo detto del 98 ha avuto la sfortuna di uscire proprio alla fine del mandato Clinton ed è stato stritolato nella campagna elettorale il suo non essere né di qua né di là gli è costato l'insuccesso e anche questo fa parte di quella generazione di registi anni 60 non sono né furbi né opportunisti Charles Webb è l'autore del romanzo Il laureato dopo aver passato quasi 30 anni a godersi i ben 2 milioni di dollari indiritti d'autore e royalties varie che gli sono venuti dal successo del film ha scritto un nuovo romanzo si intitola New Cardiff e si annuncia esattamente come il seguito del laureato il libro uscirà in Inghilterra alla fine di aprile e sarà pubblicato dall'editore Little Brown secondo le prime indiscrezioni si tratta della storia di un pittore tale Colin pittore inglese che vive una strana e inquietante difficilissima storia d'amore con un'americana tale Vera che si è trasferita in Inghilterra e che gli farà scoprire inattese e nuove dimensioni esistenziali insomma par di capire che siamo in zona extrasensoriale una casa di produzione americana si è già assicurata ai diritti cinematografici e pare che abbia offerto proprio a Mike Nichols la regia di questa specie di laureato numero 2 speriamo che sia vero un giovane pittore inglese schiavo d'amore di un'americana in trasferta europea il tutto nelle mani di Mike Nichols sembra un ottimo punto di partenza il cinema di oggi però è molto molto diverso dal cinema che si faceva in quegli anni ed è diversissimo dai grandi classici che hanno cementato la nostra memoria visiva il cinema di oggi non crea più prototipi ma semplicemente eventi eventi che hanno l'ambizione di esaurirsi nell'evento medesimo ne parleremo durante questa ultima settimana che passeremo insieme ma per tornare a Mike Nichols si può dire di lui che quel regista veramente eclettico e completo che si muove con grande disinvoltura sia nel drammatico che nel comico sia negli anni 60 che nei nostri anni 90 da cinema eventi se pensate che con l'aiuto del nostro direttore della fotografia Giuseppe Rotunno suo fedele collaboratore è stato capace senza effetti speciali di filmare in una sola inquadratura e grazie soltanto all'effetto delle luci la ghiacciante metamorfosi di Jack Nicholson in Wolf La belva è fuori e nel suo ultimo film che è del 2000 Da che pianeta vieni ha messo insieme con disinvoltura alieni e terrestri con una semplicità tecnica degna veramente dei grandi professionisti Figuriamoci se non sarebbe il regista ideale di un laureato numero due In questi anni ha fatto molte cose è stato anche produttore è stato il produttore per esempio di un film come Quel che resta del giorno confermando definitivamente le doti di un attore come Anthony Hopkins Nelle interviste lui dice sempre io ho fatto quasi tutto nella vita tranne un film che avrei voluto fare io e che invece ha fatto un altro ossessione di Lucchino Visconti domani sera parleremo di lui di Visconti e del grande romanzo che è dietro ad uno dei suoi film forse più belli Il Gatto Pardo a domani dunque alle 8 della sera su Radio 2 Mio padre ci ha insegnato ad apprezzare le cose che contavano il teatro la musica l'arte mia madre mi fece prendere lezioni di violoncello così Lucchino Visconti definiva il suo buon rapporto con i genitori un'infanzia privilegiata che ha contribuito a fare di lui un uomo e un artista altrettanto privilegiato era bello era ricco era aristocratico era di sinistra aveva talento sapeva fare tutto o quasi tutto il teatro l'opera il cinema naturalmente e in tutto quello che faceva c'era sempre un pizzico di scandalo un'idea di tradizione scandagliata scandagliata e spogliata dell'ipocrisia originaria a teatro nel 1945 porta in Italia per la prima volta lo scandaloso cocteau dei parenti terribili del resto ha vissuto a Parigi dove è diventato amico di Coco Chanel e ha fatto l'aiuto a Renoir naturalmente per tutto il dopoguerra sguazzerà come un pesce nell'acqua tra Tennessee Williams e Arthur Millers e i loro testi più famosi e chiacchierati non dimenticherà il suo amato Chekhov ma troverà lo scandalo che cerca quando nel 1960 a Milano metterà in scena la Rialda di Giovanni Testori con la fedele compagnia di Morelli e di Stoppa qui si tratta addirittura di spettacolo sceno e si va a processo le sue regie d'opera sono tutte memorabili ma la più memorabile di tutte è quella traviata del 55 direttore d'orchestra Carlo Maria Giulini con una callas iperrealistica che in scena si toglie una scarpa mentre intona l'aria più famosa mai visto una cosa simile nel Tempio della Lirica il suo debutto cinematografico è del 43 lui ha 37 anni che infatti è nato a Milano nel 1906 2 novembre giorno dei morti per il suo debutto al cinema sceglie un romanzo americano famoso il postino suona sempre due volte di James Cain ma lo sceneggia con due compagni di rigorosa militanza comunista Giuseppe De Santis futuro regista di Riso Amaro e Mario Alicata futuro dirigente del partito comunista italiano ne viene fuori un film eccezionale Ossessione dove tutte le sue prossime tematiche sono già lì infieri la passione devastante che porta alla rovina il culto del realismo la precisione nei dettagli il melò che si sposa con il rigore sociale secondo alcuni storici infatti il neorealismo italiano del dopoguerra non è nato con Roma città aperta ma due anni prima in quell'Ancona da bassa padana dove Massimo Girotti e Clara Calamai scorrazzano su un camion verso il loro tragico destino secondo uno scrittore come Alberto Arbasino Visconti non è stato altro che un grande ossessivo arredatore probabilmente è anche vero ma quel che è ancora più vero è che Lucchino Visconti figlio di una donna borghese e di un aristocratico cresciuto tra palcoscenici che odoravano di ottocento e di melodramma tra concretezze borghesi e sicurezze aristocratiche riesce a travasare nel suo moderno lavoro di cineasta ed intellettuale l'aria verdiana del secolo precedente il brivido dei grandi tradimenti il languore delle passioni la follia emotiva di quel che è stato il nostro grande melodramma italiano e Visconti lo interpreta al cinema con la passione viscerale di un Giuseppe Verdi nato all'epoca dei fratelli Lumière già nel 1960 subito dopo Rocco e i suoi fratelli aveva detto in un'intervista vorrei che sulla mia tomba fosse incisa questa epigrafe adorava Shakespeare Chekhov e Verdi e poi aggiungeva con un pizzico di cattiveria nella mia opera c'è sempre qualche tanfo di melodramma mi è stato rimproverato ma a me suona come un complimento fra i tanti film che ha fatto 18 per la precisione quello che più rappresenta probabilmente la personalità di Lucchino Visconti è il gatto pardo tratto dal romanzo di Tomasi di Lampedusa uscito nel 58 diventa film quattro anni dopo nel 1962 le riprese infatti hanno inizio esattamente il 4 di marzo di quell'anno in un tripudio di polemiche e di grandezza lui Visconti viene dal chiacchierato successo di Rocco e i suoi fratelli Goffredo Lombardo il produttore è l'uomo che in questi anni si impegna nella produzione di quasi tutti i film italiani del rinnovamento il film dei giovani Alain Delon è una stella in ascesa e Claudia Cardinale è un'angelica a dir poco perfetta manca il principe di Salina ma un grande attore americano Burt Lancaster dirà quasi subito di sì a questo punto però la vedova di Tomasi di Lampedusa un'aristocratica di origine lituana allieva di Freud e lei medesima psicanalista convoca il regista Visconti per fargli sapere che secondo lei l'idea di Burt Lancaster è pessima lei trova l'attore troppo americano troppo attore da western e gli dice sembra un cowboy appena sceso da cavallo lui non batte ciglio e risponde con un elegante metafora le racconta che da giovane prima di fare il cinema ha avuto una scuderia e ha scoperto che gli attori non sono altro che dei fantastici puro sangue nervosi e sensibilissimi vanno blanditi oppure strapazzati a seconda delle circostanze e dei momenti e con aria altrettanto principesca la invita a stare tranquilla e a fidarsi di lui aveva naturalmente ragione Visconti perché Burt Lancaster è uno dei più fantastici principi di Salina che si possa immaginare a Ciminna una località all'interno della Sicilia si ricostruisce la residenza estiva di Donna Fugata da Roma arrivano ogni giorno via aerea fiori freschi per arredare i saloni della residenza estiva se non arrivano Visconti si rifiuta di girare la grandiosa scena del ballo finale richiede ben 36 lunghi giorni di riprese anzi 36 lunghe notti perché siccome fa molto caldo girano di notte si aprirà con un valser inedito di Giuseppe Verdi nonostante la colonna sonora sia di Nino Rota e si chiuderà con la frase testamento del principe di Salina se vogliamo che tutto rimanga com'è bisogna che tutto cambi antirisorgimentale trasformista il gattopardo è il grande romanzo classico e anticlassico che non piaceva ai comunisti amici di Visconti una caricatura del risorgimento lo definisce Alicata lo sguardo nostalgico di un reazionario è l'opinione di Antonello Trombadori cosa racconta il gattopardo di così poco gradevole agli occhi e agli orecchi di quei militanti che credono nella storia come ad una marcia inarrestabile verso un progresso infinito il gattopardo prende avvio nel 1860 con lo sbarco dei Garibaldini a Marsala il vecchio principe di Salina Bert Lancaster appunto nonostante sia uno dei massimi rappresentanti dell'aristocrazia fondiaria e il custode della tradizione locale approva la decisione di suo nipote Tancredi Alain Delon di arruolarsi volontario con le camicie rosse di Garibaldi non solo la prova ma con l'annessione della Sicilia al regno sabaudo e l'avanzarsi di una nuova borghesia di arricchiti e di cafoni approverà anche il fidanzamento di Tancredi con Angelica figlia di quel capetto locale del nuovo corso l'orribile Calogero Sedara il magnifico Paolo Stoppa 824 salme di terra porterà in dote Angelica per celebrare un matrimonio blasonato che sancirà la nuova alleanza di interesse tra la borghesia e l'aristocrazia forse il futuro mondo dei Tancredi sicuramente non più quello del vecchio principe che in questo patto peraltro da lui stesso incoraggiato vede nascere il futuro trasformismo il cinico gioco della politica del far sì che tutto cambi perché tutto rimanga uguale in una scena ambientata a donna fugata alla risidenza estiva dei principi di Salina c'è forse la più bella scena d'amore del figlio bella perché l'ansia l'attesa dell'amore si vede Tancredi che torna a casa dopo una lunga assenza è notte una notte di tempesta e di scirocco lui corre verso l'interno e nella fuga prospettica della porta del salone appare un abito candido appena scosso dall'impedo della corsa è angelica una figura in movimento che freme che freme di passione corrono l'uno verso l'altro lui è bagnato di pioggia è sudato di emozione lei è sorridente e felice si morde un labbro si abbracciano il corpo la faccia il sorriso di Claudia Cardinale sono assolutamente perfetti lei è veramente la sensualità che si offre al desiderio nel 62 quando Claudia Cardinale interpreta il ruolo di angelica ha appena 23 anni ma ha già fatto dei grandi film i soliti ignoti i delfini la viaccia il bell'antonio la ragazza con la valigia Visconti l'ha già incrociata in rocco i suoi fratelli più che un ruolo era un cammeo dirà lei ma lei e Visconti hanno cominciato a conoscersi e a studiarsi lui dice state attenti a Claudia sembra una gatta che si fa carezzare sul divano ma attenzione da un momento all'altro può trasformarsi in una tigre lei si lascia domare molto volentieri lui le dice tutti i giorni ricordati che tutto il corpo recita non solo il viso recitano le braccia le gambe le spalle lui le dice gli occhi devono dire una cosa che la bocca smentisce devi separare il tuo viso in due lo sguardo è una cosa quello che dici un'altra lei esegue talmente bene gli ordini del suo maestro che arriva a poter persino controllare i muscoli del viso dividendolo in due parti questo esercizio è così intenso che le viene una ruga verticale al centro della fronte visconti ammira la sua volontà incrollabile e lui che fascinate a tutti con lei non alzerà mai la voce e lei timida e fedele gliene sarà grata per tutta la vita visconti è il mio vero e proprio padre artistico dirà ad Anna Maria Mori in un bel libro io Claudia tu Claudia dove non si sottrarrà al racconto della sua difficilissima maternità giovanile vissuta appena diciassettenne agli albori della sua carriera di attrice e costretta per ragioni umane e di contratto a nascondere e a negare se dovessi colorare quei primi anni della mia vita li colorerei di grigio anzi di nero lavoravo facevo film avevo successo ma dentro di me sentivo quel gomitolo annodato stretto come una palla di piombo che mi impediva di respirare di ridere di vivere quel gomitolo quella palla di piombo erano il senso di colpa di aver fatto un figlio senza padre di averlo cresciuto nell'inganno di essere un fratello minore di avergli detto la verità tardivamente solo quando lo scandalo giornalistico stava già per scoppiare drammi che segnano una vita dramma che ha segnato per sempre lo sguardo di un adolescente molto speciale molto speciale come lei trasformandola in un'attrice dal fascino tutto speciale un'attrice con la faccia florida di un adolescente e lo sguardo ferito di una donna vissuta un paio d'anni fa il regista Roberto Andò ha fatto un piccolo interessante film che si intitola Il manoscritto del principe dove si raccontano gli ultimi anni di vita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa lo scrittore è già malato sta lavorando all'ultima stesura del gatto pardo ed è molto legato a due giovani allievi Francesco Orlando che passerà diversi pomeriggi a battere a macchina il manoscritto del principe appunto e Gioacchino Lanza il nipote che prima di morire adotterà Il film racconta anche la rivalità fra i due ragazzi che si contendono la simpatia e la paternità dello scrittore uno è più mondano più brillante Gioacchino Lanza appunto più Tancredi l'altro Francesco forse ha più talento ma appartiene ad una classe sociale meno elevata ed è un po' condannato quello che conta nel racconto del film è che proprio Francesco sarà il primo lettore del gatto pardo il dattilografo con ambizioni letterarie che sarà inconsapevolmente il testimone della nascita di un capolavoro e lui stesso più o meno consapevolmente rinuncerà a scrivere a diventare scrittore sarà lui proprio Francesco a leggere a Tomasi di Lampedusa la lettera di Elio Vittorini che per conto della casa editrice in Audi respingerà il manoscritto al mittente il film è anche un perfetto commovente spaccato della Sicilia anni 50 dove Giuseppe Tomasi di Lampedusa un magnifico Michel Bouquet e sua moglie la vecchia psicanalista interpretata da Jean Moreau sembrano un po' idolenti custodi di un mondo in estinzione anche loro se volete principi di Salina cent'anni dopo il film si chiude prima della pubblicazione del libro che infatti uscirà soltanto un anno dopo la morte dello scrittore a pubblicarlo sarà Feltrinelli scrittori e intellettuali italiani a partire da Leonardo Sciascia accuseranno il romanzo di Tomasi di Lampedusa di disfattismo di amoralità di incapacità di approfondire la questione meridionale chiacchiere di una cultura ideologica puntualmente smentite dal successo non solo italiano del film e successo peraltro riconfermato pochi anni dopo dalla grandiosa lettura che ne farà Visconti soltanto un comunista aristocratico come lui ha scritto Alberto Moravia poteva con tanta sottigliezza dosare scetticismo e nostalgia sfumature prustiane alla Odette e Suan insieme a Mastro Don Gesualdo polemiche insomma tutte italiane che non hanno nulla a che vedere con la grandezza italiana di certi nostri connazionali e sicuramente Tomasi di Lampedusa e Visconti sono due di loro io per oggi ho terminato e vi do appuntamento a domani alle 8 della sera su Radio 2 il mio nome è Bond James Bond così usa presentarsi al pubblico e agli interlocutori il più famoso agente segreto del mondo l'agente 007 al servizio di sua maestà britannica e con licenza di uccidere secondo una scheda del personaggio scritta da Ian Fleming l'inventore di James Bond in occasione dell'uscita del romanzo si vive solo due volte James Bond sarebbe nato nel 1924 è figlio di una scozzese e di uno svizzero ha frequentato la prestigiosa scuola di Eton ma all'età di 15 anni è stato espulso perché ha tentato di sedurre una cameriera grazie a un collega del padre è stato assunto al ministero della difesa e nel dopoguerra ha messo al servizio segreto il resto è leggenda che passa dalla letteratura al cinema attraverso i film infatti abbiamo imparato che James Bond ha una cicatrice sulla guancia sinistra che il suo drink preferito è il martini vodka che è uno dei migliori tiratori della sezione doppio zero quella appunto degli agenti con licenza di uccidere abitualmente usa una beretta modello 418 calibro 635 presto però la sostituirà con una Walter PPK calibro 7 e 65 è un buon gustaio usa soltanto accessori firmati adora il consumismo e ignora totalmente i piaceri intellettuali come il teatro la musica le letture insomma è James Bond che al cinema ha avuto i volti di Sean Connery George Lazenby Roger Moore Timothy Dalton Pierce Brosnan a noi piace soprattutto ricordarlo col volto di Connery perché è stato il primo probabilmente perché ha fatto i film più leggendari forse anche più belli e poi perché invecchia bene con ironia e con intelligenza perciò ci fa piacere ricordarlo com'era bello giovane forte invincibile quando il 12 agosto del 1964 Jan Fleming l'autore di ben 14 romanzi sull'agente Bond morì all'improvviso per un attacco cardiaco a soli 56 anni sugli schermi di tutto il mondo stava per uscire il terzo film della serie 007 missione Goldfinger aveva faticato Fleming a far uscire dall'oscurità il suo agente segreto aveva lottato con produttori e sceneggiatori vinto e perso cause per lo sfruttamento dei suoi diritti cinematografici sin dal 1953 l'anno di uscita di Casino Royale e prima apparizione di James Bond nella letteratura di spionaggio Fleming aveva molto ben intuito le potenzialità cinematografiche della sua creatura ma lo scarso successo iniziale dei suoi libri e una pessima versione televisiva di Casino Royale ad opera della CBS misero fine a tutte le sue speranze e ai suoi sogni iniziali bisognerà aspettare il 1961 quando il neopresidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy durante un'intervista a Life farà l'elenco dei suoi dieci libri preferiti e in mezzo a Rosso e Nero di Stendhal a un Melville ci metterà dalla Russia con amore di Jan Fleming a quel punto le porte del successo si spalancheranno e il futuro non solo letterario ma anche cinematografico di James Bond sarà totalmente assicurato due giovani produttori dalle idee molto molto chiare Harry Salzman e Albert Broccoli comprano i diritti dei romanzi di Jan Fleming e da quel giorno in poi tutto correrà molto molto veloce è il 1961 l'anno successivo sarà l'anno del primo Bond agente 007 licenza di uccidere dicevamo prima che nel 1964 anno di morte di Jan Fleming l'inventore dell'agente segreto esce sugli schermi di tutto il mondo missione Goldfinger regia Guy Hamilton costo 4 milioni di dollari incasso 124 milioni di dollari un record assolutamente planetario ma rispetto ai due precedenti film vale a dire licenza di uccidere dalla Russia con amore che cosa ha di più e di meglio questo Goldfinger intanto ha una grande spregiudicatezza erotica per quel tempo ma anche per un film destinato a tutti vale a dire per un film non vietato per esempio c'è il personaggio della donna pilota che comanda la piccola flotta di Goldfinger ebbene questa qui è una stupenda omosessuale si chiama Pussy Gaylor un nome che in slang è molto molto più di un'allusione tant'è vero che a un certo punto lui Bond le chiede tu chi sei? e lei fa Pussy Gaylor e lui dice lo so ma com'è che ti chiami? insomma Pussy Gaylor è la bellissima Honor Blackman che per amore di Bond cambierà persino i suoi gusti e le sue tendenze sessuali e non è la sola perché nel film c'è anche la segretaria Jill Masterson quella famosa che morirà avvolta nella vernice dorata soffocata da quella luccicante perversa passione dell'oro infine e non è da poco insieme ai gadget che sono sempre più perfidi e sempre più sofisticati entra per la prima volta nel film la mitica Aston Martin che non è solo una macchina fantascientifica ma una vera e propria fortezza elettronica da rendere invulnerabile chiunque sia seduto al suo interno è dotata di targhe girevoli mitragliatrici incorporate gallettoni taglienti rostri respingenti scudo posteriore vetri blindati radar radiotelefono sedile eiettabile al suo interno nasconde una Smith & Wesson una 38 Special e una Mauser Machine Pistol ovviamente poi la storia è anche molto divertente ha un antagonista di tutto rispetto Goldfinger appunto interpretato da un magnifico attore tedesco Gerd Fröbe ma chi è questo Goldfinger ufficialmente è un commerciante internazionale di oro in realtà è un pericoloso megalomane con un progetto veramente da brivido vuole contaminare le riserve auree contenute nel deposito di Fort Knox il suo disegno apparentemente è semplice far scoppiare una minuscola bomba atomica all'interno della fortezza più controllata d'America secondo lui l'effetto di quello scoppio renderà radioattivi lingotti d'oro per i prossimi 98 anni e moltiplicherà per 10 il valore della sua riserva personale trasformandolo così nell'uomo più ricco del mondo naturalmente 007 viene inviato sul posto e sin dalle prime sequenze la guerra fra i due si annuncia alla grande se Goldfinger ha una Rolls Royce che si arrampica veloce lungo i tornanti a picco sul mare lui non ha problemi a seguirla la sua Aston Martin è dotata di un radar in grado di indicare su un piccolo schermo in tempo reale e senza possibilità di errori il percorso che il sorvegliato speciale sta compiendo nonostante tutto verrà preso e arrestato ma grazie alle donne che cascano ai suoi piedi come delle mosche ivi comprese le omosessuali James Bond riuscirà a fuggire dalla sua prigione e ad entrare da salvatore nella memorabile sequenza finale di Fort Knox una delle più spettacolari del film con tutti i soldati addormentati e lui impegnato a disinnescare la bomba che naturalmente sarà disinnescata 007 secondi prima dell'esplosione Shirley Bassey intona Goldfinger con la sua voce inconfondibile Ken Adam il geniale scenografo che ha ricostruito in studio Fort Knox riceve persino i complimenti del presidente degli Stati Uniti e Sean Connery è sempre più Bond appena acquistati i diritti di tutti i libri di Stanley i produttori Salzman e Broccoli si dedicarono innanzitutto alla ricerca dell'attore ideale il Daily Telegraph inizia una grande campagna pubblicitaria cominciano migliaia e migliaia di provini si tengono d'occhio però anche nomi famosi come Cary Grant James Mason Richard Burton ma alla fine vince lui lo sconosciutissimo Sean Connery perché cammina esattamente come Bond di Ryan Fleming che ha assistito al provino e così da un giorno all'altro il super sconosciuto Sean Connery si trova catapultato letteralmente nel mito finora ha fatto poco è nato a Edimburgo nel 1930 scozzese puro sangue è figlio di un operaio e di una domestica ha fatto il camionista il bagnino il lattaio il lucida bare ha praticato anche il bodybuilding e ha rappresentato la Scozia al concorso per l'elezione di Mister Universo è arrivato terzo in quell'occasione viene adocchiato e chiamato per un musical che si chiama South Pacific ci va di corsa e lì scopre i piaceri della professione dell'attore nel 1958 debutta il cinema un piccolo ruolo in un film con Lana Turner Estasi d'amore poi il terrore corre sul fiume l'anno successivo è un felice e appagato attore di serie B quando inaspettatamente arriva la licenza di uccidere ed è bingo ma lui non si lascia affatto travolgere dopo tre James Bond consecutivi coperto di gloria e di dollari Connery va a lavorare con Hitchcock nel 1965 fa Marni naturalmente non abbandona il suo fortunato 007 nello stesso anno infatti fa Thunderball operazione Tuono al sesto film della serie Bond una cascata di diamanti siamo ormai nel 1971 decide di chiudere vuole dimostrare di essere un attore nel vero e proprio senso della parola e fa un sacco di film l'uomo che volle farsi re assassino sull'Oriente Express il vento il leone eccetera eccetera la critica non lo ama ma lui li aspetta tutti al varco sarà un meraviglioso Guglielmo di Baskerville nel nome della rosa di Annou tratto dal nostro Umberto Eco e avrà l'Oscar come miglior attore non protagonista per quel meraviglioso ruolo di poliziotto irlandese negli intoccabili di Brian De Palma ormai non è più giovane e per gioco solo per gioco sarà ancora per la settima e ultima volta James Bond nel 1983 con mai dire mai porta ormai il parrucchino passa parecchie ore al trucco ma alle donne piace ancora di più a quasi 70 anni viene eletto l'uomo più sexy del mondo ha i capelli radi la barba i baffi bianchi pesa un centinaio di chili anche se ben portati perché è alto un metro e 95 dicono che sia manesco con le donne e che molto spesso gli scappi qualche schiaffo la sua seconda moglie con la quale vive da 24 anni smentisce con la passione di una moglie ideale e perfetta eppure nel 1998 Tony Blair si oppose alla sua nomina a Sir con la seguente motivazione maschilista e evasore fiscale vero è che pur di sfuggire al rapace fisco inglese ha preso residenza in Spagna ma ancora più vero è che da anni si batte per l'indipendenza della Scozia dall'Inghilterra anzi è uno dei maggiori finanziatori del partito indipendentista scozzese al quale versa ogni mese 4.800 sterline circa 15 milioni di lire italiane nonostante ciò la regina Elisabetta con grande e inglese fair play l'anno scorso l'ha fatto sir e lui si è presentato a ritirare il titolo in gonnellino scozzese e con tatuaggio sul braccio con tanto di scritta Scotland Forever vero autentico James Bond in pensione sarebbe molto piaciuto a Jan Fleming un paio d'anni fa nel corso di un'asta organizzata da Christie Salongra il bikini bianco indossato da Ursula Anders nel primo James Bond è stato venduto per 130 milioni di lire licenza di uccidere è del 1962 e Ursula Anders rimane a distanza di 40 anni la prima e più mitica Bond girl della storia cinematografica dell'agente segreto in questi 40 anni sono stati girati 19 film su James Bond di cui 7 interpretati da Sean Connery uno da George Lazenby e gli altri via via da Roger Moore Timothy Dalton e Pierce Brosnan ma non è finita qui proprio in queste settimane negli studios inglesi di Pinewood dove è stato ricostruito un gigantesco castello di ghiaccio si sta girando il ventesimo Bond protagonista Pierce Brosnan titolo Behind the Ice oltre il ghiaccio la produttrice è Barbara Broccoli figlia del mitico Albert dopo l'11 settembre ha detto Barbara Broccoli in conferenza stampa tutti mi fermano per strada e mi dicono il mondo avrebbe davvero bisogno del tuo 007 per sconfiggere il terrorismo Corea del Sud Hong Kong Cuba Islanda Inghilterra questi i posti dove sarà ambientata la più classica storia di spionaggio e terrorismo in una saga di caccia al più cattivo e sfida al peggiore mai tanto attuale quanto ai nostri giorni in effetti se proviamo a pensare alla vecchia Spectre di tanti 007 che in un film vuole terrorizzare l'umanità con armi batteriologiche in un altro vuole sabotare navicelle spaziali o altre diavolerie del genere sarebbe oggi come oggi tutt'altro che irreale immaginare un Bond alle prese con una Spectre in stile Al-Qaeda o un Goldfinger molto molto vicino a Bin Laden persino Sean Connery che in passato era stato polemico con il personaggio che gli aveva dato la fama e la ricchezza ha detto sono certo che per le nuove generazioni saprà ancora accorciare le distanze fra la realtà e il sogno del resto dice Connery Bond è sopravvissuto a tutto al mio abbandono agli effetti speciali all'eccesso di controfigure continuerà sono sicuro a sopravvivere del resto perché non dovrebbe la sua grandiosa infantile onnipotenza ci mette molta allegria e ci tranquillizza e ci dà sicurezza lui è l'uomo che ci promette di riportare ordine e giustizia un minuto prima anzi 007 secondi prima che il caos e l'ingiustizia ci travolgano e non sottovalutatelo 007 mantiene sempre le sue promesse aspettando dunque il ventesimo Bond io vi saluto e vi do appuntamento a domani sera alle 8 della sera su Radio 2 se c'è un film che anticipa fotografa mette a fuoco il più vistoso e universale problema sociale della gioventù degli anni 80 è proprio questo disco music paso doble giovani che il sabato sera perdono la testa e vogliono a tutti i costi il loro momento di gloria è la febbre del sabato sera il più azzeccato preciso e riuscito film sul fenomeno dei giovani che cercano in discoteca e sulla pista da ballo il loro riscatto psicologico e sociale naturalmente John Travolta il protagonista rivelazione di questo film rivelazione è il loro re indiscusso il guru in giacca bianca di tutto il popolo delle discoteche suscita fenomeni di emulazione che con un efficace e simpatico neologismo la stampa definisce travoltismo un travoltismo che dilaga che si espande da Brooklyn a Manhattan da Londra a Roma migliaia milioni di travoltini ogni sabato notte si vestono come lui si pettinano e si cotonano i capelli come lui e come lui fanno il giro delle discoteche per tirare l'alba in cerca di gloria forse non è un caso che un film così preciso su un fenomeno di costume così autentico e universale sia nato non da un soggetto né da un romanzo ma da una semplice ben fatta inchiesta giornalistica Nick Kohn era un giornalista inglese che lavorava per il New York Magazine e nel 1976 stava realizzando proprio a Brooklyn un servizio sulla violenza nel quartiere lo accompagnava e gli faceva da guida un ballerino di black disco a un certo punto racconta proprio Kohn passando davanti all'insegna di un nightclub il 2001 fui attratto da un gruppo di teenagers che faceva la fila per entrare e fra loro c'era un giovane vestito in giacca e cravatta che aveva tutta l'aria di essere il loro capo quella scena lo incuriosisce e invece di proseguire con la sua inchiesta sulla violenza sposta l'attenzione sul fenomeno dei giovani su quelle tribù giovanili come dice lui stesso che nella mega discoteca ricreano i moderni riti del gruppo soprattutto la sua indagine si focalizza sui ragazzi di umile estrazione sociale sui ragazzi che abitano tra Brooklyn ed intorni l'articolo esce colpisce la fantasia di un leggendario produttore di musical e di film Robert Stigwood infatti sarà lui il vero padre spirituale del fenomeno febbre Stigwood è un australiano che vive in America e ha già prodotto dei film come Jesus Christ Superstar Serpico Tommy più tardi sarà ancora il produttore di Grease di Staying Alive di Evita Stigwood legge questo articolo di giornale e capisce al volo che quell'argomento potrebbe essere un magnifico tema per un film chiama al telefono il giornalista si incontrano si conoscono si parlano si accordano Con butta giù un piccolo soggetto Stigwood chiama un grande sceneggiatore Norman Wexler l'autore di Serpico e gli fa inventare un plot da inserire in questo perfetto fondale bruclinese e così nasce la prima stesura di Saturday Night Fever poi vengono i Bee Gees che sono peraltro sotto contratto con lui anzi è proprio Stigwood che li ha ripescati a metà degli anni 70 e li ha rilanciati sul mercato quindi con le canzoni dei Bee Gees il copione di Wexler un regista esordiente che ha fatto gavetta con Spielberg e la salunga c'è ormai quasi tutto manca solo Tony Manero ma come ben sappiamo è in arrivo John Travolta un magnifico italo-americano di broccolino ed è subito Saturday Night Fever nella sua stanza da letto collezione i poster del cuore Bruce Lee alpacino serpico stallone Rocky ha un fratello prete in crisi di vocazione un amico del cuore depresso e inascoltato una ragazza che lo ama ma non abbastanza da fargli palpitare il cuore insomma una vita piena di difficoltà e di dispiaceri per fortuna che a Brooklyn c'è la 2001 la discoteca dei suoi sogni per fortuna che in quella discoteca c'è una giovane e simpatica impiegata con la quale fare coppia in una sfrenata gara da ballo e quando arriva il sabato sera Tony Manero mette sul suo completone bianco e va pantaloni rigorosamente a zampa di elefante molto ben stretti in vita camicia col colletto a punta generosissimamente sbottonata per evidenziare petto villoso e catena d'oro scarpe coi tacchi capelli spazzolati e cotonati a dovere camminata da molleggiato e via andare andare dove a ballare 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 come in tutti i drammi che sconfinano nel melodramma anche qui anche nella febbre del sabato sera ci sarà naturalmente la tragedia terapeutica l'amico del cuore precipita giù dal ponte di Brooklyn simbolica e reale demarcazione tra quella povertà senza futuro e le mille luci di Manhattan e naturalmente la realtà crudele e inaspettata aprirà al protagonista gli occhi sulla sua prossima vicina felicità cose che naturalmente succedono solo al cinema però anche proprio e non solo per questo il successo è immediato e leggendario la magistrale colonna sonora dei Bee Gees autori dei brani leggendari Night Fever Stayin' Alive More Than A Woman How Deep Is Your Love diventa il must di un'intera generazione i fratelli Gibb con la voce in falsetto di Robin e Barry e Maurice che fanno il controcanto con le loro melodie orecchiabili e quei ritmi funk diventeranno a tutti gli effetti i veri e propri padri della disco music ma ancora più interessante è il fenomeno imitativo che il film suscita tutti vogliono essere John Travolta tutti vogliono fare un film che orecchi la trama della febbre del sabato sera soltanto in Italia tra il 78 e l'81 si fanno ben sette film ispirati al Travolta Style il capostipite si chiama American Fever di Claudio De Molinis poi viene Rock and Roll di Vittorio De Sisti seguono Brillantina Rock Disco Delirio Baila Guapa infine il semi esordiente Neri Parenti futuro brillante regista dei film di Natale farà un film così intitolato John Travolto da un insolito destino insomma se in un bel film di Sidney Pollack del 1969 che si intitolava Non si uccidono così anche i cavalli si raccontava di un gruppo di uomini e donne che nel 1931 in piena depressione cercano di guadagnare i 1500 dollari in palio per una maratona di danza e dopo mille ore di gara decidono di mollare metaforizzando così l'infelice destino di ognuno qui non ci sono metafore né ricerca di senso quell'imperativo di quel bel vecchio film ballare 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 a costo di morire è invece qui il solo allegro modo di dare un senso alla vita gli anni 80 con questo film si inaugurano veramente alla grande che aveva fatto John Travolta prima di approdare alla febbre del sabato sera poco pochissimo quasi niente nato il 18 di febbraio del 1954 a Eaglewood New Jersey da una famiglia metà irlandese e metà italiana pessimo studente a 16 anni viene cacciato da scuola e grazie a mamma Helen indulgente e piena di fiducia in lui viene iscritto alla scuola di danza e di recitazione si trasferisce poi a New York dove comincia a lavorare prima nella pubblicità e poi fa qualche piccola apparizione in tv finché nel 1975 raggiunge una certa popolarità nazionale con il ruolo di Vinnie Barbarini un ragazzo difficile di una scuola di Brooklyn nel serial televisivo Welcome Back Cotter nello stesso anno va a Hollywood e ha una particina in un film che si chiama Il Maligno un horror con un cast di vecchie glorie Ernest Bornine e Aida Lupino l'anno successivo il 1976 inizia molto molto bene per lui incontra Brian De Palma che gli fa fare uno di quei perfidi compagni di scuola di Kerry la Sissy Spacek lo sguardo di Satana a quel punto gli occhi di Stigwood che sta preparando la febbre del sabato sera si posano su di lui viene chiamato per un provino oltre a recitare sa ballare abbastanza bene e canta anche discretamente è quasi italiano come Tony Manero ha uno sguardo che sprizza energia una giovialità tutta italo-americana dei mascelloni larghi e generosi da proletario che non si tira affatto indietro soprattutto ha una bellissima fossetta in mezzo al mento che seduce tutte le ragazze insomma è Tony Manero che spara l'indice verso il cielo in mezzo a luci stroboscopiche e musica sfrenata dopo il successo a dir poco planetario replica immediatamente con il personaggio di Denizuko ed è il film Grease ambientato negli anni 50 Grease falleva non soltanto sul tema del ballo di cui racconta peraltro la storia di una squadra di studenti ballerini ma falleva soprattutto sul tema della nostalgia vengono poi Urban Cowboy Blowout di Brian De Palma ma non ripetono affatto il successo dei due film precedenti del resto Travolta è famoso per non avere alcun fiuto nel saper scegliere i suoi progetti nei primi anni 80 è al culmine del suo successo è ricco si è appena comprato un mega ranch nella Carolina del Nord ha tre aerei privati un Learjet un Gulf Stream e un British Vampire li pilota tutti e tre lui è ricchissimo famoso può fare quello che vuole e invece rifiuta i copioni di tre film clamorosi American Gigolo che farà il successo di Richard Gere Il padrino parte terza e Ufficiale Gentiluomo del resto lo ammette lui stesso prima di accettare dei progetti di lavoro dice sono sempre pieno di dubbi e di resistenze e così per via delle sue reticenze e dei suoi dubbi proprio mentre è al culmine del successo infila una serie di fiaschi uno dopo l'altro che lo fanno uscire dal grande mercato finché vanno malissimo come due come noi Perfect That's Dancing Basement vari altri ritorno al successo soltanto nell'89 consenti chi parla numero uno ma la vera e propria rivincita arriverà nel 94 che si chiama Pulp Fiction Tarantino lo coglie in grande crisi gli propone quel ruolo di Vincent Vega un killer un po' grassoccio imbottito di eroina invecchiato gli offre per questo ruolo 150.000 dollari accetta il volo e il suo ritorno al mito è assicurato la scena con Uma Thurman durante la quale balla il twist in calzini e fa il verso a se stesso e a Tony Manero lo riporterà immediatamente in cima alle classifiche dopo il film che aveva fatto per 150.000 dollari vale 20 milioni di dollari di Pulp Fiction e di Tarantino Travolta dice è stato un momento di ringiovanimento della mia carriera lavorerei in qualunque momento con lui è il mio eroe di recente John Travolta è andato in Australia e ha scoperto di avere orde di ammiratrici isteriche e impazzite per lui non per via di Pulp Fiction e nemmeno per i suoi film più recenti tipo Face Off o Welcome to Hollywood ma ragazzine che a distanza di 25 e più anni dalla febbre del sabato sere ancora si sentono e sono le fans di Tony Manero lui se la spiega così dice infatti Travolta dai due anni in poi chiunque mi riconosce e mi conosce come Tony Manero in effetti non solo in Australia ma ovunque nel mondo il successo di quel film e di quel personaggio è un successo che non muore e che non invecchia fino ad oggi ha incassato più di un miliardo e mezzo di dollari una cifra davvero e proprio capogiro e nelle versioni musical continua a girare il mondo facendo del film e delle sue canzoni un vero e proprio evergreen in questi mesi per esempio è in scena a Milano sotto l'attenta amministrazione di Stigwood che concede i diritti di messa in scena con oculata accortezza e non prima di aver verificato professionalità e bravura delle equip la febbre del sabato sera italiana ha la regia di un esperto regista di musical di casa nostra si chiama Massimo Romeo Piparo e le coreografie sono di Jaime Rogers che da ragazzo fu il personaggio di Kino il mitico West Side Story sotto la guida di Jerome Robbins la moda dei musical dilaga dall'America e dall'Inghilterra arriva anche in Francia e poi da noi film come Jesus Christ Superstar Grease Staying Alive Saturday Night Fever appunto diventano degli spettacoli di teatro e sopra ognuno di questi fenomeni veglia il grande patron Robert Stigwood lui che ha prodotto tutti questi film che abbiamo citato e su tutti ha il potere di veto e il pieno controllo sia artistico che economico come i vecchi tycoon di una volta Stigwood è proprio quella figura di impresario produttore spregiudicato e coraggioso che quando sposa un'idea e la fa propria fino in fondo rischia anche fino in fondo il caso di febbre del sabato sera è forse il caso più clamoroso prende un articolo di giornale lo trasforma in una buona sceneggiatura ingaggia un regista esordiente John Badham e lo fa diventare un fior di professionista non dimentichiamo che John Badham sarà il futuro regista di Tuono Blu e di Wargame crede in uno sconosciuto come Travolta e gli fa fare il protagonista per non parlare poi dei Bee Gees che continuano a incassare ancora oggi il diritto d'autore grazie alle versioni teatrali realizzate ormai in mezzo mondo da Adelaide Australia dove è nato e torna ormai quasi sempre dice Robert Stigwood in questo mestiere non bisogna mai chiedere consigli se ti guardi intorno puoi capire benissimo da solo l'aria che tirerà domani ha mai sbagliato? gli ha chiesto il giornalista non saprei gli errori li dimentico subito forse per questo è diventato molto molto ricco ma ancora più ricco coraggioso e megalomane è l'uomo che realizzerà il film con il quale ci congederemo da voi domani sera Titanic la più impossibile delle imprese cinematografiche non mancate al nostro ultimo appuntamento a domani dunque alle 8 della sera su Radio 2 è l'ultimo film evento della storia del cinema il film di tutti i primati il film che spiazza per la sua megalomania la sua planetaria campagna pubblicitaria i suoi effetti speciali la sua perfetta grandezza è Titanic anno 1997 5 anni di ricerca per mettere a punto la storia 7 mesi di riprese lavorando ininterrottamente domeniche comprese 350 miliardi di costo il film più caro di tutta la storia del cinema 70 miliardi di sforo rispetto al preventivo iniziale 8 miliardi solo per il prologo vale a dire per le riprese sottomarine relative al relitto del vero Titanic che hanno richiesto ben 12 discese sul fondo dell'oceano tutte fatte personalmente dalla regista Cameron che è un famoso sub durata del film 3 ore 20 effetti scenografici ricostruiti al computer così perfetti da riuscire a rendere realissime le scene più salienti e irreali del film una canzone cantata da Céline Dion My Heart Will Go On in testa tutte le classifiche mondiali maggior incasso in assoluto anche se gli manca il primato degli spettatori 11 Oscar alla pari con Ben Hur alla fine del 98 dopo poco più di un anno di sfruttamento gli incassi legati all'intero progetto vale a dire botteghino videocassette compact disc diritti televisivi eccetera eccetera ammontano a 3,2 miliardi di dollari circa 5.000 miliardi di lire la videocassetta è stata distribuita in 30 milioni di coppie 61 paesi 25 lingue che altro aggiungere di un film il cui lancio pubblicitario ha detto già tutto e più di tutto divertendosi persino ad elencare i propri errori e le proprie omissioni non solo facendo dei propri errori e delle proprie omissioni un'ulteriore fonte di guadagno ancora oggi c'è un sito internet dove si è invitati ad elencare tutte le incongruenze del film l'elenco già lunghissimo si aggiorna continuamente per esempio c'è uno spettatore che ha rivisto il film in cassetta per la quinta volta e si domanda come sia possibile che alla fine del naufragio dopo quel grandioso tuffo nell'acqua dei due protagonisti Rose abbarbicata la tavola di legno in mezzo a quell'oceano abbia ancora le scarpe nei piedi un altro si chiede che fine hanno fatto tutti quei cani almeno una trentina che si vedono salire sulla nave all'inizio del film e poi spariscono spariscono non riappaiono mai più nemmeno durante le scene drammatiche del naufragio forse sono stati tagliati in montaggio per una questione di durata diciamo noi per qualche ragione di buon senso ma gli insaziabili spettatori di Titanic non si arrendono uno per esempio segnala che il dipinto di Claude Monet l'eninfea dipinto che compare nel film è del 1916 mentre come ben sappiamo la storia si svolge nel 12 un altro ci assicura che la torcia della statua della libertà fu accesa soltanto negli anni 50 c'è addirittura chi ha visto il volto l'effigie di Roosevelt presidente degli Stati Uniti venti anni dopo il naufragio sulla monetina che Rose regala a Jack chi giura per esempio che i bottoni di ottone del comandante della nave sono datati 1922 e sembra persino che nel cielo notturno del 1912 appaiano le luci di un aereo di linea in atterraggio insomma il Titanic dei primati non solo raggiunge anche il primato degli errori ma grazie ai suoi errori continua a fare business spronando ragazzi adulti a comprare cassette dvd e quant'altro per scovare errori sempre più nuovi e sempre più clamorosi e intanto i proventi continuano a lievitare la vera storia del tragico naufragio del Titanic è lo sfondo storico sul quale si snoda la trama del film che invece tutta inventata e reinventata costruita con l'ambizione di essere la più bella la più veloce la più grande la più sicura e inaffondabile nave del mondo il Titanic quello vero era lungo 269 metri pesava 48.000 tonnellate aveva una velocità massima di 23 nodi e poteva trasportare 45.000 tonnellate di peso per il suo viaggio inaugurale i biglietti di prima classe costavano l'equivalente di 217 milioni di lire italiane di oggi e quelli di terza all'incirca 2.300.000 lire di oggi si salpa da Southampton Inghilterra il 10 aprile del 1912 destinazione New York a bordo ci sono 2.223 passeggeri alle 23.40 di domenica 14 aprile la nave si scontra con un iceberg che apre uno squarcio di 90 metri nella sua fiancata a inizio una lenta e drammatica odissea le scialupe di salvataggio possono ospitare soltanto 700 passeggeri viene data la priorità a quelli di prima e di seconda classe anzi l'equipaggio addirittura sbarra le porte ai passeggeri di terza che tentano di salire sul ponte per mettersi in salvo solo il 23% delle persone imbarcate riescono a salvarsi per la precisione 705 passeggeri tutti gli altri 1500 e più affonderanno insieme alla nave a largo di Terranova nella notte del 15 aprile del 1912 il film invece si apre ai giorni nostri con un cercatore di tesori Brock Lovett che è riuscito a raggiungere il relitto della nave depositato a 4000 metri di profondità ha riportato in superficie la cassaforte del Titanic che secondo cause legali che si trascinano tra le compagnie di assicurazioni e i parenti dei defunti da quasi un secolo dovrebbe contenere i gioielli e i diamanti più belli del mondo tra cui il famoso e mai visto cuore dell'oceano invece nella cassaforte c'è soltanto il ritratto di una ragazza nuda che indossa il famoso gioiello Brock Lovett ammette in diretta televisiva la sua sconfitta ma subito dopo riceve la strana inattesa e piacevole telefonata di una vecchia signora una sopravvissuta che afferma di essere lei la ragazza del ritratto e così comincia finalmente il film con la vecchia signora che ce lo racconta passo dopo passo rievocando la sfortunata crociera inaugurale del Titanic e soprattutto la sua meravigliosa storia d'amore con il bel pittore squadrinato lei da giovane è Kate Winslet Jack il pittore spiantato e romantico è naturalmente Leonardo Di Caprio lui si è imbarcato perché ha vinto a poker un biglietto di terza classe e spera di andare in America a fare fortuna lei invece è una aristocratica in viaggio con mamma e promesso sposo erede peraltro di un'immensa fortuna lei e lui naturalmente si innamorano e il loro amore come quello di due moderni Romeo e Giulietta viene ostacolato dalle regole sociali e dal futuro ormai segnato della giovane aristocratica indomita e innamorata Rose sfida tutti i dinieghi familiari ma il destino malvagio si mette di traverso l'iceberg imprevisto il naufragio le difficoltà di mettersi in salvo trascineranno lei e il suo grande amore su quella traballante tavola di legno in mezzo a tutti quei morti galleggianti e lui lui prima di trasformarsi in un biondo cubetto di ghiaccio le dirà che è felice di stare insieme a lei poi si inabbisserà quasi subito rigido come un manichino lei invece riuscirà a mettersi in salvo per raccontarci la sua avventura e per dirci che bisogna vivere seguendo i dettami e gli impulsi del proprio cuore dando sfogo all'unica cosa che conta i sentimenti naturalmente il fenomeno dei fenomeni non è solo il film non è solo il successo e gli incassi del film il fenomeno dei fenomeni è lui Leonardo Di Caprio anche lui si annuncia mito prima ancora della nascita la leggenda vuole che la sua mamma incinta di lui naturalmente e in visita turistica nella galleria degli uffizi a Firenze colpita da un dipinto di Leonardo da Vinci si sia attardata ad ammirarne la composizione a quel punto la futura creatura che stava nella sua pancia ha cominciato a dare in escandescenze e a scalciare in un modo così violento e così evidente che la madre testimoni peraltro molti altri turisti pur di tacitarlo si è lasciata sfuggire una promessa va bene se la smetti ti chiameremo Leonardo e così a gita italiana terminata Leonardo Di Caprio nasce a Los Angeles l'11 novembre del 1974 e la sua mamma mantiene la promessa chiamandolo Leonardo Leonardo ovviamente la sua infanzia è travagliata e infelice i genitori si separano presto lui va a vivere con la madre nei soborghi di Los Angeles e hanno molte molte difficoltà economiche da bambino lui appare in piccoli show televisivi tanto per aiutare la mamma a far quadrare i conti che non quadrano mai ottiene un ruolo in una serie tv Growing Pains dove fa la parte di Luke un senza tetto ma la sua prova è abbastanza mediocre e non lo nota nessuno però è carino è tormentato forse un po' gay ha una faccetta angelica che piace sia alle mamme che ai figli sa essere maleducato quel tanto che basta per avere un che di maledetto di modi che fa subito pensare a James Dean e a certi ribelli senza causa del giorno d'oggi e anche se non si capisce se è o non è un bravo attore ha di sicuro la stoffa del divo e questo conta tant'è vero che quando nel 1993 nemmeno ventenne partecipa ad un bel film di Lasse Hallstrom Buon compleanno Mr. Grape dove fa il ruolo del fratello ritardato di un altro attore rivelazione Johnny Depp sarà subito candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista e da lì in poi tutto filerà liscio come l'olio sarà Rambo in Poeti all'Inferno soprattutto sarà il bianco Wasp Romeo che si innamora di una Giulietta latinoamericana in una Los Angeles sconvolta dalle lotte razziali è Romeo Plus Jaliet di Booz Lurman futuro regista peraltro di Moulin Rouge una specie di Jesus Christ superstar in versione adrenalina quasi un musical ma con dei testi rigorosamente shakespeariani quel film del 96 farà di DiCaprio l'idolo assoluto dei giovani di tutto il mondo è ormai maturo per Titanic anche se quel ruolo di Jack se lo deve sudare per assicurarselo deve aspettare il rifiuto di Brad Pitt e gli esiti negativi dei provini fatti a Chris O'Donnell e Matthew McConnor ma alla fine Jack Dawson sarà lui e sarà perfetto alla grinta del povero che vuole fare carriera il fisico romantico del primatore la megalomania sufficiente a fargli gridare dal ponte del Titanic in una inquadratura circolare che lo consacrerà al mito sono il re del mondo però nessun Oscar per lui nonostante le undici statuette al film ma la leggenda di DiCaprio è assicurata e a tenerla in vita ci pensa lui personalmente fracassa locali notturni quando lo disturbano getta sterco di cavallo in faccia ai paparazzi che lo inseguono guida una BMW coupé tutta argentata e infrange volentieri qualunque limite di velocità viene a Roma come ai bei tempi della Hollywood sul Tevere a girare un altro film monstro di prossima uscita Gangs of New York di Martin Scorsese e si innamora della pasta asciutta mettendo su dieci chili insomma è Leonardo DiCaprio nemmeno trentenne vivo esemplare ai tempi di internet e di chatline lui è il simbolo vivente del ragazzo che non hai e non potrai mai avere però puoi sempre raggiungerlo con un sms o con un email Titanic non sarebbe mai esistito se non esistesse un uomo un tipo chiamato James Cameron l'uomo il cui motto è rischiare e vincere un mostro di capacità organizzativa e tecnologica un regista che diventa se non il re del mondo come fa dire a DiCaprio nel suo film sicuramente il re di Hollywood dello show business canadese canadese nato nel 1954 inizia la sua scalata verso il successo come camionista poi diventa costruttore di modellini e infine entra nella società di Roger Corman come direttore artistico di film come Piragna numero 2 e Rambo II nel 1984 è già regista e sceneggiatore di Terminator numero 1 un budget relativamente basso 6 milioni di dollari ne incassa 80 Schwarzenegger dice di lui sul set è come un'enciclopedia tecnologica se una ripresa è di mezzo pollice diversa da come l'ha immaginata diventa pazzo è pazzo tutti lo temono alla fama di schiavista e di tiranno in Terminator numero 2 usa contemporaneamente 9 macchine da presa e cura personalmente tutti gli effetti digitali del film costo 100 milioni di dollari incasso 500 in True Lies affitta due jet della marina a decollo verticale Harrier pagandoli ben 20 mila dollari l'ora di affitto è l'unico regista al mondo che ha osato sfidare il grande Ridley Scott girando il seguito di Alien Alien scontro finale 25 milioni di costo 350 di incassi inventare per stupire è un altro dei suoi celebri motti guida soltanto automobili superpotenti è un esperto subacqueo e pilota aerei superleggeri chi se non lui poteva affrontare un'impresa come quella del Titanic è stato un lavoro di pura passione ha detto Cameron il mio scopo era trasmettere al pubblico contemporaneo l'emozione autentica di quella immane tragedia per farlo possiamo senz'altro dire che non si è risparmiato davvero nulla è uno dei rari uomini di cinema che perpetuano il principio del regista come Faber ha scritto un critico americano e ha aggiunto Titanic è una sorta di niciano tentativo di creare al di sopra di sé insomma l'onnipotenza assoluta aggiungiamo noi che sposata alla supertecnologia e al marketing ci propone in una nuova sofisticata confezione quello che già sappiamo è esattamente il colossal postmoderno per questo Titanic ci piace perché è il primo colossal della nostra postmodernità cinematografica finisce qui abbiamo lasciato indietro molti film molte storie molti attori che non abbiamo avuto il tempo di farvi conoscere di farvi amare sarà per un'altra volta per il momento io mi congedo da voi augurandovi buona serata e buon weekend